Siamo proprio a 10 metri dalla stazione centrale. Ci sono state tantissime realtà alberghiere veloci, quindi tantissimi turisti gravitano in questa via, soprattutto via Gluc, via Zuretti, via Edolo, quindi veramente entrano dentro a domandarci dove abitava, dove è cresciuta e nata l'erba, quindi questo è proprio il posto giusto. E ovviamente dalla canzone uno immagina, perché è chiaro, anch'io prima di conoscerla si parla di periferia, perché allora era periferia, oggi è Milano, oggi è centro, pieno centro di Milano. Quindi tu mi dicevi giustamente, non parliamo solo delle cose negative, parliamo anche quello di buono che già si è fatto. Esempio, me lo ricordo, c'era un Vespasiano lì. Sì, qui proprio all'incrocio tra via Gluc e via Lelunigiana, tra il 2013 e il 2014, quando noi siamo arrivati qui col bar, c'era un Vespasiano verde e in collaborazione col Comune di Milano, la nostra collaborazione, Bar Gluc, Comitato Parcheggi e il FAS, abbiamo insistito e lavorato affinché nascesse... Grazie. 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 Mi senti? Sì. ok, riuscite adesso viene su anche Johnny vi do una mano ad allargare un po' te e tua mamma un po' più distanti certo, si, aspetta spostati spostala un po' se per caso non trovate il telecomando lo guardiamo sull'iPad ah ok uno, due, tre, quattro a lei vero? sì, troppo ah già la scala signor queste sì abbiamo tre bocci di champagne dopo per la nottata chi non c'è? no, ti ricomando sei riuscita a svuotarle? sì, sì ah, bravo quella questa la mia qual è? ok ok poi Massimo Massimo insieme mai? sì non troviamo il telecomando no, è notta che partiamo dimmi dov'è sì che partiamo qui Grazie a tutti. 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 per dirvi per dirvi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. quando una persona, di noi viene al mondo, non chiudessi, e che gli occhi, nessuno di noi, andiamo lavorarci, e perché mi chiamo, perché non c'era, perché non c'era, durante le 100 ore, e non avevamo, anziché, e scrivimi su Instagram, grazie a tutti, quello che vi, vai, bene, bene, io, ecco, io, ecco, ma questo, ti ho mai raccontato, quindi, niente, perché, perché, questo, questo lo racconto, faccio, faccio, perché lo voglio io, e iniziamo, e lei, e lei mi dice, con me, due, è una cosa, è una cosa, se voi, se voi, se voi, se voi, e l'avete, lavorato, e quando, quindi, cuantano, quindi, guardia, e lei, si, cioè, Ma, you, hai, ugly, So, se, come si разные, mi sono entrato, mi sono senso, gratt迎, ag researchers, ore, ma,gal,emi, era ummetto, ummetto, ummetto. Blu. Prima però di comprare la 500 blu io truccavo i morti, i morti alla camera mortuaria di Bologna, ok? Allora, ragazzi, la mia vita, faccio un libro, fai un'enciclopedia. Vabbè, ma non è quello. Ogni vita, secondo me, potrebbe essere un libro. Ogni vita, ognuno di noi potrebbe fare un libro. La nostra probabilmente potrebbe essere un'enciclopedia. L'enciclopedia, ovviamente, però... Io veramente ci tengo che voi state con me, con lei, in questo corso che noi faremo, perché veramente vi voglio insegnare... Allora, voi avete mai pensato che l'incontro con una persona vi possa aver cambiato la vita? Sì. Allora, a volte basta... È sempre così. Una cena, ti cambia la vita, perché magari da quella cena vi sposate, da quella cena concludete l'affare più importante. Scusatevi però per la cena. No, quello per carità. Però per dire, concludete l'affare più importante della vostra vita? In quella cena, magari... Io dico per dire una cena, un incontro per strada, una casualità, uno scontro di carrelli al supermercato, un'uscita... Qualunque cosa. Qualunque cosa. la vita ve la può aver cambiato l'incontro con una persona. Io sono certa che per molti di voi, partecipando al corso che faremo noi, per moltissimi di voi la vita cambierà. In primis, perché ve lo spiego subito, i più bravi lavoreranno con me. Di conseguenza già la vita vi è cambiata, perché voi arrivate un po' da sfigatelli, perché, lo so, ho partecipato a volte a dei corsi in amicizia, perché non ho mai partecipato perché volessi partecipare, ma perché mi veniva chiesto di partecipare, perché magari per alcune persone, sai, poter dire che c'era Vanna Marche, Stefania Nobile, a proprio corso, era edificante, ma vedevo arrivare le persone un po' sfigatelle, no? Quelle persone che hanno quella manina insicura, quell'occhio basso, quella gobba un po' da persona stanca, un po' da cammello così dromedario. Quindi, molti di voi arriveranno così. Io vi assicuro che al termine delle 7, 8, 10 ore, perché io vi darò un inizio, ma non vi darò una fine, nel senso che... Stiamo insieme finché voi volete. Iniziamo alle 14, finiamo alle 22, finiamo alle 4 del mattino, è uguale, ma voi uscirete da qua dritti, guardando negli occhi, con la testa in subbuglio, perché comincerete a capire cose che fino a quel momento non avete mai nemmeno immaginato. Io conosco persone che grazie a me sono cambiate moltissimo, chi nel lavoro, chi nel privato, chi... Allora, vi dico questo, e vorrei aprire una parentesi, scusa, poi torniamo a te, all'importanza dei social, e questo lo faccio anche perché GoTV è l'unico canale molto intelligente e molto proiettato nel futuro che è riuscito a fare questo percorso unendo due mezzi così simili ma così diversi, che sono la televisione e i social. Io sui social mi ritengo una persona capace, me lo dite voi, quindi ci credo, ma sapete per me quando è successo il mio Instagram, Facebook ormai non lo faccio neanche più, ma ho iniziato da lì, anzi ho iniziato da Periscope, Twitter non l'ho mai usato perché non sono capace, non mi comunica niente, non mi trasmette niente, non mi interessa, su Instagram per me il successo è quando molti di voi mi scrivono, questo succede quotidianamente, che grazie ad una mia storia, seguendo me, grazie a questo, grazie a quello, chi si è messo in proprio, chi ha cambiato lavoro, chi ha cambiato nel privato, chi è uscita da una situazione disastrosa, chi ha ritrovato un rapporto con i figli, ecco per me questo è avere successo sui social, non è avere 7 miliardi di follower, 100 milioni di visual, certo, tutti ambiamo ad arrivare lì per carità, ma per me con i miei 52 mila follower, io sono felicissima, perché ho migliaia, ma veramente credetemi ragazzi, di persone che tutti i giorni trovano la motivazione grazie a me, per me questa è una ragione di vita, cioè ormai io non potrei più pensare di non dedicare il mio tempo a voi, io dedico ad Instagram la media di 6 ore al giorno, sono tante ragazzi, quindi la notte spesso, quando mi sveglio, lei magari si alza che va a bere così, o va in bagno e dice, ma cosa fai, con chi parli? Con Instagram, io tutto il mio tempo libero lo dedico a voi, e in questo momento noi stiamo facendo una televisione che servirà molto, a noi non interessa, noi faremo anche gli ascolti, e questo lo dirà l'Auditel di Ricky, ma non mi interessa, io me lo auguro, io so che guardando noi, molte persone si faranno delle domande, allora io per esempio adesso con la coda dell'occhio, se volete noi vi diamo le risposte, brava, io con la coda dell'occhio sto guardando il GF, perché l'idea era, cominciamo, ma come vedete per me le scalette, a me non interessa, non piacciono, ma noi non le diamo mica le scalette, appunto, ma nella mia testa e nella tua ci eravamo detti, cominceremo, come cominciamo? chiacchierando sul GF, poi in realtà io con la coda dell'occhio sto guardando il GF, e lo trovo di un mortificante, di una cosa così insulsa, che penso, allora, perché una persona deve perdere il proprio tempo, poi per carità guardatelo, non me ne frega niente, ma a guardare, adesso guardavo questo, ve ne potrei dire altri cento di programmi, a guardare dei programmi che sono scritti, da persone, che poi sono guidate da altre persone, che recitano, che fanno, cominciate a guardare delle cose vere ragazzi, delle cose che possano, poi sai ci stupiamo, che alcuni programmi vengano chiusi, addirittura è stato oggi diffuso su tutti i mezzi di comunicazione, che hanno chiuso due telegiornali, ragazzi, hanno chiuso il Tg4, secondo me una roba, e hanno chiuso il studio aperto, facciamoci le due domande, no? Io me ne farei, cosa dici? Ma sai, non so rispondi, cosa può portare alla chiusura, per me è stata una cosa questa mortificante, no? Non per me, per loro, perché voglio dire... Cioè, io credo che... c'è il successo di queste nuove piattaforme, ne parleremo lungamente in questi mesi, poi magari arriveremo anche a doverne parlare proprio, perché non posso dire, ma perché la televisione sta perdendo, perché la televisione farsa sta perdendo, perché la gente magari perde più tempo, se possiamo parlare di perdita di tempo, per seguire una serie, una serie di una vita di qualcuno che gli interessa, perde tempo, non è mai una perdita di tempo, a guardare un film, un bel film. Certo. Cioè, le televisioni che trasmettono solo cose finte, artefatte, fasulle, taroccate, basta, basta. Effettivamente, si stanno esaurendo piano piano, no? Ecco, forse la gente, sai io, lo dicevo, qualche giorno fa, a quel ragazzino che ci ha filmato, quando abbiamo fatto le interviste, Dave, molto bravo, bravo, e dicevo, sai, io ho iniziato così, ho iniziato così, parlando, così, dicendo quello che mi veniva in mente, raccontando la mia vita, le mie cose, e ritornando a GoTV, in questo modo, mi sembra di essere tornata indietro, sono tornata bambina. È la cosa più bella, ci hai regalato Riccardo, 40 anni fa, regalato o no, regalato tra virgolette, ma ci hai ridato la vita. 40 anni di televisione ho fatto io, e quando la gente dice, voglio raccontare il nostro rete A com'era, il nostro rete A com'era, perché a molti è rimasto nel cuore, ma i ragazzi non l'hanno vissuto. Cioè, rete A com'era? Cosa facevamo noi quando andavamo a rete A? Quando andavamo a rete A, noi parlavamo ore, senza mai vendere niente, e poi alla fine mi veniva in mente, che comunque dovevo anche vendere. No, ma magari, andavamo in via Stromboli 18, era l'allora rete A. non esiste rete A, no, non esiste più. No, perché rete mia esiste ancora. Non lo so, non credo, non so, ma non lo so. Massimo, esiste rete mia? Poi magari inviteremo, Dario Di Stefano, che sicuramente ci sta guardando, che era un personaggio importante di rete mia, che poi ha lavorato per tanti anni a mattino 5, quindi magari lo vorrò qui come ospite, a parlare un po' di tante cose, ma volevo dire un'altra cosa. Abbiamo un po' di bel venti? Sì, ci siamo anche quasi presi a botte, ma sono le cose migliori. Quando noi andavamo a rete A, andavamo in via Stromboli 18, spesso andavamo in taxi, capitava, e portavamo il tassista con noi, in diretta, oppure non so. Portavamo con noi? Assistevamo ad una cosa, strana per la strada, ci è capitato di tutto. Una volta ho portato un travestito. Ti ho portato un travestito. Non volevo neanche fare un travestito. Cioè, quando siamo arrivati a rete A, che c'era, no, come si dice, la hall, c'era, no, così, e c'era un maresciallo dei Carabinieri, e mi disse, ma chi è? Non può entrare? No, dico, è con me? Come è con lei? Erano altri tempi, ragazzi. Ma come è con lei? Ma non può entrare? Dico, ascolti, i documenti li ha. Appunto. con me. E comunque la nostra televisione era questa. Cioè, la verità, la verità, la verità in televisione, chi era? Vanna Marchi. E Vanna Marchi è qua. Di nuovo, verità, sacrosanta, VTV. Ne diremo, ne racconteremo. Sì, ne racconteremo. Qualche sassolino ce lo toglieremo. Altro che. Allora, vi dico subito che vorrò parlare anche, io amo ridere, io sono una persona molto, sono cambiata nel corso degli anni, parecchio, e oggi come oggi dedico il tempo alle cose belle, ma non dimentico mai quelle brutte. E siccome quelle brutte mi hanno reso più bella dentro, parleremo anche di quelle. Quindi affronteremo tanti temi, anche scottanti, ci occuperemo di cose sociali, molto importanti, ci occuperemo. Adesso, stasera, e per molti lunedì, finché le cose non cambieranno, ci occuperemo di una via, che a me sta molto a cuore, di Milano, che è via Gluck, dove abbiamo realizzato un primo video, intervistando delle persone che lì ci lavorano, che ci vivono, e quindi lo vedremo nel corso della puntata di oggi ed affronteremo questo argomento per tante puntate. E poi ci occuperemo delle persone che non hanno casa, delle persone che dormono in strada, siamo venuti a conoscenza di cose allucinanti che andremo a filmare questa settimana, ci occuperemo di casa e famiglia, ci occuperemo di carcere, ci occuperemo di papà divorziati che non hanno i soldi per mantenere l'ex moglie o i figli, di papà divorziati che sono stati messi in delle comunità assurde, ci occuperemo di tante cose, perché questo a me interessa, è la mia quotidianità, io faccio una vita molto piena, ragazzi, lavoro tantissimo, faccio più di un lavoro, ne faccio tanti, ma non perdo mai di vista quello che ho intorno, io amo molto guardare, osservare le persone, le cose, le osservo molto e quindi non dimentico chi è meno fortunato di me, perché c'è un perché molto importante, quando io sono stata molto poco fortunata, nessuno rivolgeva il proprio sguardo su di me, ecco perché io invece i disagiati li osservo molto, ma non perché voglio giudicare o criticare, perché ho sempre in testa qualcosa che potrei fare per aiutarli e questa trasmissione mi darà la possibilità anche di fare questo. Sei d'accordo? D'accordissimo, sono d'accordissimo e visto che hai detto questo, devo dire che chi non ti guardava più e non guardava più me, adesso chissà perché, stanno venendo fuori tutti. Tutti. No, tutti, 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 adesso tutti vogliono venire qui. Ma sai, avere un programma vuol dire ritrovare improvvisamente un miliardo di amici. Sì. Però... Io però, io però... Però non li voglio mica ritrovare. Io no. Io ne voglio trovare dei nuovi. Dei nuovi. Cioè quelli che ho me li tengo per i cari. ok, è chiaro. Perché sono la mia ricchezza e... Quello che abbiamo, sì, Anzi, dopo verrà anche Davide, mi auguro, perché per me Davide... Però le novità a me spaventano un po'. No. Gli amici nuovi io non ne voglio, insomma, ecco. Amici, no, ok, ma sai, l'amicizia, conoscenti, eccetera. Beh, amici è una parola grossa. Amico, amica, amica, è una parola grossissima. E' una parola grossa. No. E' possibile amicizia. No, perché l'amicizia è la ricchezza più grande, ragazzi. Certo. Assolutamente. Più grande di un amore. Più importante. Allora, un amico ti dà, ti dà l'anima, ti dà il cuore. Un amico è quello che ti dice anche quando sbagli, è quello che ti sbatte in faccia la verità, quella cruda, quella che spesso non vediamo. un amico è questo. Sì. Poi un amore è un'altra cosa, un amore ti può regalare delle emozioni, ma io dovendo scegliere tutta la vita l'amicizia, ma proprio tutta la vita. Certo. Perché un amico non finisce. E quindi, e quindi lei mi diceva, scusi, e quindi parleremo di tutto questo, ma Rete A per noi è stato, è stato il nostro trampolino nel mondo. Sì, è vero. Siamo saliti così in alto, che da là in alto abbiamo avuto la possibilità di vedere, di vedere tutto il mondo sotto. È stato bellissimo. Ci ha fatto perdere anche un po' la testa, eh? E anche di questo vorrò parlare molto. Come si fa a cavalcare il successo? Cosa difficilissima, ragazzi. Allora, arrivare in cima non è semplice, ma ci si può arrivare. Per capacità, per una botta di culo, per amicizie, per spinte, per tanti motivi ci si può arrivare. Noi spinte non ne abbiamo avute mai. 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 Sai, magari uno ha l'amante che, magari l'altro fa... Ci si può arrivare. Il problema però, che se il barattolo è vuoto, rotola giù in fretta, non dura. Cioè, cavalcare il successo vuol dire avere dei contenuti, avere dei requisiti, avere delle capacità. Io so che tutti voi vorreste fare televisione. E so anche che GoTV dà la possibilità a molti di realizzare un proprio format. È una cosa bellissima. Parleremo molto anche di questo. Però, sì, uno può scrivere un format. Ok. E poi? Sì, faccio... Divento, che ne so. Vado lì e parlo di... Innanzitutto bisogna saper parlare. E poi un'altra cosa molto importante, che secondo me è più importante ancora, del saper parlare. Perché il saper parlare con il saper comunicare sono due cose molto diverse. È diversissimo. E qui abbiamo l'esempio. Mia mamma, che non ha nessun titolo di studio, non ce l'ho nemmeno io, eh. No, un momento. Guarda che io... Oh, guarda che ho la quinta elementare. Che non scherziamo, eh. Però, ecco... Ha imparato a parlare molto bene, ma non è questo. Il saper comunicare è quando parli tenere incollato una persona lì. E questo, ragazzi, non c'è format, non c'è autore, non c'è sceneggiatore, non c'è... Non c'è. Non c'è. È come un attore di teatro. Sì. Io amo tanto il teatro. Mamma mia. Non vedo l'ora di ricominciare a tornare a teatro. Mamma mia. Spero anche che mi abbiano trovato i biglietti per Massimo Ranieri. Lo spero veramente. perché, ecco, per me lui è la completezza. Lui è la cosa più straordinaria che possa calcare un palcoscenico. Eh, sì. E un altro con il quale mi schiero completamente è Morgan. Io ti amo, Morgan. Cioè, ma che roba sei? Ma che roba è, Morgan? Ma lo dici a me? So che tu... A me quando chiedono ma tu cosa vorresti come l'unico desiderio non l'ho mai comunicato in pubblico. È vero. Adesso lo dico. Veramente? Il mio desiderio più grande poi posso anche morire. Beh, insomma, no. Adesso. Fare un disco aspetta perché guarda con chi lo dici dietro. Con Morgan. Un disco con te. Io lo farei, Morgan. Io lo farei. Cosa ne pensi di questa cosa? Marco si chiama Morgan, giusto? Sì. Io lo chiamo Morgan. Allora, io, guarda, non ho mai guardato ballando perché è un programma che non mi interessa perché non... Sai, non è che mi faccia impazzire vedere questi che ballano. Poi non amo alcuni della giuria. L'avrei ballato io con lui. Per carità del signore. Però... Sì. Da quando ho saputo che c'eri tu, Morgan, poi spero che qualcuno te lo dica, eravamo in Albania. Sì. E l'ho rivisto, sai che quel canale che rifà poi il giorno dopo le puntate. Bravo, eh. E ho visto te, ho detto, no, vabbè, ma sa anche ballare. Sì, sì. Ma però, non è, vedi, anche lì, non è saper ballare. Lui balla benissimo, però... Che ballano benissimo ma ci sono anche gli altri. Qualche passo lo sbaglia anche, ma non me ne prendo niente. Cioè, lui quando balla, tu quando balli, comunichi una roba che... Cioè, tu comunichi, comunichi la vita. Tu sei pazzo, tu sei fuori di testa, tu comunichi la tua voglia di vivere, la tua voglia di essere controcorrente, di spaccare il mondo, di spaccare il culo a chi ti spacca le palle. Scusate la finezza, ma è così. Senti, ma... E quando mette quelle mani sul pianoforte? No, vabbè. Io, una delle cose più belle... Mi viene la pelle d'occa. Sì, che ho visto in tv è quando lui suonava il piano con sua madre. Madre di Dio. Sì, veramente. Passetto. Veramente, veramente. La pelle d'occa. Una delle poche bellissime pagine della televisione italiana. Sei stato tu. Sei un grande. Sei davvero un grande. Un artista vero. Magari lo realizziamo questo sogno, Beffi, di fare un cumballo, perché lei è bravissima a ballare. Ero. No, 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 lei è bravissima. Ero bravissima, sì. Lei e mio fratello hanno vinto una marea di coppe. È vero? Ballavano il tango, ciao. Tango, tango figurato, proprio, capito? Tango. No, comunque, un uomo che ti fa ballare un tango. È raro, eh, però? È molto raro. Anche nelle ballere nostre romagnole. È raro. Ma comunque, guarda che a Milano ci sono le ballere. No, io non vado più, per carità. No, no, io invece, io invece penso... Vuoi andare in ballere? Ma che fa questo? Perché piange? Chi è? Piange, ha visto il figlio, piange, guarda là, adesso lo tengo di notto. L'avranno provata 80 volte questa cosa. Vabbè, per carità. Invece, tornando a Massimo Ranieri, ecco, quando si dice un personaggio completo. Unico. Un personaggio completo sei tu. Sei tu? Io ti vedo anche stupendo, cioè, so che non sei bello, ma per me tu sei stupendo. Bellissimo. Tu sei uno degli uomini più belli che io abbia mai visto nella mia vita. Mamma mia, mamma mia. Perché sei, hai questa padronanza, questa, questo modo di muoverti. Guarda, l'ultima volta che l'ho visto io a teatro, andai con Lele Mora, lo sai, no? Mi invita, mi chiama Lele, mi dice, vuoi venire con me? Dove andiamo? A vedere? Sì, come no, vengo. Mi metto elegantissima, perché era tantissimo che non andavo a teatro e non sapevo che a teatro ormai ci si va anche con i jeans, no? Beh, certo. Anzi, se ci va elegante, fai ridere. Invece io, vabbè, insomma, comunque. Guarda, mi era venuta una roba addosso quando ho visto questo. Perché voglio comunicare una cosa. Massimo, mi riesci a organizzare la chiamata con Ermal? Ermal Albania. Sì, quando puoi me lo dici tu. Quando puoi. E ti dico, mi era venuta una roba che ho iniziato a fare dei salti o ero diventata... mi sembrava uno del circo. Mamma mia, mamma mia, che uomo, che uomo, che uomo. Eh sì. Massimo. Ma no, ma poi sai, quando uno sa fare tutto. Che bravo. Cioè, recita, numero uno. Balla, numero uno. Canta, vabbè, per una donna oggi credo di averla ascoltata 400 volte da sola in macchina. Chi mi ha visto oggi non potrà che dire che sono scema perché urlavo in macchina come una iena. Per una donna. No, vabbè, ma le parole di quella canzone. Le parole di quella canzone. Vabbè, Massimo. Come le parole della canzone che non è di Morgan ma che canta Morgan il mio mondo. Anche quella. Ciao. E quindi, capisci? Ecco. Ma vedi qual è la nostra forza? Che noi iniziamo con un argomento poi... È chiaro. Ne acchiappiamo mille di argomenti. Ma questo è... Perché? La vita è fatta di tutto questo. Cioè, praticamente, no? C'è chi... Questo è anche un argomento ancora diverso. C'è chi nasce in un paesino. Sì. Vive lì. Muore lì. Muore lì. Lavora in posta. Tutta la vita. Meglio morire che fare questo. Io quando devo andare in posta preferirei prendere due sberri. Ah, io in quella posta mi rifiuto, eh? No, anche nelle altre. Perché c'è un'impiegata che è una roba... No, le scegliano a posta. Le scegliano a posta. Parleremo anche... Faremo anche un servizio nelle poste, dai. Vorrò fare anche un servizio sulle poste. Se vai là ti mangia. La... Mamma mia. No, lì non ci vado perché non vorrei spaventare le persone. Però io credo che siano tutte uguali, sai? Non è che... Forse. Non ne ho vista una diversa. Può essere. Li scelgono. Li scelgono bene. Può essere, sì, sì. E comunque... Che comunque sia, sarà un successo, capito? Questo è sicuro. Questo è poco, ma è sicuro. Questo è poco, ma è sicuro. Questo è poco, ma è sicuro. Nel frattempo vediamo questo che si è messo in ginocchio davanti al figlio. No, ma guarda. Io questo... Mentre io vorrei dire, ma Cipriani, scusate, ma quanti chili è ingrassata da quando è nella casa? Oddio. Io magra non l'ho mai vista, eh. Io non l'ho vista magra, ma adesso è ingrassato un 40 chili. Ma sai, non fanno altro che mangiare, penso, perché io non lo guardo, eh. Va bene che lei quando fuori è spesso da Giacomo che lavora, ma... Allora... Io non lo guardo il grande fratello, quindi... Grazie! Beh, da te l'accetto più che mai volentieri, eh. E Nathan, scrivi che non posso ascoltare adesso. Scrivimi. La moglie di Nathan mi ha detto che con questo look sono una gran gnocca. Vedi? Allora, ha detto da una donna, la penso anche di più. È chiaro? Tu, niente gnocca, non ti ha detto niente. A me non mi hanno detto niente, ma io comunque vivo bene, eh. Lo stesso. Ma smettile, che ti prendo in giro. Guarda, veramente? Ho 80 anni, ragazzi, non so se mi spiego, eh. Notare la caviglina a fusola, cioè io, ecco, questa è una cosa di mia mamma che mi fa impazzire. Ma che cosa? Le tue gambe. In che senso? Gli anziani. Oh, ma io avevo 16 anni quando ho vinto Miss Gambale. No, 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 io ho visto donne, non mi far fare nomi perché non vorrei una denuncia già la prima puntata, ma ho visto donne che sono state sex symbol e hanno anche 20 anni meno di te, che hanno delle gambe entrombonate con le varici, con le cose, le caviglie con gli acidi urici, delle robe allucinanti. Io le chiamo i zamponi di Modena, che adesso viene Natale, un bel zamponcino, guarda che muore. Guarda la pancia della Cipriani, guarda la pancia della Cipriani, non lo so. Guarda, ricordati le parole che ha detto Davide? Quali? Io me ne sono ricordata adesso perché stavo per dire una cattiveria, no? Eh, non puoi. E Davide mi ha detto, stai attento a quello che dici sul GF? Beh, vabbè, che ingrassata lo posso dire o devo dire che è magra? È grassa. Ah, ok. È un tronco di galla. Cioè, ho detto quanti chili? Non lo so quanti chili. Avete due fisici pasteschi da invidia e molte ragazzine, ma per tua mamma è sottinteso. Sempre detto che è bellissima. No, bellissima mai. Simpatica sempre. Sempre. E allora, sai, perché non è che uno nella vita più deve essere bella per forza. Dopo, dopo, che mi manda le foto di... Ah, quindi guardate tutti, eh. Ah, beh. Ma tu arrivi dopo, dopo? Sì, dopo Davide. Certo che arriva. Ci mancherebbe. Eh, no, certo, sì. Anto, scrivi a Nathan che non lo so cosa mi ha mandato il vocale e allora chiedigli se viene o no, che l'avevo invitato stanotte. E quindi, capisci? Quindi ragion per cui? Comunque. La vita è una cosa meravigliosa, ragazzi. Allora divertiamoci. D'accordo? D'accordo. Vai. Ma sai, io non ho mai avuto difficoltà a parlare. Credo che si capisca. Io parlo anche quando dormo, spesso, quindi... Parlo. Io parlo sempre. Credo che sia la cosa più bella nella vita sia il dialogo. Io, infatti, ho sempre detto che... Oddio, trovare dialogo. L'uomo dei miei sogni deve parlare tanto. Ecco perché sono zitella. Avete capito il perché? Sì, ma deve parlare tanto, ma senza distronzare. No, è chiaro. Eh, oh. Cioè, dove... Io vorrei aver incontrato nella mia vita un uomo con cui dialogare tanto e di tutto. E allora... Allora, posso dirne una cosa? Ecco perché sono zitella, capito? Questo è il motivo. Oddio, adesso c'è anche da dire che... Sì. Non perché l'ho partorita io, eh. Perché quando io dico partorita una deficiente, ovviamente non lo penso. È chiaro. È chiaro, no. Anche perché... Fa la buffona. Qual è? Quell'uomo ci deve essere per forza. Qua. E io mi ha... E qua. Ce l'hai lì alle tue spalle. Ciao, genero mio. Eh, lui. E voglio dire, sai, tenere testa a te non è propriamente facile per un uomo. Ha visto tutto il mondo. Tutto ha visto. Tutto ha fatto. Dico, ma che cosa gli vai a raccontare? Che Cristo è morto dal freddo? Ma infatti io mi annoio, ragazzi. Ma chi ci crede? Io mi annoio. Chi ci crede? Io... E allora? Io mi annoio perché l'uomo spesso è noioso. Non ha quel... No. Non ha quel qui. Mi capito? No, cioè... È difficile quella complicità. Sì. Però una cosa vorrei dirle alle ragazze che si soffermano magari solo sull'aspetto fisico. O so... Poi è una fregatura, eh, ragazzi. So, anche a me piace il bello, eh, per carità. I brutti non sono mai piaciuti a nessuno. Però guardate anche altro. Cioè, perché poi dopo stare assieme, vivere assieme... È una gara dura, eh. È una gara dura, eh. Cioè, il sesso dura un po'. Quanto dura? Ne parleremo dopo mezzanotte di questo argomento. Poco, poco. Quanto dura? Lo chiediamo a me. Tre anni quando è tanto... Cioè, però... O tre anni è tanta roba, eh. Per mantenerlo tre anni bisogna avere proprio quelle iniziative pazzesche, fare i trapezisti, andare, non lo so, fare, travestirsi da leone, da savana, da speleologo, da minatore, qualunque cosa. Però quando è durato tre anni è tanto. E dopo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? O fa mostrano, o fa mostrano. Madonna, che bello. Ragazzi, se non l'avete visto, quello di Verdone adesso, che è su Prime o Sky? Quello lì? Sky, mi pare. No, forse Prime, non lo so. No, comunque guardatelo perché è il Verdone di oggi che si racconta con il vissuto di oggi, ripercorre quello che è stato, ma sotto forma di film. È tanta roba. Cioè, è una cosa bellissima, guardate. Veramente, sì. Veramente, lì ti sei superato come regista e come attore, straordinario, stupendo. Guarda, sai che io non lo conosco, se non così, di qualche presentazione, piacere, basta, cioè, voglio dire. Mi piacerebbe molto conoscerlo perché... Io l'avevo conosciuto, conosciuto. Al Palace a Milano. Sì, ok, ma... E mi colpì la sua malinconia. Però è anche vero che ognuno di noi magari ha un giorno in cui è malinconico, però si dice di lui che lo sia realmente triste, malinconico. Sì, sì, credo anch'io. Credo, eh, poi, sai, non lo so. Poi finché mi viene in mente, finché ce l'ho in mente, vorrei mandare un saluto in cielo al mio scrittore preferito che è mancato oggi, che è Wilbur Smith. Io ho letto tutto di quest'uomo straordinario, mi ha fatto fare con la mente i viaggi più belli della mia vita. Se amate leggere, ad esempio, so che c'è la tata che ci sta guardando, tu che ami leggere le avrai letti sicuramente tutti, se non le hai letti fallo. Bravissimo, bravissimo. È mancato oggi, era anziano, però mancherà a tutti, perché ha scritto veramente, mi pare, 49 romanzi straordinari. E la moglie brava quanto lui, bravissima, eccezionale, anche lei ha scritto dei libri meravigliosi. E anche questo, sai, è un merito che hanno poche persone. Avere la capacità di imprimere sulla carta quello che... E fare volare. Sì, ho. Allora, io anni fa avevo iniziato a scrivere un romanzo erotico, bellissimo. Sì, è vero. Toghe sporche. Liborio Catagliotti, mio carissimo amico, uno dei miei più cari amici, aveva avuto l'onore di leggere i primi capitoli. Lì mi aveva detto, no, vabbè, questo è straordinario, lo devi scrivere. Ce l'ho. Ce l'hai? L'ho ritrovato su un vecchio computer e ho deciso che... Lo potresti anche finire. Lo voglio concludere. Eh, però, sai, per concludere un libro che si è iniziato in un certo periodo di vita... Eh, l'ho iniziato quando frequentavo molto i tribunali. Esatto. Frequentavo molto lo schifo dei tribunali, molto lo schifo di alcuni avvocati. E quindi... E sulla scia di questo avevo iniziato questo romanzo bellissimo. Il problema, non il problema, la fortuna di adesso qual è? Che non frequenti più tribunali, che non frequenti più i porci avvocati che hai conosciuto a quei tempi. E allora adesso... Però me lo ricordo. Ok, però, hai capito? Me lo ricordo bene, quella fase. Come no? E tutti i porci che ho conosciuto me li ricordo bene. Letti tutti, grande Roby, lo sapevo, lo sapevo. Sai, ci sono cose che nella vita non dimentichi mai più. E cose anche, la siamo perdere i tribunali, la siamo perdere le toghe sporche, eccetera. No, ma era per dire la bellezza di poter comunicare. Però anche piccolissime cose che ti capitano nella vita, magari insignificanti in quel momento, però... Sempre e comunque le ricordi. Ti viene sempre quell'attimo che comunque diciamo, però... Allora, io stavo facendo un po' i tempi nella mia testa, siccome a mezzanotte voglio comunque... A mezzanotte va... Io nasco. Allora, io direi, Massimo, se tu sei d'accordo, se Laura è pronta, noi mandiamo un piccolo breve... Un riepilogo, un covolino, come diciamo a Bologna, di quel video che poi vedremo per intero di Via Gluc, nel frattempo che Laura si prepara. Così poi mandiamo in onda quello che ci farà vedere lei, dopodiché io vorrei festeggiare. Cosa dici, Max? Ci stai? Ok. Allora, Laura è pronta, Anto? Ok. Allora, mandiamo due o tre minuti di questo video, del quale poi parleremo lungamente dopo e poi rientriamo in studio con una bella cosa. Ciao ragazzi, allora, abbiamo parlato lungamente di questa via, via che è conosciuta in tutto il mondo, ovviamente grazie ad Adriano Celentano siamo in Via Gluc. Io ho abitato tanti anni in questa via, quindi la conosco perfettamente, non parlo né per sentito dire né perché ho un motivo diverso, se non quello di migliorare questa via che io adoro. Allora, vorrei cominciare col chiedere questo. Credo sia l'unica, o se non l'unica, una delle poche via a Milano, dove permettono di parcheggiare anche dove non ci sono le strisce blu. Cioè, la via, che è una via come vedete, io mi metto in mezzo così capite la dimensione, è una via stretta. Allora, il parcheggio giustamente è stato fatto solo su un lato, però viene permesso fino in fondo, per tutta via Gluc che è lunga, che si parcheggi su tutti e due i lati. Io vorrei chiedere a chi di dovere, per quale motivo. Visto che io prendo 100 multe al mese in una via come Napo Toriani, larga 8 km, dove i parcheggi ci sono, e se ti fermi un secondo, costruendo di un metro una strada larga 18, prendo la multa. Allora mi chiedo, cos'è che qui vi autorizza a parcheggiare? Vogliamo togliere questa fila di macchine? Allora, io sono qui con, credo, la persona più autorevole per avere diritto di parole in questa via, che è Sebastiano del Bar Gluc. Ciao, buongiorno. Allora, tu sei qui, grazie a te. So che tu ci tieni anche più di me, al fatto che questa via torni, o quantomeno torni neanche tanto, perché così bella non lo è mai stata, ma acquisisca un carattere che sarebbe quello che merita, perché vogliamo ricordare che in questa via vengono da tutto il mondo a visitarla. Vengono tantissimi turisti, soprattutto nel weekend dal Giappone cinese, a visitare veramente la casa 14 di Adriano Scelentano. Quindi, visto che siamo proprio a 10 metri dalla stazione centrale... Poi sono nate tantissime realtà di alberghiere veloci, quindi tantissimi turisti gravitano in questa via, soprattutto via Gluc, via Zuretti, via Edolo. Quindi veramente entrano dentro a domandarci dove abitava, dove è cresciuta e nata l'erba, quindi questo è proprio il posto giusto. E ovviamente dalla canzone uno immagina, perché è chiaro, anch'io prima di conoscerla, si parla di periferia, perché allora era periferia. Oggi è Milano, oggi è centro, c'è pieno centro di Milano, quindi tu mi dicevi giustamente, non parliamo solo delle cose negative, parliamo anche quello di buono che già si è fatto. E' un esempio, me lo ricordo, c'era un Vespasiano lì. Sì, qui proprio all'incrocio tra via Gluc e via Lelunigiana, tra il 2013 e il 2014, quando noi siamo arrivati qui col bar, c'era un Vespasiano verde. E in collaborazione col comune di Milano, la nostra collaborazione, Bar Gluc, Comitato Parcheggi e il FAS, abbiamo insistito e lavorato affinché nascesse appunto una postazione Bike Me. Questo porta presidio, sicurezza, perché appunto era un luogo di prostituzione, di spazio, insomma di brutte cose. Questo adesso ha portato sicuramente più apertura, più illuminazione, perché sappiamo tutti dove c'è illuminazione, sicuramente c'è sicurezza, c'è apertura e avvengono cose meno losche possibili. Immagino. Ma ti è capitato di vedere qui cose poco belle? No, noi siamo aperte quasi sempre, quasi H24, addirittura anche mia sorella fa sempre quasi lei la notte, quindi è una donna da sola. Grazie a Dio, fino adesso no, quello no. Quello che chiediamo più che altro è veramente il decoro, cioè che ci sia più verde, più pulizia. Cosa ti dicono gli stranieri quando vedono questa via? Eh, sì, perché ci vorrebbe sì, molta più pulizia e più bello, cioè io rompo sempre e puntare sul bello. Quindi tu cosa faresti? Io vorrei che veramente, mi piacerebbe che sia l'assessorato al verde, che il comune ci desse una mano affinché veramente arrivasse quel verde cantato e che c'era dalla canzone. Ma tu lo sai, bravo, ma c'è questo progetto per fare un'isola pedonale qua? Io lo sentivo quando abitavo qua, sarebbe straordinario fare via glu pedonale con le panchine, le case tutte, obbligare tutti i palazzi ad adeguarsi, a fare qualcosa di univoco, a rendere gradevole vederla questa via, visitarla. Parla, gradevole. Anche nell'immediato, con opere spicciole, quello che potremmo chiedere all'amministrazione è questo, cioè qualcosa di spicciole, immediato, piante. Ma tu mi dicevi che ogni volta che ci sono le elezioni a Milano vengono tutti? Eh beh, questo come succede sempre. E promettono cosa? Cioè, questo deve accadere adesso. E quindi cosa ti hanno promesso alle ultime? Eh, che partiva questo patto di collaborazione col verde, facciamolo. Quindi dovrebbe diventare una via piena di piante, di alberi. E un po' di piante, sia sul lato di via San Martini che sul lato via Gluck. Ecco, sai cosa mi salta anche a me all'occhio? In qualunque altra città d'Europa, una via come San Martini, che dopo faremo vedere, perché è qui alle spalle, sarebbe il polo dei locali della città. Se fosse Berlino, se fosse Londra, se fosse Parigi, sarebbe tutto un locale, sarebbe questo, un altro polo, come della Movida, come è stato Corsocomo, come tanti altri posti a Milano, come I Navigli, come Sempione, giusto? Sì, sì, sì. Ma perché secondo te c'è questo interesse a tenerla così? E quindi poi torneremo su questo argomento, ovviamente, ne parleremo lungamente tutta la notte. Adesso mi dicono che c'è Ermal. Abbiamo Ermal, ragazzi? In... Sì? Quindi abbiamo la nostra amata Albania, con il mitico Ermal, il presentatore più figo di tutti, ma proprio figo tanto, eh? Bell'uomo, eh? Eh? Vero, Betty? Bellissimo. Tu cosa pensi? Aspetta che guardo qua, perché qua mi dà un... Eccolo! Ciao! Ermal, ciao! Ti guardo da lì, adesso da qua. Ciao Ermal! Mi senti? Io sono Stefania, per me la più bella del mondo è Ivana. Ciao! Ciao, buona Bopasha! Come stai? Come stai? Sono molto felice che sono con voi. Siete bellissime. Grazie, amore. Tu sei bellissimo. Il nuovo progetto che tu, Ivana e Stefania, l'ho amato molto. Grazie. Un grande piacere. Senti, ho saputo che in Albania faranno un reality importantissimo, cioè faranno la talpa agli olandesi? È vero? Un reality famoso, che è stato molto famoso qua in Italia. Lo sai tu? Sì, hanno iniziato, hanno iniziato. Ma, e come mai gli olandesi? Cosa vuol dire? E in onda? Stai parlando per versione GF albanese? No, GF, no, un altro reality. Un altro reality. Forse non lo sai. Allora tu che sei in Italia sai più di noi che siamo in Tirana. Eh, vedi, lo sappiamo prima noi, ma hanno scritto tanti albanesi oggi per dirmi questa cosa. Per dirmi che, cioè me l'hanno data come una notizia, come dire, vedi, anche gli altri paesi finalmente stanno scoprendo l'Albania e siamo felici perché molti l'hanno scoperta, questo lo dico, grazie a me. Ma io ho un grande progetto di una star che si chiama Stefania Nobile, che vuole prendere... Ah, non lo posso dire, lo posso dire. Ecco, non ho capito cosa, cosa fa Stefania Nobile? La pazza innamorata dell'Albania! È un progetto di Stefania Nobile in Tirana. Eh, sì. Senti, Ermal, ma che bello è stato. Se stai parlando per questo, allora vai. Sai che è stato meraviglioso essere intervistati da te in Albania? Grazie, grazie. Anche per me è stata un'esperienza bomba. ha parlato molto in Tirana, tu hai visto i portali online, tutti li hanno scritto per la vostra storia, l'intervista con Corona, è stata un' sorpresa grande, ma per il pubblico italiano... Non lo sento più, Max. Sentivo bene, non si sente più. Max? Non sarà facile un collegamento. È difficile. Sì. Già Skype non è facile. Questi dati d'Italia sono molto... Ecco, adesso ti sento. Fra l'altro, ragazzi, dopo avremo Fabrizio Corona in collegamento, eh? Quindi avremo anche Fabri. Avremo un po' di collegamenti stasera, ne avremo un po'. Certo. E senti, Ermal. No, non lo sento, ragazzi. Non lo sento. Adesso sì, adesso sì. Adesso ti sento. Allora, dimmi qualcosa dell'Albania. Cosa c'è adesso? Ci sono già tutti i preparativi per il Natale? Sì, hanno già iniziato. È il tempo quando Tirana mette i luci e si fa questo spirito della festa, ma non c'è niente da grande nel senso di piani o di concerti che si parla sempre nell'inizio del dicembre. Dobbiamo ascoltare un po' e di capire. Noi abbiamo visto qualche Natale lì. Meraviglioso. Lo penso difficile perché tu lo sai che qui al 23 si chiude tutto. Non ho capito, Ermal. Dipende, dico, dalla situazione di Covid perché al 23 della sera qui si chiude tutto e per questa motivazione credo che non sarà una testa bomba perché siamo in situazione di Covid. Ma è ancora la chiusura alle 23? Aspita, che disfasso. È ancora, è ancora. Io sono stato questo weekend in una party di amici e al 23 viene polizia e si ferma tutto. Eh, questo è un limite grosso. Tanto, tanto. È un'ironia un po' strano che al 23 si sveglia il Covid, ma... Ma questo perché, Ermal? Perché non si è raggiunta ancora un'alta quantità di vaccinati? Sì, sì, si deve ancora continuare in questa politica di vaccinati. Ancora sono pochi. Penso a te. Senti, ma tu quando verrai in Italia? Eh, non si... Lo decidi tu. Da domani se vuoi. Te lo dico io. Domani prendi l'aereo Tirana-Milano e noi ti veniamo a prendere l'aeroporto. Vieni a fare il compleanno con me, dai, vieni. Ma scusami, Stefania. Stefania, scusami, tesoro. Dimmi. Allora, visto che c'è un problema tecnico e dobbiamo parlare così io una volta e tu una volta, ma posso vedere, Vanna? Allora, tu, siccome parlare via Skype non è bello, tu sai che queste puntate nostre dureranno sei mesi. Io mi aspetto che tu in una puntata sia qui con noi. Ok? E conduciamo assieme. Va bene? Promesso? Promesso. Promesso. Ok. Ma vi vedete in un messaggio... Sì, vado a vedere, Vanna. Eh, Vanna... Ciao, carissimo! Ciao! Ma, Vanna... Aspetta che... Purtroppo non si sente tanto bene, eh? Ok, dai. Ermal, sei un tesoro, ti voglio bene, grazie. Dopo mi aspetto... Tu e l'Albania. Ciao! A presto! Ciao! Ciao! È difficile fare i collegamenti così, è difficilissimo. Lui è un grande, lui è un presentatore bravissimo, come potrebbe essere da noi... Come si chiama il pitone? Che? Quello che lo chiamano il pitone, Gnocchi. Ah, sì. Va bene, non mi viene? No. No. No, no. Quello è il niente. No, no, no. Niente. Allora, facciamo una cosa. Invertiamo. Tu vai a bere un caffettino, anzi, io un caffettino me lo berrei anche. E io faccio entrare la prima ospite, ok? Ah, non dimenticatevi che noi siamo qui fino alle 6 di domani mattina, eh? Cioè, dove volete andare voi? Cioè, voi dove pensereste di andare? Da nessuna parte perché noi abbiamo bisogno di voi. Allora, vieni Laura. Laura è una ragazza bravissima che fa un lavoro particolarissimo. Ciao, Laura. Allora, aspetta che ti do il gelato. Tienlo vicino, ovviamente. Allora, ti presenti tu, Laura? Sì, allora, io sono Laura, vengo da Desenzano e faccio trucco semipermanente da quasi 10 anni. E sono operatore in questo settore e anche formatore. Allora, ci arriviamo un po' alla volta. Vedi che già corri. Era un po' timida e invece già corre. Non corriamo. Corre come un treno. Allora, Laura, io l'ho conosciuta, in realtà di persona la conosco oggi, però l'ho conosciuta perché la seguo sui social. E ti ho conosciuta grazie a Iari. Esatto, sì. Seguendo Iari, seguendo la bellissima fidanzata di Iari, ho visto che erano venuti da te e avevi fatto delle cose a lei. E quindi mi hai incuriosito. Siccome questo trucco semipermanente, si dice, giusto? Sì. Perché dura? Semipermanente, termine corretto. Ecco, partiamo con dire questo. Dura quanto? Ha delle tempistiche diverse in base al tipo di pelle, chiaramente un po' anche all'età, eccetera. Va ritoccato, diciamo, ripreso quella volta all'anno circa. Ah, ok. Quindi circa un annetto dura. Esatto. Chi più, chi meno, sì. Però ecco, in linea di massima... In tutti termini tu fai, perché sai, noi diamo per scontato che la gente lo sappia e so che voi siete preparatissimi, ma magari non su tutto. Cioè tu fai tutto quello che riguarda il viso? Esattamente. Il viso, chiaramente la parte superiore dell'arcata sopraccigliare, il trattamento occhio, quindi l'eyeliner o l'infracigliare, che dona profondità all'occhio e le labbra le trattiamo con l'effetto naturale o un effetto rossetto, quindi un po' più coverizzante. E tu mi dici che tu non hai rossetto in questo momento? Io in questo momento non ho rossetto. Pertesco. Ho il trucco permanente con effetto rossetto. Bellissimo. Per sempre. Quindi tu fai scegliere il colore? Sì, allora consigliamo magari la tonalità alla cliente, però se ha delle preferenze cromatiche, allora in questo caso seguiamo anche un attimino le tonalità proprio delle caratteristiche. Perché poi facendo questa base, se tu poi vai ad applicare un rossetto, c'è la volta che magari vuoi un rossetto rosso, per dire, poi ti cambia anche, ovviamente, avendo una base così, cambierà? In realtà no, diciamo il gloss ti dà un effetto più brillante, ma in trasparenza vedi la tonalità. Se invece tu metti un rossetto sopra, chiaramente va a coprire e quindi poi in sovrapposizione non lo vedi sotto, però hai già una base comunque. E tu hai anche l'occhio? Esatto, ho l'eyeliner tatuato. Che ti stavo guardando. Quindi tu la mattina ti svegli e sei truccata. E sono già, esatto, anche la sopracciglia. Figo, eh? Sì. Cioè, io sento, adesso questa la racconto perché è simpatica. Tanti ragazzi che mi dicono, ma Stefi, mi è capitato di portare una tipa, vabbè poi dopo sai, è successo quello che è successo, ma io la vedevo su Instagram, poi è arrivata, sì, truccatissima, insomma non era male. La mattina quando ci siamo svegliati non la riconoscevo. Quindi tu questo effetto non lo farai mai perché tu sei truccata. Assolutamente, sì, sempre in ordine. E hai anche le sopracciglia. E anche le sopracciglia, esatto. Ecco, questo ti posso fare un complimento? Sì. Sono bellissime. Ti ringrazio. Perché io non ho simpatia per le sopracciglia tatuate perché le vedo tutte orrende. Cioè le vedo molto effetto bambola. Purtroppo sì, ci sono adesso degli effetti molto marcati. Sì, però ecco purtroppo non tutti i visi, in base anche all'età, portano sopracciglia troppo. Cioè chiaramente, certo c'è anche il gusto della cliente per carità, però bisogna anche un attimino... Ecco, questo è un discorso interessante. Allora, se viene una persona da te e ti chiede una cosa che a te non piace, non piace su di lei, cioè esempio, ti viene una persona e ti dice voglio le sopracciglia nere, tu gliele fai? No, cioè chiaramente la professionalità è anche questo, nel senso che a fronte di una richiesta magari un po' diciamo fuori da quello che appunto è, diciamo, la persona... Quello che corrisponde alla persona... Esattamente, bisogna anche saper dire di no. Quindi poter consigliare... Si ascoltano o si arrabbiano? Ma in linea di massima sì, nel senso troviamo sempre magari una mediazione. Io do il mio consiglio... Scusa un secondo Laura, Anto, lo vedono in onda i dati di Laura? Falli mettere a Max. E quindi c'è chi ti ascolta? Sì, assolutamente. Diciamo che qual è l'età delle persone che vengono da te? Allora, la media può partire dai vent'anni circa, fino ad arrivare anche ai 70, 80 anni, eh? C'ho anche clienti, sì. Assolutamente sì. Sì, e tanno che cosa? Ma è un po' di tutto, nel senso che la ragazza giovane vuole solamente magari enfatizzare un po' le linee, diciamo donare un po' di tonalità. Un po' più su con l'età chiaramente si perdono i colori, si perdono le forme e chiaramente si vogliono recuperare queste... Quindi è una sorta anche di ringiovanimento? Assolutamente sì. Ci sono persone che veramente perdono 10-15 anni, eh? Cioè sì. E beh, sicuramente no, no, ma ti credo anche perché la bocca, le cose, insomma i colori... Assolutamente sì. Dare profondità all'occhio si cambia. In collaborazione poi magari con la chirurgia estetica, perché va un po' di pari passo, anche noi possiamo, con l'aspetto cromatico appunto, dare queste trasformazioni. Senti, come sei arrivata a fare questo lavoro? Cosa facevi tu prima? Che a me piace sapere le persone da dove arrivano. Allora, io sono partita e ho fatto la scuola d'arte. Tu sei giovanissima. Eh sì, grazie. Eh no, sei giovanissima. Non ti chiedo quanti anni ha se non lo vuoi dire, non mi interessa. Top secret, però ti ringrazio. Ma per me faresti bene a dirlo. Io ne compio 57 fra pochi minuti, ne sono orgogliosa. Va bene, dai. No, non ti obbligo, ci mancherebbe. No, no, no. Non è un segreto, dai, assolutamente. Non credo che tu da ragazzina avessi già nella testa di fare questo. No, io sono partita con una scuola d'arte di base per poi avvicinarmi al mondo dell'estetica, quindi ho fatto nails, art, ricostruzione unghie. Ah, quindi comunque eri nell'ambito, belletta. Bravissima. E poi, poco dopo, ho scoperto questo mondo che chiaramente al tempo, dieci anni fa, era ancora un po', sai, di nicchia, no? E da lì ho cominciato i primi corsi, ho fatto poi un percorso docenti, quindi ho frequentato varie accademie, ho partecipato a molti masterclass anche internazionali, ho conosciuto artisti internazionali del settore e ho fatto, diciamo, questo percorso docenti e poi sono arrivata anche appunto a diventare anch'io docente e insegnante. Hai approcciato a questo perché magari avevi fatto qualcosa tu o perché ti piaceva l'idea di poter correttere le persone? Sì, io avevo già chiaramente effettuato dei trattamenti, sì, 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 già, sì, esatto. E poi, sì, mi piaceva molto l'idea comunque di dipingere il volto, no? Di donare sorriso. E' appassinante il tuo lavoro, molto. Molto e in effetti poi da quando ho cominciato a fare questo lavoro ho smesso di, chiaramente, di fare un po' arte perché lo faccio sul volto delle mie clienti. Bello, che tu dipingi immagino. Dipingevo, sì, dipingevo su tela. E hai pensato che dipingere su, aspetta, intanto sono anche in contatto con voi, è bella questa cosa, è sempre per dire che GoTV è un binomio di tv e social e quindi dal pensare di dipingere su tela o su carta o su cartoncino tu hai preso il volto. Ma anche i ragazzi vengono da te, gli uomini? Allora. Ovviamente non per il trucco ma perché fai una cosa. Mi dicevi. Il discorso della tricopigmentazione che ti accennavo prima per creare questi effetti di densità oppure l'effetto rasato. Quindi in questo momento... Questo è bellissimo, eh, ragazzi, perché io l'ho visto su tanti ragazzi che vengono inginto. Praticamente un conto è il pelato. Sì. Un conto è, se uno non ha i capelli, fare questa, spiegalo tu che lo sai spiegare meglio, che sembra che voi siate rasati. Esatto. Si crea questo effetto rasato, praticamente andiamo a disegnare questi puntini proprio sul cuoio cappelluto. È un trattamento assolutamente indolore, però dà questo effetto, diciamo, di sfumatura. Ovviamente il cappello viene tenuto molto corto e dà appunto questo effetto di sfumatura. Come se voi li teneste, cioè anche dove non ci sono, sembra che ci siano rasati. Esattamente. Ma è vero che, adesso questo non me l'hai detto tu, lo sentivo perché me lo raccontavano dei ragazzi così nei locali la sera, che facendo questa cosa nei capelli va a migliorare anche i capelli che ci sono? Perché porta più ossigenazione. Dunque, esatto, va a stimolare sicuramente il bulbo pilifero, quindi sicuramente può dare una stimolazione, questo sì. Però in linea di massima per fare crescere il capello spesso si ricorre all'autotrapianto, piuttosto che... Però non si esclude la cosa, non si esclude. Quindi tu collabori anche con dei chirurghi? Sì, io ho delle figure di appoggio, ovviamente in caso servisse, ovviamente sì, posso consigliare. E' più, il primo approccio è più con te o parte dal chirurgo e arrivano a te? Questa è una curiosità mia. No, in realtà a volte è una sorta di compensazione, nel senso che l'uno non sostituisce l'altro. Noi diamo l'aspetto cromatico, quindi il colore. Quindi magari uno fa il colore alle labbra e poi gli viene la voglia di ingrandirle? Bravissima, il volume noi non possiamo darlo, se è un volume in eccesso, possiamo leggermente andare oltre il disegno. Bravissima, ma non possiamo dare questi volumi, chiaramente effetto filler non possiamo darlo con... Certo, quindi magari è un inizio per poi arrivare a capire come poter diventare, perché comunque sia quello che fa Laura, sia la chirurgia, quando sono dosate bene, sono cose meravigliose, cioè gli eccessi rovinano. E ti è capitato di dover correggere i lavori di altri? Sì, assolutamente anche quello. Purtroppo ci sono magari dei trattamenti che sono stati eseguiti tempo fa, quindi chiaramente con dei pigmenti magari ancora non particolarmente, diciamo, idonei. Si consiglia magari delle sedute di laser, di rimozione. Ah, addirittura? Sì, in alcuni casi sì. In altri può essere che il tempo abbia fatto il suo lavoro, ovvero sbiadito leggermente questi trattamenti, di modo che noi possiamo ricoprire, diciamo, senza rimozioni particolari. Quindi diciamo solamente creando queste, le chiamiamo cover, quindi le coperture di lavori già precedentemente fatti. Esatto, o in questo caso eseguiti male, perché non sempre... Ma ti è capitato mai che qualcuno poi si pentisse di quello che ha fatto? Non credo. Adesso no. Anche perché? Adesso no, perché i trattamenti vengono svolti, diciamo, con delle linee molto naturali, soprattutto nei primi step. Quindi non si esagera mai, almeno parlo per me. Si va nei gradi? Quindi molto... proprio perché la cliente si abitui, si possa abituare, diciamo, anche perché appena svolto il trattamento è già molto evidente di suo. Poi tende a sfumare, però in linea di massima, primo impatto è sempre... Quindi generalmente sono donne che non si truccano? No, al contrario, volte... Un po' sì, un po' no. Questo è un processo che mi riesce difficile da capire. Allora, quella che non si trucca vuole quel vedo o non vedo. È una cosa naturalissima. Quella che già si trucca vorrebbe che le crei quell'effetto del trucco. Però diciamo che il trucco permanente non può sostituire il make-up. Nel senso, è una buona base. Però, chiaramente, con certi effetti, l'effetto brillante del make-up non lo puoi dare con il tatuaggio. Il tatuaggio rimane... Diciamo che quando uno... Sì, quella mia ignoranza è quello che penso io. Quando uno è struccato, non è mai struccato, vai in spiaggia, soprattutto l'estate, no? Che non truccarsi è bellissimo. Assolutamente. Però è stupendo poi avere questo effetto che... Sicuramente in spiaggia, al mare, in palestra... Allora, mi trucco permanente, non semipermanente. Allora, in realtà i termini, diciamo, sono corretti entrambi. Nel senso che anche permanente non significa che ha una permanenza vita. Bravissima. Ha comunque un periodo, un lasso di tempo, quindi... Cioè, non è come un tatuaggio. Bravissimo. Che non se ne andrà mai più. Quindi, questo lo dico perché ci può essere anche la persona che... Poi le mode anche cambiano, eh, attenzione. Perché, ad esempio, le sopracciglia negli anni sono cambiate quante volte le mode. Tantissimo. Una volta le donne si rasavano le sopracciglia. Ai tempi di Mina. Eh, sì. La mia nonna, io me lo ricordo, che si rasò per anni le sopracciglia e poi non le aveva più. Quindi, questo sarebbe oggi risolvibile. Ai tempi usavano la matita. Quindi, le mode però possono ancora cambiare. Ecco perché... Sono già cambiate. Nel senso che adesso, come dicevi prima, vanno chiaramente questi effetti molto pieni. Adesso vanno queste sopracciglioni. Ma chi si dice che magari tra due anni... Potrebbe essere che... Speriamo che non si arrivi più all'estremità. Perché... No, speriamo di no. Quello non lo vogliamo. È la cornice dell'occhio, eh. Cioè, io credo che sia determinante. Però anche le forme e le linee sicuramente sono sempre in cambiamento. Esatto. Questo sì, sì. Quindi, io vi consiglio. Io in settimana andrò da Laura. E facciamo la bocca. E vediamo. Io la bocca è l'unica cosa che ho truccata sempre. Io non mi so truccare gli occhi. Non li trucco. Oggi, vabbè, ho Luca, come avrò tutti i lunedì, che è bravissimo. Confermo. Perché in televisione bisogna truccare l'occhio. Ci sta. Però io credo che uno cominci da una cosa per poi arrivare a fare tutto il resto. In realtà sì. Quindi io comincio con le labbra. Perché per me sono la cosa che amo di più truccata in una donna. Io non posso, Antonella lo sa, non posso vedere le donne senza rossetto. Non mi piacciono. Mi sanno da milanesina. Io la donna milanese non l'amo particolarmente, ragazzi. Perché? Poi non sono tutte così. Però, per esempio, io sono di Bologna. La donna bolognese è più dirompente, più volgare, direte voi, non lo so. A me piace la donna donna. Mi piace la donna truccata, mi piace la donna benvenuta. Curata, insomma. Non mi piacciono le donne scialbe, non mi piacciono. Con la calzina bianca poi stendiamo un velo pietoso. E quindi sì, ti verrò a trovare molto presto, ma adesso voglio vedere un tuo trattamento. Ti aspetto volentieri. Vedremo il trattamento labbra sulla mia modella Nicole. Sì, sono prontissima. Vuoi aggiungere qualcosa? Allora, voi vedete, credo, in onda, il sito di Laura. Sì. Hai dato anche un numero da mettere? Esatto, il mio numero di telefono. E poi, ragazzi, lei sui social è molto brava, eh? Quindi seguitela su Instagram. Sì, insomma, ci sono. Laura Ogni Santi, giusto? Sì, esatto. Laura Ogni Santi, lei è, tra l'altro, in uno dei posti più belli d'Italia. Sei esattamente perché... Desenzano, lago di Garda, Padenghe. A Padenghe, che è... Padenghe sul Garda, che è... Salò e Desenzano. Bravissima. È un posto meraviglioso. Ho svariate collaborazioni, quindi chi, ovviamente, fosse interessato, basta che mi contatta e gli posso dare le altre location telefonicamente. Ah, sei anche in altri posti? Sì, 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 assolutamente. Ma si trovano anche sul sito, sulla home page ci sono tutte le varie città. Comunque, scrivete a lei tutti quelli che scriveranno a me. Io li dirotto a Laura, quindi non c'è problema. Ti ringrazio. Fatelo perché io ho visto, io ancora non ho sperimentato e vi ripeto ci andrò a giorni, ma ho visto tanti lavori fatti da Laura e ecco perché è qua, perché è bravissima. Ripeto, la cosa che mi salta all'occhio subito sono le sopracciglia perché non sembrano assolutamente tatuate e questo è la bravura di fare questi lavori. Cioè, quei ciglioni effetto Big Gym per me sono terrificanti. Io li detesto. Poi ognuno fa quello che vuole. Bene, allora rimandiamo un brevissimo video di uno spezzone di Via Gluck. Nel frattempo così prepariamo il tutto per Laura che sarà ancora con noi. Quando sei pronto, Max, parti e noi rimaniamo qua. Partire perché comunque è una zona battutissima. Dobbiamo fare casino. Tu mai o te? Sì, 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 io ci sono. Dobbiamo insistere. Però oggi non deve rimanere veramente, promettimelo, una sola, un primo step. No, no, io ne parlerò ogni lunedì per mesi. Finché non vedo un miglioramento io romperò a questa città perché è un onore avere un Celentano che è nato qui. Ma è un dovere verso chi viene apposta da tutto il mondo a visitare questa città e quindi questa via. Quindi rendiamola bella per lui che è amato in tutto il mondo. Dai, e per loro. E anche per noi, per tutti che ci viviamo. Che si battono per rimanere aperti in una via resa difficile da tutto e da tutti. Ribadisco col dire che questa via è famosa nel mondo. Via Gluck è la via più famosa al mondo. Cantata da tutto il mondo, dall'Africa a qualunque continente conosce via Gluck. Non si può non ignorare. L'assessorato alla partecipazione del Comune di Milano, l'assessorato al Verbe. Io chiedo un minimo anche di verde pubblico che sia lunghi. Partiamoci di fare delle cose semplici ma che possono dare un po' di lustro. Cioè delle cose semplici. Tu dicevi, qui siamo all'interno. Ti hanno donato? Sì, il Museo del Manifesto che ha chiuso, che fra l'altro aveva sede in via Gluck. Ah, questo qua in fondo. È vero. Ci hanno donato? Ha chiuso. Ci hanno donato per vent'anni, in donazione gratuita, i cartelli di quasi tutti i film di Celentano. Meraviglioso, bellissimo. E noi, a parte, li abbiamo esposti. Faremo anche un evento in collaborazione col museo, col presidente del museo. Poi lo pubbliceremo. Allora ce lo fai che ci saremo anche noi. E quindi chi vorrà, poi una volta pubblicizzato, potrà entrare a vedere i cartelli perché sono gli originali. Ogni volta che usciva un film buttava un po' di male. A me piacerebbe da morire. Allora, Celentano io lo amo, lo amiamo tutti. Lui vivrà altri mille anni, assolutamente, perché deve vivere mille e quattrocento anni ancora, minimo, e fare altre bellissime canzoni. Ma io vorrei veramente che gli fosse riconosciuta questa importanza che questa via ha, grazie alla sua canzone e grazie a lui, finché ce l'abbiamo. Cioè, Celentano deve vedere questa via bella, perché qui è nato lui, è nato il super molleggiato, in via Gluck 14, che dopo poi faremo un salto a vedere. Altra cosa che io non capisco, credo sia il palazzo più degradato di tutta la via. Giusto? Così dicono, io non l'ho mai visitato all'interno, però andrebbe... Allora, parliamo di cose belle. Tu cosa proporresti, visto che tu lavori qui praticamente... Sì, io dico sempre, e infatti sono sempre lì a insistere con i comitati della zona, cioè operare sul bello per il decoro, cioè anche con delle piccole cose. Noi ci battiamo sempre, facciamo letture di libri, invitiamo giornalisti, cioè delle piccole cose che non sono neanche dispendiose per il comune, cioè non è che cerchiamo soldi, fondi... Sai, a Bologna, nella via dove è vissuto Lucio Dalla, purtroppo qui è stato fatto dopo, l'importanza del farlo, quando l'artista c'è, nella via d'Azeglio dove viveva Lucio Dalla, trasmettono le sue canzoni. La sua casa è illuminata, meravigliosa, fanno tanti eventi ed è meraviglioso, è una via straordinaria, ma si potrebbe fare anche qua. A Rimini, per esempio, hanno dedicato un intero quartiere al regista, a Fellini, e ci sono tutte le case con il murale, con gli affreschi dedicati ai suoi film. Quindi si potrebbe fare veramente tanto, tanto, magari dando anche lo spazio ai graffitari, come li chiamo io, allo street art, e dare come tema ce l'entano, quindi sui film, le sue cose. Questa diventerebbe la via più bella, più visitata di tutta Milano, da gente di tutto il mondo. Quindi io non sono nessuno, non sono un giornalista, non sono niente e nessuno, ma sono una persona che ama questa via perché ci ho vissuto, perché mi piace, perché amo ce l'entano e perché amo il bello. E per me vedere una via che ha potenzialità come questa, ridotta a un immondessaio, ma non per colpa di chi ci lavora, o di chi ci vive, perché io lui lo so quanto lotta per fare tutto questo, e giustamente, come ha evidenziato prima, si è fatto anche il bello, perché era anche peggio, molto peggio. Molto peggio. Ci siamo arrivati qua nel 2014, guardate, era molto peggio, quando si dice che si combatte per il bello, perché veramente si è combattuto per trasformare qualcosa in qualcosa di migliore. Allora, Seba, tu non mollare, perché noi ce la faremo. Assolutamente, io zio tantissimo, io sì, quindi tu, io non mollo, io non mollo mai, c'è un ragazzo della Via Gluck, grande Adriano, io ti amo, non so se tu lo saprai mai, ma io ti amo. Siamo in Via Gluck, sono in compagnia di una persona famosissima, Cuoco di Bordo, Marco, il titolare, Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa mi racconti, da quanti anni sei qua tu? Noi siamo qua dal 79, beh, non io, i miei. Ok, logico. Però, perché, insomma, parlo di anni fa, la via era molto più viva, una volta. Molto più viva, tantissimi negozi aperti, io conosco questa via da 30 anni e vedevo tantissimi negozi aperti, oggi sono tutti chiusi, come mai? Bella domanda, nessuno vuole più aprire un esercizio commerciale qua, è un po' abbandonata, noto che dove ci sono i negozi chiusi si aprono appartamenti. Cioè, appartamenti nel negozio hanno questa possibilità, non mi piace questa cosa? A te piace? No, perché così la via va a morire. Certo. Cioè, siamo noi, altri ristoranti, un paio di negozi e nient'altro. Cioè, una volta c'era il lattaio, c'era il meccanico, c'era il falegname. Bellissimo. Purtroppo così va a morire, la sera è desolante. Questa è una via famosissima, lo sapete tutti, per Adriano Celentano, questo cantante famosissimo in tutto il mondo, tant'è vero che io sto moltissimo tempo in Albania e devo dire che in Albania, a parte l'Albania, è conosciuto in tutto il mondo. Quando uno straniero viene a Milano, di chi chiede? Di via Gluck. E tu, penso che hai tanti clienti, no? Sì. Di stranieri? Sì, 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 assolutamente. E ti chiedono dove viveva, dove è nato lui? Chiedono, anche quando la mattina vengo a scaricare la merce, mi chiedono dove è nato Celentano, passa gente che non conosco, mi chiedono dove è la casa. Sì. Quindi l'interesse c'è. L'interesse c'è. Io, non so, io non sono niente, non sono nessuno, però mi piacerebbe vedere di nuovo via Gluck com'era anni fa. Questo è un ristorante meraviglioso, si è mantenuto tale, dove si mangia benissimo, quindi ve lo consiglio. E poi c'è lui, c'è Marco, che è un personaggio incredibile, bravo come cuoco. E poi mi piace, sai perché? Mi piace perché tu sai dare alle persone quel qualche cosa quando mangiano che gli altri non sanno dare. Tu sai spiegare cosa hai cucinato per loro. È vero? Così dicono. È solo 22 anni che faccio questo mestiere, tu lo sai. Mi piace, sì lo so. Mi piace, adoro il mio lavoro e quindi sono nato qua dentro perché il giorno che uscì da Niguarda mia madre mi appoggiò col seggiolino sul banco qua, quindi ormai è casa mia. La sento dentro e ci do l'anima, quindi sì, è così. Marco verrò di nuovo a mangiare da te come sempre e mangerò le tue cose speciali. Ti ringrazio. Ti faccio tanti auguri. Dai, anche a voi, grazie mille. Ed è proprio in questo palazzo che tanti anni fa, ma sempre pochi per un grande, è nato Adriano Celentano. Solo questo meriterebbe che questa via diventasse un paradiso terrestre. Se ci aggiungiamo poi che è stata dedicata questa via proprio da lui la canzone più cantata in tutto il mondo, credo che siano due le canzoni, Volare e Ragazzo della Via Gluc, più conosciuto al mondo. In qualunque emisfero, in qualunque continente si canta, sono Ragazzo della Via Gluc. Com'è possibile che una città come Milano permetta questo? Fai vedere. Com'è possibile? Io mi chiedo. Allora, palazzi, il degrado più totale, marciapiedi sporchi, negozi chiusi. Allora, io in questa via ci vengo da… ho iniziato a conoscerla negli anni 90 ed era piena, piena di negozi. C'era di tutto, era una via viva, sicuramente non trascurata come adesso. Pian piano i negozi hanno chiuso tutti e c'è rimasto, sopravvive qualche artigiano. Guarda, tutte per lo più sono, Claire, così, spaccate, chiuse, in disuso. Stanno ristrutturando alcune case all'interno, ma io credo, io, ripeto, l'ho detto prima, non sono nessuno, ma io quello che farei per riabilitare questa strada, io la darei ai ragazzi graffitari che sono straordinari e la renderei un museo a cielo aperto dei film di Celentano. Io farei questo. Mi occuperò ogni puntata di questa cosa, quindi, poi durante il programma, voi vedrete questo redazionale che stiamo girando, quindi ci sarà una mail, scrivete. Io spero di poter fare qualcosa, non da sola perché non posso, non ho l'autorità per farlo, ma spero che insieme a me la causa venga sposata, non tanto dagli inquilini, ma soprattutto dai negozianti e dai ristoratori che a fatica, facendo il loro lavoro straordinariamente bene, riescono a sopravvivere. Ma non è giusto sopravvivere, è giusto vivere. Allora, siamo in un altro ristorante di Via Gluc, perché qui ce ne sono diversi, Terre e Mare. Allora, tu sei qui da 16 anni e mezzo. In questi 16 anni e mezzo, cosa hai visto cambiare in questa via? Sei in meglio o in peggio? Dimmelo tu. C'è stato un periodo che sembrava che migliorava un attimo, però ultimamente potrei scurare. Diciamo che ne parlano da molti che vogliono fare, diciamo, come tante zone di Milano, per avere un po' più curate, pulite. E avviarle, diciamo, perché è un po'. Ma sbaglio? Si diceva anche un po' di anni fa che c'era forse l'idea di farla pedonale. Sì, c'è un progetto da anni, però non sono parole. Parole, che è un'altra canzone. A noi piace più Celentano in questo caso. Ma sbaglio? Anche qui ogni volta che si va a votare viene qualche politico a promettere che Via Gluc diventerà, sarà anche ultimamente? E quindi essendo stato rieletto lui l'ha detto due volte? Sì, cioè arrivano, portano i bigliettini con le loro immagini così. Votatemi? Sì, però di fatti ne vedo poco. Senti, ma tu chiudi tardi la notte qui? No, in qualche occasione, magari fine settimana, di solito mezzanotte. Ma ti capita, perché a me, io quando abitavo qua, mi capitava di vedere gente che dormiva sui marciapiedi o gente che faceva i propri bisogni sui marciapiedi. Io l'ho vissuto. Oh, più che altro quello che ho visto io in tante occasioni, sono magari qualche puttarello, così si fanno qualche dono. Hai detto poco. Quello purtroppo capita, ne ho visti io più di una volta. Quindi sicuramente andrebbe pulita, più illuminata, più seguita, più controllata e chissà, magari riportare in vita, anzi portare in vita perché non è mai stato il progetto di farla pedonale. Sarebbe stratosferico, è vero? Sì, noi aspettiamo, però è da molto che se ne parli, diciamo. Ci stanchiamo di aspettare. No? Di dove sei tu? Sono delle calabrese. Calabrese. C'è l'Ionica, precisamente. Eh, e quindi a Milano stai bene, hai trovato la fortuna. Sì, sì, diciamo, non è come 30 anni fa, però diciamolo bene. Diciamo che Milano è comunque sempre il pane. Chi volta le spalle a Milano, volta le spalle al pane. Sì, a parte gli ultimi due anni che purtroppo è stato massacrato di questo virus. Quindi, insomma, mi aiuti a fare questa battaglia per riportare al bello, al meglio questa via che dovrebbe essere la più bella di questa città? Io da parte mia sono abbastanza disponibile. Bravo, grazie. Allora ci rivedremo ancora. Grazie a voi, buona giornata. Siamo alla via, nella via alle spalle di via Gluck, via San Martini. Allora, innanzitutto vorrei che tu facessi vedere l'ampiezza di questa via, che è una via dove si parcheggia da tutte e due i lati. Ed è quattro volte via Gluck, ok? Prima cosa che salta all'occhio. Ma c'è un'altra cosa. Allora, il Vespasiano di cui parlavamo prima, era lì, me lo ricordo molto bene, era lì ed era una roba allucinante quello che succedeva lì la notte. Ma questo perché ve lo faccio vedere? Perché siamo proprio a dieci metri dalla stazione, quindi la gente scende dal treno, arriva in via Gluck. E questa è un'altra via bloccata, non si sa perché. Perché tutto questo sotto binario dei treni, tutte queste gallerie, se fossimo in una Madrid, Londra, Berlino, qualunque altra città europea, sarebbe il polo della Movida milanese per eccellenza. Quindi dobbiamo muoverci per far sì che questo quartiere sia bello. Ma poi voglio dire, ma se voi avete casa qua, ma muovetevi, no? Cioè se il quartiere diventa bello come vi hanno promesso per cento anni, acquista valore anche la vostra casa. Quindi non state muti, parlate. Siamo qua in postazione Pollo. Allora, vuoi spiegare? Poi lo andrete a vedere su YouTube quando stamattina abbiamo già caricato la marinatura. Vorrei spiegare due parole velocissime. Perché hai scelto di fare questo pollo? Perché è stato il piatto più cucinato durante il lockdown. Certo. Allora l'ho scelto per questa ragione. Logicamente ci vuole il suo tempo adesso per cuocere. Però volevo far vedere che l'abbiamo messo in cottura, vero? Sì. Guarda come siamo carini. La marinatura va fatta almeno 10-12 ore prima, almeno. Con tutti gli aromi che vogliamo ricordare. Allora, rosmarino, salvia, pepe rosa, io ho messo pepe rosa perché mi piace quello, però potete metterlo anche nero. Bacche di ginepro. Bacche di ginepro. Sale maldon. Certo, rigorosamente. Olio buono. Olio molto buono. E poi limoni, limoni spremuti, 5 o 6. E dopo i gusci del limone le mettiamo lì. I gusci ce l'hanno l'uovo. E adesso in cottura, vero? Guarda che bello, stupendo. Meraviglia. Fammi vedere questa meraviglia. Che bello, guarda che pollo, meraviglioso. Non vedo niente, comunque è bello. Guarda qua, adesso lo vedi qua. Eccomi qua. E quindi tra poco noi lo lasciamo andare e adesso andiamo a vedere il trattamento che eseguirà Laura sulle labbra di una modella che si presta, penso molto volentieri, a farsi questo trattamento che andremo a vedere di labbra. Ah, che bello. Voglio vedere anch'io. Vediamo, perché la prossima sarò io, Beppi. La prossima sarò io, sai? Laura quando è pronta parte e noi guardiamo in rigoroso silenzio, ma poi ti farò delle domande, Laura. Guarda che meraviglia. Sì, io sono partita. Quindi tu parti da una base che hai colorato per vedere, giusto? Sì, io ho fatto un disegno preparatorio. Sì. Che è una traccia. Che ti dà la misura, l'ampiezza che devi andare a riempire. Bravissima, un perimetro, diciamo. E adesso vado a riprendere pari passo con questa traccia epidermica, molto leggera. Vedi che la cliente proprio non fa una piega, come si suol dire. Sì. Assolutamente tranquilla. Andiamo a riprodurre questa traccia, questa bordatura, molto leggera. Tu in questo momento stai già lavorando? Assolutamente sì. Sembra che tu stia truccando, pensa che meraviglia. È un mito da sfatare che questo trattamento non si possa sopportare. Guarda, sembra che tu stia passando con un contorno labbra. La ragazza è tranquillissima, quindi vuol dire che sta bene. E quindi il colore che tu stai mettendo è praticamente quello che noi vediamo. Il colore è il raspberry della mia linea, Lord Pigments. E sono dei pigmenti, una linea che ho creato con una mia carissima collega. E devo dire che siamo veramente molto, molto soddisfatti di... Ma non dà mai controindicazioni, vero, questo colore, questo pigmento? No, assolutamente no. Sono ossidi di ferro. Sì? E chiaramente la cliente deve sapere se ha delle allergie particolari. Ok. Ma in linea di massima sono pigmenti testati e di conseguenza non danno nessun tipo di problematica. Né adesso né nel tempo. Quindi non c'è bisogno di fare prima delle prove, di vedere... No, assolutamente no. A meno che, ripeto... Se uno è a conoscenza di questa allergia, che comunque avrebbe dovuto vederla negli anni, sotto forma di qualcosa, presumo, no? Se hai un'allergia lo sai. Esatto, se hai un'allergia sai e ovviamente devi avvisare l'operatore perché... Certo. Chiaro che l'operatore deve essere al corrente sempre e comunque... È una cosa che non... Cioè si capisce già così che non è per niente invasiva, bellissimo. Molto superficiale. E' importante comunque, eh? Molto superficiale qua, Steffi, eh? Sì, si vede. Molto. Ecco, io ho terminato la bordatura... E vai a riempire. E adesso vado a fare esatto la parte interna. Quindi quanto tempo richiede questa cosa? È anche molto veloce. Ma direi proprio di sì. Io penso che in 30 minuti questo trattamento si possa assolutamente fare. Bello, molto bello. Mamma, guarda il pollo, eh? Ecco, adesso mi sposto nella parte interna, eh? Sì. Sempre molto leggera. Movimenti... A spatola, diciamo. Ma sempre molto fluidi, eh? Omogenei. Mi sposto in maniera... Ma nemmeno che tu lo appoggi? Eh, sì, però... No, in realtà... Il trucco c'è, ma non si vede, eh? Però, eh... No, immaginavo una cosa diversa, vedi? Immaginavo fosse come il tatuaggio che è più cruento, come... Eh, sì. Tanti pensano che... Ma in realtà... Assolutamente non è... Non è ciò che dicono. No. Eh, ma vedi, le cose vanno sempre guardate. Io sono certa che... Molte, molte, molte persone che non avrebbero mai immaginato di... Arrivare a fare questa cosa, la faranno, grazie a te. Eh, speriamo di sì. La faranno da te e grazie a te. Hai già scelto il colore, eh? Stefania? Beh, questo è bellissimo. Sì, questo è molto bello, eh? Questo è bello, bello, bello. Dopo voglio vedere il lavoro finito, ma così è... Lo vedo come un mio colore. Bello, eh, mamma? È un colore lampone, diciamo. Raspberry è un colore lampone, poi ovviamente ho aggiunto una parte brillante, che è un rosso organico, che va a tonalizzare... Ah, ecco. Sto guardando la tua cartella colori, bellissima. Sì, esatto, sì, quelle sono le varie tonalità. Sì, da proprio tutti, addirittura il rosso, 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 ma dai. Ecco, proprio quello, eh, rosso organico, il fire. Guarda che bello, mamma. L'hiamo inserito proprio nel... Si possono anche mescolare, eh, quindi... Puoi mettere due o tre colori assieme? Sì, posso creare delle tonalità, oppure se devo correggere, lavorando su dei viraggi, viraggi di colore sono delle tonalità, diciamo... Stiamo vedendo anche una foto? Nel tempo che possiamo correggere, prendono dei colori, diciamo, non bellissimi alla vista, e possiamo correggere con il contrasto di colore. È mezzanotte, mi stanno arrivando tutti gli auguri, grazie. Grazie a tutta Italia e non solo... Grazie mondo! Grazie mamma, che mi hai fatto 57 anni fa. Con tanta patita. Grazie, grazie. Eh, guarda qua. Anche Gigetto mi ha mandato gli auguri anche da Roscio, tutti. Comunque il telefono è pieno, grazie, dopo risponderò a tutti, eh. Vi voglio bene, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie Iari, grazie Filippo, grazie... Beh, ma siete... Grazie Mario, famiglia Compagnucci, grazie. Grazie Tata, grazie Cristian. Eh, ma quanti... Grazie ragazzi. Vediamo, vediamo. Antonio Tirana, grazie. Aldo Roma. Non sei stato il primo Aldo, eh. Sei stato il cinquantesimo più o meno, ma ti voglio bene lo stesso. Grazie, anche io ti voglio bene Antonio. Dopo vi leggo tutti. Torniamo alle nostre labbra. Si vedono, Stefi, il primo passaggio? Si vede, sì. Riesci a vederlo? Certo, assolutamente. Molto bello. Molto bello. Vi piace, vi gusta? È bellissimo. Sì. Bellissimo, molto bello. Ecco, adesso andiamo di nuovo a fare un altro, diciamo, un piccolo passaggio. Diciamo di... Continuiamo praticamente fino a quando non abbiamo raggiunto, diciamo... Arricchisci il colore. Sì, esatto. Vado a riempire ancora. No, no, il risultato è bellissimo. Però ecco, già si vede, eh. Il primo passaggio è già visibile, eh. Grazie Mauri. Ci sta guardando. Ma grazie a tutti, ragazzi. Io non vi... Non riuscirò mai a ringraziarvi tutti perché siete davvero tanti, ma... Mi piace, continuate, continuate. Mi piace, mi piace. Grazie, Ricchi. Ricchi era qua dieci minuti fa. Grazie. Poi il primo è stato Luca, il mio meraviglioso truccatore che mi ha fatto vedere un biglietto di carta auguri grande e quindi mi ha fatto capire che ero nata. Vi ricordo ancora una volta che tutto quello che di curiosità potete avere lo vedrete sul profilo Instagram di Laura, perché io l'ho conosciuta così. Quindi ha un profilo molto interessante. Laura Ogni Santi, seguitela perché ne vale la pena. Anche perché sono tanti i dubbi che uno può avere, eh, su queste cose. Poi stiamo vedendo labbra, però ricordiamo ancora una volta che lei fa tutto quello che riguarda il trucco del viso. Quindi la profondità dell'occhio, l'eyeliner, le sopracciglia. Guarda che bocca stupenda. Allora, per chi ha la bocca troppo piccola, tu la puoi, come dicevamo prima, un po' ingrandire. Sì, assolutamente. Quello che non puoi dare, ovviamente, è il volume. Il volume, esatto. Sicuramente un buon filler potrebbe aiutare anche, diciamo, il nostro trucco permanente. Per colpare le labbra. Sì. Io nel frattempo leggo i miei miliardi di auguri. Ecco, mi concentro più sulle parti laterali, le commessure. Sì. Perché sono le zone quelle più, che hanno più bisogno, eh. La parte centrale invece rimane un po' più luminosa. Certo. Tu prima parlavi di persone che hanno un'età. Sì. E queste persone possono avere delle rughette nelle labbra, no? In quel caso? Eh, le rughette... Vanno riempite prima, secondo te? Sì, sì. Assolutamente sì, è meglio prima... Quindi prima un po' di riempimento... Sì, quel tipo di correzione e poi lavorare sul discorso colore. Quindi l'aspetto cromatico che in questo caso siamo noi. Pensa, mi sta ricordando Marco Fassi che il 16 novembre 2015, cioè sei anni fa, iniziavamo, ora parlo io, dice, coincidente. Dai. Ma dai Marco, sai che non me lo ricordavo questo? Stupenda questa cosa. Bello. Quindi... A questo punto tu hai riempito, cioè hai colorato, sei ripassata un paio di volte. Sì, sto finendo, come ti dicevo, le commessure, che sono le parti laterali del labbro, dove andiamo a dare un po' più di tonalità, di profondità. Sono le zone d'ombra, diciamo. Quindi le lavoro un po' di più, eh? Sì. Invece la parte centrale, come ti dicevo, deve rimanere un po' più luminosa. Certo. Quindi creo questo effetto volume con il colore. Vedete sempre in sovrimpressione anche il telefono di Laura, quindi segnatelo, perché sicuramente da domani il telefono scoppierà. Grazie, Steffi. Già adesso, ma adesso sta lavorando, quindi non può rispondere. Esatto, non posso... Scrivetele che risponderà a tutti. Comunque è molto brava lei, è molto preparata e è un piacere vedere lavorare le persone che sanno fare bene il proprio lavoro. Ti ringrazio, Steffi. È la verità. Poi sei molto anche modesta, che non guasta. Ti ringrazio. Nel frattempo Beffi controlla il suo pollo. Oh, lo sai. Fa venire fame anche a me, però. Dopo il nostro polletto al limone e uno champagnetto e brindiamo. Insomma. Eh sì, dobbiamo festeggiare. Eh beh. Ecco, dopo Steffi, quando ho finito, magari facciamo un'inquadratura per far vedere anche a casa. Dopo venite qua tutte e due. Il risultato finale. Vediamo il risultato finale. Perfetto. Comunque è bellissimo, si vede già. E come. Bello, eh? Guarda. Il capolavoro. Sì, hai ragione, la fine delle labbra è quella che non è mai definita. È un po' che va a perdersi. Sì. Colore stupendo. Guarda il tuo pollo. È il mio pollo? Aspetta che lo facciamo vedere bene, eh. Guarda. Guarda come bolle. Bellissimo. Wow. Beh, io credo che un compleanno più bello di così, Gnocola, era difficile. Sì. Mio programma che debutta oggi, qui in diretta, noi, Laura, tutti, dopo chiamiamo anche Anto che ancora non l'abbiamo fatta vedere. Dopo con Anto parleremo lungamente durante la notte del suo cambio che è iniziato, che ancora deve arrivare, eh. Però diciamo che la partenza c'è stata, vero Luca? Luca. Poi parleremo anche con Luca. Perché Luca è un ragazzo molto giovane, ma molto bravo, che ha le idee molto chiare. Dopo magari ci racconterà come ha deciso di diventare truccatore. Perché dietro ad ognuno c'è una storia. Chi è? Ma tu lo sapevi che lui... Parlavo di te. Tu lo sapevi che era 100 kg, Luca? No. Ah, ecco. Davvero? Sì. Aspetta, allora sei stato bravo tanto, adesso sei secco, secco. Meraviglia, eh. Io farò dimagrire l'Italia. Ancora, Gnocola? Alla grande? C'è un bel bisogno di vannamarchi per le pance. Esatto. C'è un bisogno pazzesco proprio. Certe trippe che camminano per strada, no? Ah, sì. Ecco perché i marciapiedi sono tutti rotti, ci sono le buche. Sì, è quello via Gluck, dice. Eh beh, capirai con tutti questi babbioni, rassettoni che camminano, le strade si rompono. Guarda che meraviglia, vamos. E' un lavoro di precisione, eh, da certosino. Sì. Steffi, ma hai visto com'è tranquilla la... La modella? Com'è? No, dico, hai visto com'è tranquilla la modella? Sembra quasi che dorma. Ah, mi aspettavo, sai, rispondo in diretta. Grazie. Eh, grazie, rispondo in diretta. Grazie. Li vorrei un urlo da tutta la Ginto. Da tutti? Eh, bene, ma... Ok. E quale? Ah, ok, ah, no, no, certo, certo, va bene, ok. A dopo, ciao, ciao, ciao. Vedi, più diretta di così? Rispondiamo in diretta. Siamo tutti in diretta. Altrimenti non si chiamerebbe diretta. No, ma sai, sono tutti... Dopo arriverà anche Nathan, eh? Quindi parleremo anche di fisico, parleremo di motivazione anche lì per ritrovare la forma fisica, come fare, gli integratori, tante cose, tante cose. Mi piace questa notte, bella, bella. La notte è piccola per noi, troppo piccolina, capito? Arrivo. È in primo piano, eh? Volete vedere il mio polastro? Eccolo! Grazie, Shine! Sincero! Sincero! Auguri, sincero! E a volte è anche bello rimanere un po' in silenzio e vedere l'opera che si compie. È vero? Bellissimo! È come un pittore, no? Diceva Laura che lei dipingeva prima. Ah, ecco! Forse eri di là e non hai seguito. E che è passata dal dipingere su tela o su quello che era a dipingere i visi umani. Quindi lo potrei fare pure io? Beh, oddio, bisogna avere delle doti sicuramente che io non ho. Tu sei una brava pittrice, quindi sì. Diciamo che sono passata dal pennello all'ago. È, dal pennello all'ago, è vero. Beh, in realtà è sempre una cosa artistica, sei anche un tatuatore, è un artista. Assolutamente sì. Non si potrebbe concepire questo lavoro fatto, lavoro, come possiamo chiamarlo? Quest'arte fatta da una persona che non sia un artista. Oh, stavo parlando di te adesso, Nathan. Ciao. È già qua, guarda cosa abbiamo. Noi abbiamo il pollo che cuoce, le labbra in lavorazione. Allora, bravo che sei venuta. Dopo chiacchieriamo con te. E quindi sì, è comunque una forma di arte. Bella come tutte le forme di arte. Tu ami, Laura, i ragazzi che fanno street art? I murales? I murales? Sì. Io li amo da morire. Sì, mi piace molto. Cioè, sicuramente anche quella, cioè, ci sono delle riproduzioni anche molto realistiche. Anche quelle arte, eh? Sì. Io ho visto fare con delle bombolette di vernice, delle robe. Ce n'è una in particolare, quel viso di quella ragazza in Via Comune Antico, che è una cosa spettacolare, veramente. Da premio Oscar. Sì. Bellissimo. E qui, ripeto, vediamo ogni tanto qualche foto del prima e del dopo, ma per vedere proprio... Guardate questa, che cambiamento. che bella. Bellissima. Bellissima. Per vedere tutte le trasformazioni che fa Laura dovete andare sul suo profilo e lì vedete tutto, sul profilo Instagram e, ancora meglio, sul sito. E lì allora vedete assolutamente tutto. questo è proprio una cosa meravigliosa. Quanto mancherà, Laura? Io ho quasi finito, eh? Bravissima. Guarda, penso un minuto. Quindi una mezz'oretta e si esce con le labbra truccate per un annetto. Sì. Che meraviglia. Più o meno, si dipende, diceva Laura, dalla pelle, dalla... Sì, allora, il trattamento labbra, Steffi, ha una bella durata, come l'occhio, eh? Cioè, comunque, non va ripreso proprio una volta all'anno, però, insomma, un paio di anni sicuramente... Rimane. Esatto, dopo, chiaramente, ci sono clienti magari che amano quell'effetto molto forte, molto definito, allora lo ritoccano tutti gli anni. Amano, ripeterlo spesso. Diversamente anche fatto dopo un paio di anni. Noi non abbiamo, mi hanno scritto in tanti, io volutamente non ti ho chiesto presti e non te lo chiedo, perché lo chiedete a lei, ragazzi, voi scrivete a Laura e... Sì, il listino... Anche perché dipenderà da una serie di fattori, presumo, eh? Credo, non lo so, non credo esistano, però di questa cosa io non ne voglio parlare perché è giusto che ne parliate direttamente con lei. Posso dire però che tutte ve lo potete permettere? Assolutamente sì. Sì. Tutte? Questo sì. Casalinghe, professioniste, fidanzate, ragazze, purché siate maggiorenni, vero Laura? Sì, assolutamente. Quello assolutamente, credo sia fondamentale. Beh, è già successo che qualche genitore ovviamente rispondesse per... però magari avevano 16, 17 anni, ecco. Cioè in quel caso firmano i genitori? In quel caso esatto il consenso informato lo firma il genitore. Beh, sai, 16, 17 anni, una ragazza se i genitori sono d'accordo è già grande, eh? Sì, certo. Certo non sono più bambini. I 16 anni di oggi non sono più bambini. Ah sì. I tuoi forse sì, anche se tu a 18 anni eri sposata con un figlio, ma insomma... Ma io sono stata deficiente. Ah, beh, quello... Ma molto deficiente, capito? Quello sì. Allora, diciamo che una ragazza che oggi a 18 anni si sposa, insomma, io non la capisco. Però non parlo perché... Forse che quando mi sono sposata io ha firmato mio zio perché il mio papà era morto, non ce l'avevo più. E a quei tempi si era maggiorenni a 21 anni. Gigetto mi chiede a che ora sono nata. Sai che me lo dici tutti gli anni? Sei nata a luna... A luna? Del giorno? Del giorno. Alle 13? Alle 13. Di lunedì. Come mai odio tanto il numero 13? Sono nata alle 13. Strano. Comunque, sono nata alle 13 del 16 novembre. Sono scorpione, scendente acquario. Tuo fratello invece è nato a mezzogiorno. Quindi tutti in ora di pranzo? Sì. Ci piaceva arrivare e trovare una tetta a cui attaccarci? Sì, sì. E ciucciare. Quanto ho ciucciato? Uh, 18 mesi. 18 mesi di ciuccia. Capite? Per quello che sono cresciuta così bella. Hai capito? Io ho finito, Steffi. Oh, bene. Ci siamo noi nei tempi. Max, mandiamo un altro breve video e poi torniamo in diretta così vediamo la ragazza da qui vicino a me. Così la intervistiamo anche e chiediamo anche il suo parere. Su cosa ha sentito? Niente, perché secondo me dorme. Appena poi manda il filmato. Ciao ragazzi, allora abbiamo parlato lungamente di questa via, via che è conosciuta in tutto il mondo, ovviamente grazie ad Adriano Celentano siamo in via Gluck. Io ho abitato tanti anni in questa via, quindi la conosco perfettamente. Non parlo né per sentito dire né perché ho un motivo diverso se non quello di migliorare questa via che io adoro. Allora vorrei cominciare col chiedere questo. Credo sia l'unica o se non l'unica una delle poche via a Milano dove permettono di parcheggiare anche dove non ci sono le strisce blu. Cioè la via che è una via come vedete, io mi metto in mezzo così capite la dimensione, è una via stretta. Allora il parcheggio giustamente è stato fatto solo su un lato, però viene permesso fino in fondo, per tutta via Gluck che è lunga, che si parcheggi su tutti e due i lati. Io vorrei chiedere a chi di dovere per quale motivo, visto che io prendo 100 multe al mese in una via come Napo Toriani, larga 8 km dove i parcheggi ci sono e se ti fermi un secondo, ostruendo di un metro una strada larga 18, prendo la multa. Allora mi chiedo, cos'è che qui vi autorizza parcheggiare? Vogliamo togliere questa fila di macchine? Allora io sono qui con, credo, la persona più autorevole per avere diritto di parole in questa via, che è Sebastiano del Bar Gluck. Ciao, buongiorno, grazie della possibilità. Allora tu sei qui, grazie a te, so che tu ci tieni anche più di me al fatto che questa via torni, o quantomeno torni neanche tanto, perché così bella non lo è mai stata, ma acquisisca un carattere che sarebbe quello che merita, perché vogliamo ricordare che in questa via vengono da tutto il mondo a visitarla. Vengono tantissimi turisti, soprattutto nel weekend, dal Giappone cinese, a visitare veramente la casa 14 di Adriano Scelentano. Quindi, visto che siamo proprio a 10 metri dalla stazione centrale... Poi sono vante tantissime realtà di alberghiere veloci, quindi tantissimi turisti gravitano in questa via, soprattutto via Gluck, via Zuretti, via Edolo, quindi veramente entrano dentro a domandarci dove abitava, dove è cresciuta e nata l'erba, quindi questo è proprio il posto giusto. E ovviamente dalla cantone uno immagina, perché è chiaro, anch'io prima di conoscerla, si parla di periferia, perché allora era periferia. Oggi è Milano, oggi è centro, c'è pieno centro di Milano. Certo, certo. Quindi, tu mi dicevi giustamente, non parliamo solo delle cose negative, parliamo anche quello di buono che già si è fatto. Esempio, me lo ricordo, c'era un Vespasiano lì. Sì, sì, qui proprio all'incrocio tra via Gluck e via Lelunigiana, tra il 2013 e il 2014, quando noi siamo arrivati qui col bar, c'era un Vespasiano verde, e in collaborazione col Comune di Milano, la nostra collaborazione, Bar Gluck, Comitato Parcheggi e il FAS, abbiamo insistito e lavorato affinché nascesse appunto una postazione Bike Me. Questo porta presidio, sicurezza, perché appunto era un luogo di prostituzione, di spazio, insomma, di brutte cose. Questo adesso ha portato sicuramente più apertura, più illuminazione, perché sappiamo tutti dove c'è illuminazione, sicuramente c'è sicurezza, c'è apertura, e avvengono cose meno losche possibili. Immagino. Ecco. Ma ti è capitato di vedere qui cose poco belle? No, noi siamo aperte quasi sempre, Quasacchia 24, addirittura anche mia sorella fa sempre quasi lei la notte, quindi è una donna da sola. C'è. Grazie a Dio, fino adesso no, quello no. Quello che chiediamo più che altro è veramente il decoro, cioè che ci sia più verde, più pulizia. Cosa ti dicono gli stranieri quando vedono questa via? Eh... E' male male? Sì, perché sicurebbe sì, molta più pulizia e più bello, cioè io rompo sempre e puntare sul bello, cioè... Quindi tu cosa faresti? Io vorrei che veramente, mi piacerebbe che sia l'assessorato al verde, che il comune ci desse una mano affinché veramente arrivasse quel verde cantato e che c'era dalla canzone. Ma tu lo sai, bravo. Ecco. Ma c'è questo progetto per fare un'isola pedonale qua? Io lo sentivo quando abitavo qua. Io lo sentivo. Sarebbe straordinario fare via glu pedonale con le panchine, le case tutte, obbligare tutti i palazzi ad adeguarsi. A fare qualcosa di univoco. A fare qualcosa di bello, a rendere gradevole vederla questa via, visitarla. Gradevole, anche nell'immediato, con opere spicciole, quello che potremmo chiedere all'amministrazione è questo, cioè qualcosa di spicciole, immediato, piante. Ma tu mi dicevi che ogni volta che ci sono le elezioni a Milano vengono tutti? E beh, questo come succede sempre. E promettono cosa? Cioè, questo deve accadere adesso. E quindi cosa ti hanno promesso alle ultime? Eh, che partiva questo patto di collaborazione col verde. Facciamolo. Quindi dovrebbe diventare una via piena di... E un po' di piante, di alberi. Sia sul lato di via San Martini che sul lato via Gluck. Ecco, sai cosa mi salta anche a me all'occhio? In qualunque altra città d'Europa, una via come San Martini, che dopo faremo vedere, perché è qui alle spalle, sarebbe il pollo dei locali della città. Se fosse Berlino, se fosse Londra, se fosse Parigi, sarebbe tutto un locale. Sarebbe questo un altro polo come della Movida, come è stato Corsocomo, come tanti altri posti a Milano, come Inavigli, come Sempione, giusto? Sì, sì, sì. Ma perché secondo te c'è questo interesse a tenerla così? C'è sempre qualcosa che si blocca. Non vogliono investire qua? Eh, ma però bisogna partire, perché comunque è una zona battutissima. Dobbiamo fare casino. Tu, ma io o te? Sì, 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 io ci sono. Dobbiamo insistere. Però oggi non deve rimanere veramente, promettimelo, una sola, un primo step. No, no, io ne parlerò ogni lunedì per mesi. Ecco. Finché non vedo un miglioramento, io romperò a questa città, perché è un onore avere un Celentano che è nato qui. Ma è un dovere verso chi viene apposta da tutto il mondo a visitare questa città e quindi questa via. Quindi rendiamola bella per lui, che è amato in tutto il mondo. Dai, e per loro. E anche per noi, per tutti che ci viviamo. E si battono per rimanere aperti in una via resa difficile da tutto e da tutti. Ribadisco col dire che questa via è famosa nel mondo. Via Gluck è la via più famosa al mondo. Cantata. Cantata da tutto il mondo, da l'Africa a qualunque continente conosce di allunghi. Non si può non ignorare. L'assessorato alla partecipazione del Comune di Milano, l'assessorato al Verbe. Io chiedo un minimo anche di Verbe pubblico, che sia lunghi. Partiamoci di fare delle cose semplici, ma che possono dare un po' di lustro. Cioè delle cose semplici. Tu dicevi, qui siamo all'interno. Siamo all'interno. Ti hanno donato. Sì, il Museo del Manifesto, che ha chiuso, che fra l'altro aveva sede in Via Gluck. Ah, questo qua in fondo. È vero. Ha chiuso. Ci hanno donato per vent'anni, in donazione gratuita, i cartelli di quasi tutti i film di Celentano. Meraviglioso, bellissimo. E noi, la via parte, li abbiamo esposti. Faremo anche un evento in collaborazione col museo, col presidente del museo. Quello che ci saremo anche noi. E quindi chi vorrà, poi una volta pubblicizzato, potrà entrare a vedere i cartelli, perché sono gli originali. Ogni volta che usciva un film, buttava fuori. A me piacerebbe da morire. Allora, Celentano io lo amo, lo amiamo tutti. Lui vivrà altri mille anni, assolutamente, perché deve vivere mille e quattrocento anni ancora, minimo, e fare altre bellissime canzoni. Ma io vorrei veramente che gli fosse riconosciuta questa importanza che questa via ha, grazie alla sua canzone e grazie a lui, finché ce l'abbiamo. Cioè, Celentano deve vedere questa via bella, perché qui è nato lui, è nato il super molleggiato, in via Gluck 14, che dopo poi faremo un salto a vedere. Altra cosa che io non capisco, credo sia il palasto più degradato di tutta la via, giusto? Così dicono, io non l'ho mai visitato all'interno, però andrebbe... Allora, parliamo di cose belle. Tu cosa proporresti, visto che tu lavori qui, praticamente... Io dico sempre, e infatti sono sempre lì a insistere con i comitati della zona, cioè operare sul bello per il decoro, cioè anche con delle piccole cose, noi ci battiamo sempre, facciamo letture di libri, invitiamo giornalisti, cioè delle piccole cose che non sono neanche dispendiose per il comune, cioè non è che cerchiamo soldi, fondi... Lo sai a Bologna, nella via dove è vissuto Lucio Dalla, purtroppo qui è stato fatto dopo, l'importanza del farlo, quando l'artista c'è, nella via d'Azeglio dove viveva Lucio Dalla trasmettono le sue canzoni, la sua casa è illuminata, meravigliosa, fanno tanti eventi ed è meravigliosa, è una via straordinaria, ma si potrebbe fare anche qua. E siamo tornati in studio e ci hanno raggiunto nuovamente Laura e questa bellissima ragazza di cui non so il nome, perdonami... Nicole. Nicole. Allora Nicole, cosa hai sentito? Avvicina al microfono. Allora, in realtà nulla, a parte che Laura ha un tocco davvero delicato, non ha usato nessuna crema anestetica, quindi è stata davvero una coccole, infatti in realtà davvero mi stavo quasi addormentando. Eh, ti vedevo. Sì, sì, sì. Beh, il risultato è bellissimo. Sì. Il risultato vuoi commentarlo? Tu che l'hai fatto? Assolutamente. Tu che sei l'artista. Abbiamo fatto questo effetto gloss, ripeto, con questa base lampone, ovviamente l'effetto lucido poi viene dato da queste creme piuttosto che... No. Però chiaramente se noi utilizziamo già un colore brillante di base, nel momento in cui sovrapponiamo poi con un gloss o comunque un prodotto lucido, ovviamente è ancora più brillantezza. Esattamente. È bellissima. Sei contenta? Sì, tantissimo. È riuscita a dare l'effetto naturale che volevo e sono molto molto soddisfatta. Bene. Davvero. Allora, lei, Nicola, è bella? Eh sì. Ma devo dire che adesso sei più bella. Eh sì, lo penso anch'io. Ma molto più bella di quando sei arrivata. È l'importanza della bocca, ragazzi. Sì, dà proprio luminosità, lo sguardo. È tutto. Ecco, vedi che ho ragione io, una donna senza rossetto è monca. Manca qualcosa, no? Cosa fai tu la prima cosa la mattina? Ecco, quindi. Se te lo dà, tu non devi più truccarti. Esatto. Allora, segnatevi bene tutto Laura Ogni Santi Instagram. Il suo sito è comparso mille volte, il telefono anche. Se avete dei dubbi scrivete a me che vi dico tutto. Ok? Laura, grazie. Steffi, grazie a te, gentilissima. Io credo che ci vedremo lunedì prossimo. Assolutamente sì, con un nuovo trattamento. Lunedì magari vedremo sopracciglia, eyeliner, chissà. Poi troveremo anche un uomo che verrà a fare l'altro trattamento di cui parlavamo. Staremo insieme per un po' di tempo. Grazie Laura. Mi ha fatto davvero tanto piacere conoscerti. Grazie mille a voi. Complimenti. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie mille. Grazie ancora. Allora, io vi congedo così perché dobbiamo continuare. Grazie ancora. Non ci baciamo. Assolutamente. Però, grazie. Ciao, ciao, ciao. Buon rientro nel posto più bello d'Italia. Veati voi. Ciao ragazze. Allora, noi continuiamo con il nostro pollo. Poi nel frattempo ci ha raggiunto il guru dell'alimentazione. Ci vuole raggiungere? Abbiamo Fabri? Allora, vieni. Beh, parliamo insieme con Fabri. Ciao Nathan. Ciao, ti auguri. Grazie, grazie mille. Allora, guarda. Tu guardi lì. Lì, ok. Io guardo lì. Ok, Fabri. Appena abbiamo Fabri, ce lo mandi. Quando sentiamo la voce, guarda, noi lo vediamo da qua. Ci siamo? No. Allora, nel frattempo, grazie intanto per essere venuto, mi fa tanto piacere. Il pollo è un nutrimento giusto. Si deve mangiare. Pollo al limone. Perfetto. Perfetto. È la base il pollo. Poco grasso. Poco grasso, un po' di riso in bianco non sarebbe male. È vero. Un piatto unico così, buono. Dai. È tanta roba. Leggero. A casa mia c'è solo pollo, mia moglie, perché è te. Vive di un pollo, mi sento un po' mi ascolta le piume. E il piccolo è un pulcino pio. E il piccolo è un pulcino pio. Perché anche lui, sai che sua moglie prepara delle cose straordinarie per il bambino. Farro oggi, gli ho dato una galletta. No, ho già mangiato 50 grammi di riso. Un anno. Dai. Ah, lo pesa proprio. Pesato. È bellissimo. Beh, l'hai visto il bimbo. Sì, sì, lo conosco il bimbo. Beh, lui crescerà fisicato di natura. Sicuramente con la cultura dell'alimentazione. Certo, se uno cresce così, questo culto dell'alimentazione, poi vede il papà. Gli diamo questo, è meglio, dai. Vai. Gli diamo questo. Cosa faccio? Scusa pure lì. Ah, ok. Perché i miei collaboratori sono timidi, non vogliono farsi vedere. Quindi, mentre i microfonano Nathan, io parlo. E quindi, certo, l'alimentazione, ragazzi, quando si dice noi siamo quello che mangiamo, è vero. È vero. Cioè, d'altronde, basta guardare la differenza che c'è tra le regioni. Questo dice tutto. Il meridione che io amo, e ne faccio anche parte, perché sono mezza sicula, ne sono fiera, e tra poco parliamo con un altro siculo doc, che è fisicatissimo, però è vero che l'80% della popolazione meridionale è in sovrappeso, perché si mangia troppo. Troppo bene e troppo. Basta guardare, se si pensano alle feste, c'è quella cultura che si siedono a tavola, non sono 24 e finiscono il 31. Madre di Dio! Sai che io sono andata a un matrimonio in Calabria, e mi hanno sequestrato per tre giorni, non sono mai più andata, ho rotto tutte le amicizie, ho buttato via tutti i telefoni, non ho più voluto sapere della Calabria, ma guarda una roba! No, perché vogliamo parlare del Capodanno a Napoli? Madre di Dio! Siamo seduti a cena alle 18 e ci siamo alzati alle 10 della mattina dopo. C'è da dire che mia mamma è di Ferrara, quindi anche in Emilia comunque si mangia bene. C'è da dire che le persone che hanno più infarti sono emigliani, eh? Sì. Ma veramente? Sì. Uomini, sì? Infatti lei dice non mi dai soddisfazione perché non ti fai cucinare. Si mangia tanto burro, panna, ormai, o si mangia bene comunque ragazzù. Sì, si mangia bene però, però io insomma non è che amo particolarmente, dai. Quando è troppo è troppo, così è troppo. Così è troppo, sì sì. Però tornando al discorso, noi siamo quello che mangiamo, è vero, cioè. È vero. Sì, sì, i bambini meridionali sono bellissimi perché i meridionali sono più belli, è inutile dirlo. La razza meridionale è più bella, c'è un perché, è più mista, quindi come tutte le razze miste è più bella. Però, però mangiano troppo. Già i bimbi di tre anni sono grazi. Ma già, ma al di là del nord e sul proprio, cioè già da piccolo, vi dicevo proprio oggi mia moglie che va all'asilo per un erector e le altre mamme, la brioscina a due o tre anni. Sì, sì. Ma per carità ora non è che deve essere una malattia. La cittadina, la cosa. Però perché, cioè voglio dire, si può dare anche qualcosa di più sano. Ma tua moglie di dov'è? Che non te l'ho mai chiesto. Como. Ah, è proprio di qua. Como, como, sì. Beh, lei, allora, lei ha partorito questo bellissimo bimbo che ha un anno? Sì, quasi un anno e mezzo. Un anno, mezzo. Ma lei dopo 15 giorni era perfetta. Appena uscita dalla sala parto, panciera, quattro giri di panciera. Poi, vabbè, ma anche in gravidanza era cresciuta poco. Sì, 10 kg. Vuoi sapere io quanto? È giusto. Io ero cresciuta a 30 kg incinta. Eh, ma una volta era così, adesso. 30 kg. Una volta mangia che... Mangia che siete in due. Eh, ma perché non è vero. Mangia che siete in due. Non è vero. E tra l'altro, basta, è finito. E tra l'altro lei mi si incazza perché alla fine io non l'ho mai allenata. E lei dice, scusa, il problema è che il figlio del ciabattino ha le scalpe rotte. Ah, vedi. È così, effettivamente. E quindi lei si allena da sola? Adesso ho deciso di allenarla, adesso sì. Beh, allenarla a un fisico è una statua. Sì, è bella. Però insomma, dare tonicità, insomma, sì. Beh, poi insomma non ti potrei vedere con una non fisicata. No, no. Sarebbe il colmo, eh. No, no, no. Però, oddio, non è, non ci sono anche di quelli che sono fisicati, allenati come te. Se uno guarda i valori di una persona, non deve essere così. Però sicuramente sapere che accanto è una persona che sposa la tua filosofia di unità è più soddisfacente. Perché per vivere con te con te dovresti essere uguali perché tu non mangi. Sì. Non beve. Infatti noi dopo apriamo uno champagne, ma lui non lo beve. No, ma dite triste. Lui non beve. Quando viene inginto due fettine di presaola. Coca zero. Coca zero è già... È già perché l'acqua mi sembra un vizio, eh. È già un vizio. È vero perché l'acqua nuda dice, no, stasera brindo, Coca zero. È vero, è vero. E quindi, no, lui quello che dice fa, ma si vede. Sai cosa? Che tanti mi criticano, però fondamentalmente non mi pesa a me questa cosa. Cioè mi viene... Ah beh, no, ma... Cioè se dovessi mangiare una cosa fuori dagli schemi, ma di stomaco, mi sento pieno, cioè non lo digerisco. Ormai sono abituato all'organismo in un modo... È la tua filosofia di vita, no? Quando ho lo sgarro ogni due settimane che mi concedo quella pizza, mentalmente non vedo l'ora. Poi quando mangiate, sensi di colpa, mi pentio, non la digerisco, bevo tutta la notte sei litri d'acqua perché... Ma che sete! E quindi... Sì, ma in realtà, se io credo che la gioia del mangiare sia proprio una roba che ti appaga quei tre minuti... Esatto, è uno sfogo, sono nervosa, mi attacco al frigo, ma non ne fa perché? Cioè... Fai altro. Che poi non è solo un discorso estetico, ma comunque anche di salute. Ah no, di salute. Perché poi uno pensa solo, sei un esteta, sei superficiale. No, ma fondamentalmente di salute anche... No, ragazzi. Cioè la corretta alimentazione. Tutto essere un esteta non è essere superficiale. Ma è volersi bene, credo. È bravo. Volersi bene credo che sia una ricchezza interiore che dovremmo avere tutti. Perché, insomma, io ho 57 anni, ragazzi. Io peso gli stessi chili di quando ne avevo... Punto, dico però, sicuramente... Tutte e due. Cioè noi siamo... Io ho imparato da lei, cioè è normale. Mia nonna, sua mamma, era ancora di più. Cioè lei mangiava niente. E mangiava come te, mia madre. Sì, proprio no, no, assolutamente era... Però a chi non farebbe piacere essere in forma? Cioè io credo che... Ma esatto. Quando quelli in sovrappeso, io non ho visto bene qua, ma non è vero. È un autoconvincimento. Ma non è vero. Io vedo Davide, che adesso... Che ha mollato un pochino. Ecco, bravo, te lo vorrei odio. Un'altra volta, e non è, non è contento. Certo che non è contento, ma nessuno è contento di svegliarsi. Se fosse facile, quello farebbero tutti. È proprio lì la diversità. Io mi trovo spesso cene dove tutti mangiano, tutti bevono, e quasi sono io quello che prende parole, nel senso... Eh ma cazzo, eh madonna, ma mangia. Eh ma bevi, ma che c'è? Come se la mia concezione fosse anormale, in realtà. Cioè, vuoi, state sbagliato. Eh ma è così, ci credo. Però sono forse. Ci credo. Ma sai, anch'io quando vieni per dire inginto e ti vedo che non bevi neanche un bicchiere, dico, vabbè, anch'io ti dico, vabbè, un bicchiere, però mi rendo conto... Cioè, vengo, mi diverto all'ostelio. Che un bicchiere o niente, meglio niente. Perché o sei uno che va, proprio va dall'altra parte totalmente, beve e mangia, ma un bicchiere perché? Cosa serve? No, no. Anche perché poi, vabbè, un bicchiere. Il giorno dopo, vabbè, un bicchiere. Un bicchiere sommi, fanno 30 bicchieri al mese. Cioè, non è più, eh. Eh no. Io mi ho fatto quelle sigarette così. Ah, sì. Fumo solo il weekend. Fumo solo in discoteca e sono arrivato purtroppo a diventare un fumatore. Avevo smesso, fumo Lycos. Però comunque ho preso il vizio. Avevo preso il vizio. A me si fa così. Io sto prendendo il vizio della Red Bull. Guarda, io non la posso vedere che la taurina mi dà la tachicardia. A me non mi dà la tachicardia, ma mi fa. Eh, però. Si sveglia, sì. Lei una al giorno. Eh beh, sì, adesso passerò a due. No, no. Adesso passerò a due. E poi la pressione è alta e i battiti giù. E mi batto il cuore. Eh? Eh, dai. Però. No, comunque. Qualche vizio bisogna pure averlo. E io ho il mojito. Eh, che cavolo. Il mojito è vero, seguo le storie. Lei è il mojito e non solo. Non solo. Mi piace lo champagne. Ciampagnino. Vabbè, a me bere piace. Sì, però lo beve con una concezione di... Cioè, non perché vuole o bracca, perché ha sapore, per il piacere di berci. No, no, perché mi piace, perché mi piace. Però certo, io così come ho dimostrato, io ho smesso di fumare dall'oggio al d'oggio. Domani. Tu m'ha visto? Sì, un pacchetto e mezzo al giorno. Ma tantissimo poi, eh? Ma non mi ha detto. Malvaro e Lucky Strike. Ho smesso nel 99. E ho smesso di botto, perché hanno avvelenato la mia cagnona. È stata male, però, eh? E sono stata malissima, è stata malissima. Sì, sì. Perché anche quello, sai, smettere così di botto. Allora, i primi mesi non l'ho accusato tantissimo, pensavo peggio. Dopo arrivo. Cioè, i primi mesi mi mancava la gestualità. Esatto. Allora tenevo una penna, fumavo la penna, vabbè. Dopo il quinto o il sesto mesi, perché io proprio dall'oggio al domani basta. Ah, ok. Mai più. Perché mia mamma ha fatto il taglio. Mai più. E dopo un po' evidentemente mi mancava la nicotina, quindi ero di un irascibile tremendo. Però non ho mai ceduto, mai ceduto, mai, mai. Io ho provato due o tre volte, adesso perfetto ho fatto quest'Aikos che... Che puzza. Che puzza da far schifo, che... Che voglio ammazzare Antonella. Il gesto però... No, io ti dico l'età, ho iniziato a passare a Aikos perché fumavo giustamente in casa con il bambino, no? Quindi uscivo. Ah. Quella vampata di fumo che per mia moglie che non fumo è fastidiosa, baci il bambino. Mi dico, vabbè, Aikos la puoi fumare in casa e... E non ti lascia addosso. No, mi rompe uguale, mi dice che schifo, che puzza, lontanati, è uguale. Sì. Me lo dici uguale. Se lo fumi vicino si sente. Sì, 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 sul divano me lo dici. Eh, no, si sente. E invece Fabrizio che non fuma, ma fuma solo quando fai video in discoteca, il motivo qual è? Fabrizio fuma il venerdì e sabato. E basta. Come una ciminiera poi il venerdì e sabato. Qua tante settimane, anzi, se fumi in giardino, chiudi la finestra, chiedi che puzza. Eh, vabbè, è forte. Sì, vabbè. E però sigarette. Sigarette, sì, Marlboro Light. E fa figo. E fa figo. Fa più bosta. Sì, sempre. Occhiali da sole anche le due di notte e sigarette. Occhiali da sole, coppola, spesso, e sigarette. Beh, fa più San Vittore. Esatto, e Fabrizio. Si cala nella parte. Esatto. Eh, io, guarda, dico sempre, coppola, coppola. Perché sei andata là, vieni qua. Se non ho ricominciato in carcere a fumare vuol dire che non ricomincerò mai più. Perché lì veramente fuman tutti, eh. Tutti, tutti, tutti. È un disastro, è uno schifo. In carcere fumano tutti. Però fondamentalmente, penso, per, credo, spero, per noia, non lo so, no. Sì, per noia. Sai, c'è gente che fuma tre, quattro pacchetti al giorno. Disastra, è una roba. Poi diventano pasti perché oltre quel tot non puoi comprarle. Quindi sperano che gliele copriano. Magari litigano anche, è fonte di discussione. Quindi è brutto. Ma sai, tutte le dipendenze, a parte noi creiamo dipendenza, io, cioè... Però è una dipendenza, vedi? È una dipendenza. E poi non è poi fanatico, è una dipendenza. Ma sai che è bellissimo perché già stasera tutti scrivevano, eh. Abbiamo acceso la televisione dicendo, vabbè, ti guardiamo dieci minuti e non riusciamo più a spegnere, sappiamo già che arriviamo a mattina. È vero, è vero. È bellissima questa cosa, eh. Cioè è una roba... In realtà, vedi, quanto poco ci vuole. Cosa stiamo facendo noi? Chiacchieriamo di tutto. Chiacchieriamo come se fossimo inginto del più del meno. Di tematiche che magari interessano perché comunque lo sport, l'alimentazione, il trucco di prima, comunque l'estetica. Chiacchieriamo. Chiacchieriamo di quello di cui si parla in un locale, di cui si parla a casa, di cui si parla... È bello, è bellissimo. Ma una cosa, quando vengono in palestra, Chiacchierano o no? Perché devono stare zitti che fanno fatica. Però un po' si chiacchiera. Sì, ti spiego una cosa. Cioè il personal... Cioè Fabri? A me? A lui? A me? Aspetta, che non ho il telefono. Eh, e quindi? Dicevo, però il personal trainer, cioè, oltre a sapere allenare che quello è fuori discussione, deve essere anche capace a essere, passami il termine, un venditore a fidelizzare il cliente, e tu lo sai. Certo. Sei la numero uno in questo. Certo. Cioè, tu talvolta, anche se eticamente contro ciò che tu hai studiato, ciò che tu vuoi trasmettere, se trovi un cliente che viene in palestra perché è solo, perché usa quell'ora anche per stare in compagnia e sfogare, per socializzare, certo. Devi essere bravo a farlo lavorare, con la chiacchiera non fargli pesare, cioè, anche psicologia. Hai ragione. Poi c'è quello che viene, non ti rivolge la parola, dritto l'obiettivo, facciamo questo, non crea legame, cioè, rimane proprio cliente trainer, beh. Ho visto che stai allenando Gwenda. Gwenda Lina, Antonella Fiordalisi. Antonella, e lei chiacchiera a Gwenda? E Gwenda è brava. Sì, sì, 40 anni, informa, grosse storie, un allenamento, 45 minuti col telefono in mano. Ah sì, ah, ok. Però fa parte dello spettacolo. Eh no, perché io quando vedo le storie, non capisco perché, perché è la sua, il paletto. Anch'io, e le hai chieste in una storia, ho visto? No, perché faccio tardi la storia. Ma sì, ma è tutto parte del personaggio, ma è solo per la storia, perché con lei abbiamo creato quella cosa. Ma chiama, invece è bello. Fa parte del giochino. Ma vedi, la gente poi così, parliamo anche di questo, vediamo come la pensi tu. Allora, voi condannate, per dire, un gesto così, cioè di uno che gli va di allenarsi con gli occhiali, che non fa del male a nessuno. E oggi io ho preso le difese di Eleonore Ferrutti, che ha... Ho visto, su Lady Gaga, sulla storia, l'ho visto. Che, ragazzi, cioè per me è quello che ha fatto Lady Gaga, io sono d'accordo con quello che ha detto Sabrina Ferilli, cioè se l'avesse fatto un italiano l'avrebbero messo alla gogna, eh. Cioè, ma come ti permetti? Ma cosa vuol dire? Ma poi perché? Cioè, quel gesto lì, cosa vuol dire? Cioè, ti regalano un mazzo di fiori. Beh, voglio dire, lascialo lì, fai la scena, te lo porti in albergo e in albergo lo butti per terra. Motivo? Cioè, qual è il motivo del buttarlo per terra? Per far parlare? Non lo so. No? Non lo so. Ma è buca... Boh? Che capone comunque. Sì. La capone. Cioè, contro un paese che ti ha dato un'opportunità, vabbè che tu sei Lady Gaga, per carità di Dio. Sì, però cinematograficamente è la sua prima. Eh, cavolo, hai girato soprattutto a Milano, a Venezia, comunque in Italia. Beh, cioè, fai un gesto così in Italia. Boh. Però hanno detto che a me, proprio tu parli. No, proprio io parlo, sì. Proprio io parlo, sì. Perché non è che perché uno in passato è stato in galera perde il diritto di parola, ragazzi, eh. Cioè, toglietevelo dalla testa. Io sono in televisione e parlo, e parlo tutto il giorno, e ricordatevi sempre che io sono vittima di pregiudizio da una vita, ecco perché amo Fabrizio Corona, perché lo vive quanto me, ma quando uno la sua pena l'ha espiato e pari agli altri, eh, con una differenza, ragazzi, che i miei peccati sono diventati pubblici. Voi, peccatori del cazzo, che peccate sempre, in segreto, pensate di essere santi. A me i santi non sono mai piaciuti. Io amo Madre Teresa, l'unica santa che avrà sempre la mia venerazione, ma lei era veramente santa. Ma che voi facciate i santi perché fate i porci in privato, non fatelo con Stefania Nobile, perché io parlo, eh. Attenzione. Io parlo, io parlo. Perché i miei peccati li ho pagati tutti. Adesso ne farò degli altri. Ma diversi però, quelli per i quali non si finisce in carcere. Quelli li voglio fare tutti. Giusto. Sei d'accordo? Sì, se no, per giudizio lo so, perché essendo il miglior amico di Fabrizio so che... Ecco. C'è lui, c'è la Stefia, allora sicuramente è una true, allora sicuramente sarà una... Ma non è vero. Anzi, anzi, ragazzi. Voi dovreste ragionare in un modo intelligente, ma non lo siete. Molti sì. Ma quella piccola parte di ottusi, di rancorosi, di coglioni, di vigliacchi, perché il pregiudizio è una forma di invidia e di vigliaccheria, dovreste capire che se una persona con il mio passato dà la propria faccia ad una cosa, sa di avere puntati. Non solo i riflettori qua dello studio, ma tutti i riflettori del mondo, di conseguenza sta molto attenta a quello che fa, perché in galera io non ci torno più. Ve lo dico, ragazzi. Quindi. Sì, quindi. Anzi. E Fabrizio ha dimostrato, ha dimostrato, che non ci doveva nemmeno tornare quando ci ha tornato. Anzi, la Cassazione, cioè ha detto dobbiamo sbagliare. Quindi, ragazzi, prima di parlare, se una volta a me hanno detto una frase bellissima, che quando uno punta un dito verso te, ce ne sono quattro verso di lui. Questa è la frase più bella. Comunque io sono contro qualunque forma di pregiudizio, detesto il pregiudizio, e quindi durante questi sei mesi che trascorreremo insieme, questi lunedì, tutti i lunedì, qui ai prossimi sei mesi, affronteremo varie forme di pregiudizio, perché il pregiudizio lo vivono svariate persone, c'è il pregiudizio che devono vivere le persone di un orientamento sessuale diverso, il pregiudizio di chi ha un colore della pelle diverso, di chi ha un ceto sociale diverso. Se entro in un locale, tutto tatuato, sarà un criminale, un tossico, un bandito, un violento. Vi sembra giusto? Vi sembra normale? Ma è così, perché lui per esempio per una sua scelta, lui fa il lavoro che fa, per cui può fare tranquillamente, ma se lui decidesse di fare un lavoro diverso sarebbe penalizzato. Assolutamente. Per i tatuaggi, ci rendiamo conto nel 2021? Cioè noi giudichiamo e puntiamo il dito verso una persona che ha un tatuaggio, 100 tatuaggi o 1000 tatuaggi, e magari viviamo con uno che è uno stupratore e lo sapremo forse dopo 40 anni. In giacca e cravatta. In giacca e cravatta. Vogliamo parlare di quello dell'Agenzia Immobiliare di Via Monte Napoleone? L'hai sentita questa cosa? Allora è successo a dieci giorni fa. No, meno. Una settimana fa. Un'Agenzia Immobiliare di Via Monte Napoleone pare abbia già abusato di tante donne che stanno saltando fuori. L'ultima cosa che ha fatto, era già anche stato accusato, questo non lo sapevo, era fuori ovviamente, ma certo ma il carcere si apre solo per certe persone. E cosa ha fatto questo? Allora, ha conosciuto questa coppia, marito e moglie, tra l'altro con un bimbo di pochi mesi. Li ha adescati con la cosa dell'immobiliare, vabbè li ha convinti a fargli vedere un box, prospettandogli questo affare di questo box. Una volta visto il box ha detto vi porto a bere qualcosa, li ha drogati con la droga dello stupro e siccome la coppia è stata male si è offerto di accompagnarli a casa. A casa davanti al bimbo di pochi mesi ha abusato, e il marito drogato anche lui, poveretto, ha abusato di questa donna incosciente per ore. La donna quando si è svegliata, ovviamente stavano male tutte e due, ma lei ha capito che c'era qualcosa, è andata in ospedale, in ospedale hanno accertato lo stupro, le violenze e tutto il resto, e sono andate a casina di questo signore. Ecco, questo signore che l'aveva già fatto per anni in passato, era in giacca e cravatta tutti i giorni, era in Monte Napoleone tutti i giorni, avrà avuto una bella macchina, frequentava bei locali. Quindi ragazzi, prima di puntare il dito, non pensate al passato di una persona se la pena l'ha espiata, ai tatuaggi, al colore della pelle, o se non ha la bella casa, o se poraccio non è vestito bene, perché il pregiudizio è una cosa che spesso ha portato anche al suicidio, ragazzi, quindi non si scherza su queste cose, mai, non si scherza, poi si parla di bullismo, di omofobia, si parla, ma tutti i giorni ci sono persone che sono vittime di bullismo, di omofobia, o chi come Stefania Nobile, Vanna Marchi e Nathan, per altri motivi, perché lui in carcere non c'è stato mai, ma il pregiudizio si vive per tante cose, ed è bruttissimo. Sapete quante volte io mi sono sentita e mi sento squadrata dalla testa ai piedi con quella superiorità, mi capita giornalmente, è il mio pane, io mi diverto da morire, io mi diverto da morire, perché io ho una forza che ho acquisito negli anni, e riesco a tramutare quello che è di nocivo in positivo, quindi dalla vostra coglionaggine io faccio la mia forza, a me non mi scalfite, però non sono tutti forti come Stefania Nobile. Quindi cosa consigliamo noi a questi ragazzi che magari, l'altra volta hai centrato molto questo tema, e tanti ragazzi mi hanno scritto, ad esempio il truccatore Luca era a 100 kg, raccontava prima a lei. Sì, mi ha raccontato. Poi gli è scattata quella cosa in lui. Sì, dopo magari glielo chiediamo. Un certo giorno ha detto io non mangio più. Ma infatti guarda, credo, come è successo a me, in primi si deve scattare in te stesso. Sì, e dopo. Questa voglia di guardarti, di non piacerti, di non sentirti anche magari appesantito. Anche io non mangio più non va bene. No, assolutamente. Bisogna, vero? Non va bene. Io mangio 7-8 volte al giorno. E cosa mangi? Le quantità c'è? Poco spesso. È fondamentalmente sbagliato dire non mangiare. Io mangio riso, pollo, bresaola, uomo. Però, cioè, come lo mangi in quantità? Vanno fatte delle fasi di carico, di scarico, i carburati un po' simpono. Toglierli del tutto è sbagliato, ingozzarsi è sbagliato perché comunque poi diventi insulino resistente. Non mangiare è sbagliatissimo. Per me è sbagliato non mangiare. Quindi quelle ragazze che vediamo, no, quando c'è la moda a Milano che si presentano, poverine, per fare questi casting. Però credo anche che l'agenzia, cioè lì, parta anche dall'agenzia. Ma perché adesso c'è questo modello di donna così? Le viene in culcaco, cioè questa cosa qui della magrezza. Tu alleni anche Nina, che per me, io l'ho sempre detto, ma non lo dico adesso perché frequento Fabrizio, per me Nina è la donna più bella del mondo. Io ho mai visto una donna bella come Nina. Però, sì, ma quando lei sfilava, quando era nel pieno del suo... E lei dice, solo una modella è questa, esatto. Non era morta. No, no, era alta, quindi... Era stupenda, è ancora stupenda, adesso è molto magra. È più magra adesso rispetto ad allora. Bella uguale, bella sempre. Però i canoni della modella sono cambiati. Zero seno, perché con un seno che non è così. Un seno sei volgare. Ma non sei una donna. Il seno credo sia femminile. Esatto, è simonimo di femminilità. L'abbigliamento di una donna deve vestire delle forme. Certo, è una modella, quindi magra. Bianche e cadaveriche, perché devono essere proprio bianche. con queste sopracciglia. Sì, sì, adesso è sicuro. Beh, non vedi quando c'è la madre a Milano, con queste ragazzine. Magra, magrissima, cioè poco, veramente poco attraente. Proprio che sono piegate in due. Non puoi dire se assolutamente possono attrarre uno. No, non credo. No, almeno personalmente no. Ma non riesco a capire, perché il canone di bellezza femminile deve essere una cosa che dà l'idea della sofferenza. Brava, perché anche mia moglie è magra. No, tua moglie è magra, ma... È magra, però c'ha il culotto, c'ha il seno, no? È in forma, è magra perché è costituzionale, perché sono in forma. Un conto è magra perché non mangio, perché sono scavato, perché non sto bene, perché prendo gli occhiaia fino a qua. Farmaci diuretici, ma è quello che... Ma poi è a 16 anni, a 15 anni. Quindi poi come diventi? Anche questo sarebbe un tema da approfondire, eh? Sì, sì, sì. Innamorato adesso, però era con l'amore? Non lo so, l'ho sentito, no, l'ho sentito alle 10 e mezzo, quando vieni qua, sto lavorando, sto lavorando. Vabbè, noi abbiamo tempo, eh, siamo qua. Sto lavorando, lui, lavoro, lavoro. Senti, e quindi tu sei tutto il giorno in palestra? Tutto il giorno in palestra. Parte quando vado a fare lui, che essendo i domiciliari faccio lui a casa, che abita un chilometro da palestra neanche, e poi palestra, sì, sì. Ho visto che alleni anche Carlos. Anche Carlos, sì, 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 sì. Sì, tutta la famiglia, lì la Carlos è stupendo, adesso è in un periodo che è stupendo. Sì, 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 sì. È un barraga, ma era un bambino, ma era un bambino. È un bambino, ma era un bambino. È un bambino, ma era un bambino. È un bambino, ma è altissimo. Sì, sì, sì. È altissimo. Fibra croata della mamma, colore siciliano del papà, quindi è bello. Sì, è bellissimo. È venuto quel mix, eh, vedi che le raste miste, ho ragione io. È vero. Raste miste sono stupende. Tu di dove sei di origine? Ferrara, cioè Emilia dalla parte della mamma e Veneto dalla parte del papà. Veneto, beh, comunque del nord. Sì, sì. Che vederti non si direbbe, vedi? Sì, lo so, lo dicono tutti. I colori sì. Sì, chiaro. I colori li hai da ragazzo del nord. Però ti avrei detto meridionali. Sì, ho anche l'atteggiamento, un po' il cafonaggio. No, cafonaggio. No, ma per me è comunque un complimento, perché l'ho detto prima per me. Io, un bell'uomo al nord non è che ne veda tanti, eh. No, no, no. Cioè, l'uomo, soprattutto a Milano, l'uomo milanese. È vecchio. È vecchio dell'animo. È grigio, è colore dello smog, è colore dei soldi. Sì, 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 è vero, vero. Dei soldi che non ha. Beh, certo, è colore dei smog. È vero, vero, vero. Luca, vuoi venire a... No, ma adesso sai cosa facciamo? Ci trasferiamo tutti sul divano. Sì. Però, no, però dobbiamo finire il pollo. No, no, ma è tranquillo che io vado avanti e indietro. Perché così... Perché prima che si finisca il pollo... Sì. Hai capito? Adesso devo rimettere sotto Davide? Eh, bisogna. Dopo arriva. Lo so, ho visto le storie arriva. Eh, bisogna metterlo sotto, sì. Bisogna metterlo sotto. Non ne ha voglia, dai. Solo che, no, il problema di Davide lo sai qual è. Che lui vuole la palestra, con la sauna, il bagno turco e... Infatti mi ha detto, vieni tu da me al principe. Sì. Se apre vengo, per lui lo posso fare. Ma in realtà lui, cioè la palestra è aperta. Ma non capisco perché no, la sauna e il bagno turco. Penso per il co, però a questo punto per esatto. Ma basta. Cioè, non capisco. Allora, si va in discoteca, finalmente, che meraviglia. Per i ragazzi. Si va agli stadi, con il cielo. Si va agli stadi, si va ovunque, beh, cosa vuol dire? Perché la sauna e il bagno turco, anzi, scusa, moriranno questi porci di bacilli, lì, questi merdi di microbi dentro. Sì, con la temperatura così sicuramente. Eh, che cavolo. Dice che prolifera nel freddo, lì dentro se si bolli vivi, che problema c'è? Non capisco. È vero, è vero. C'è qualcosa che mi sfugge a me, non capisco. Boh, ma non solo al principe, eh. No, ovunque, sì, sì. Quindi, non lo so. Senti, si comincia a riparlare di zona gialla, eh? Però io se io, adesso entriamo in un altro tema, io mi viene voglia di dire una comanda, ma che cazzo mi sono messo da fare? Anche io. Cioè, nel senso, se posso dire. No, no, ma io lo chiedo tutti i giorni. Cosa è certa, se ci viene detto che ci vuole il Green Pass per entrare in certi posti, ne in quei posti devo entrare chi ha il Green Pass. Benissimo. Tu non vuoi vaccinarti, sei liberissimo di farlo, ma non puoi entrare. Ok. Ma allora, vogliamo capire la differenza, perché? Esatto. Perché non torna però tutto normale per noi vaccinati? C'è una volta... Fatece ne uno al mese di vaccini, a me va bene. Io a volte in palestra, la mascherina, hai ragione, però dico, ma ci hanno fatto fatto fare? Ma sì. Cioè, se non ho nulla, se è uguale a prima, allora non... Ma è vero, no, no, ma è vero. Ecco perché poi probabilmente molti non si convincono a farlo. Anche se... Eh. Cioè, adesso dico, noi critichiamo l'Italia, perché sento parlare... Sono stato ospite a Zurigo, in un locale, ma non è come qua, la Svizzera. Cioè? Cioè, se noi qua diciamo che scassa balle, che rigidità, ma là in Green Pass... Non fai niente. Con annesso di un documento. Qua tante volte in locali, spa, documento, contro, ma ov... Cioè, la Svizzera non scherzano. Che sarebbe anche giusto, se vogliamo, perché io posso darti, dare il tuo... Perché adesso, onestamente, ti vado in discoteca, tu con la coda che c'è, sparo, bip, se c'è scritto Paolo Rossi, come fai se... Ma infatti hanno fatto la prova di... Siamo sempre... Passando con stiti Green Pass assurdi, vabbè, non fatti. Svizzera sono... Poi erano Zurigo che è Svizzera tedesca. Eh. Puoi immaginare? Immagino. Sì, se non scherzano niente, direi. Bene. E' giusto che sia così? E se c'è una regola è quella. Ragazzi, le regole, sai, vengono applicate per... Perché si rispettino. Poi se noi vogliamo non rispettare niente... Io penso... Io posso anche concepire quelle persone che rifiutano tutto lo status, no? Sì, sì. Di un governo e si ritirano. Io leggevo anche di... Papà e mamma che vanno a vivere nei boschi, le cose. Io non capisco, però. Volete crescere i figli in mezzo ai cerbiati, i cosi. Non li mandano a scuola, fanno le scuole online. Sì, è vero. Ma che brutta roba, però, dai. Ma sociale, eccetera. Ma insomma... È una cosa che io non... Io potrei morire, perché io se non vedo qualche essere umano per otto ore mi sento male. Ecco perché non amo tantissimo il lago. Il lago di Garda è bellissimo, però c'è poca gente per me. Io mi sento persa, io sto bene in mezzo... Io starei bene a New York. Però capisco tutte le scelte. Ecco, se siete associali bisogna fare questo. Uno si ritira, si fa una casa sull'albero e... E allora lì le regole... Non esistono regole. Anche perché tra l'altro per la zona gialla... Io parlo del mio settore, ma l'aginto è stato... Cioè, il locale va di pari passo alla palestra. È certo. Se dovessero mai chiudere, credo che sia la fine. Per l'ennesima volta, no, è la fine. Non so, non so. Io magari, probabilmente, la mia palestra, essendo 80 in Italia, la trafittà è ok. Ma chi ha una singola palestra, l'aginto è forte, ok. Ma se uno ha un baretto... No, è finito, è finito. Allora, già questo ne ha decimati tanti. C'è qualcuno che è sopravvissuto e sta cercando ancora di pagare i debiti di... Ma se ce ne fosse un'altra di chiusura... Anche perché torno alla Svizzera, c'è rigidità. Sono pesanti, sono delle scasse balle, ma hanno dato... Hanno so menzionato in un modo diverso l'Italia. Eh, sì. Cioè, è stato chiuso, ha preso, eh. Certo, certo. Quindi sono pesante, sono metodico, ma se chiudo... Ovvio. Prendi, non è... Sì, vivi... No, no, è vero, è vero. Io sono partita, io ho preso 600 euro due mesi, sono preso un anno, ho un figlio, e mi sono inventato, ho lavorato lo stesso, all'interno di uno spazio privato. E come fate tutti? E andavo a lavorare, che sembrava che stavo a rubare con la vergogna. D'vergogna di andare con un cappuccio. È pazzesco, guarda, è pazzesco, sì. Anche noi che facevamo i delivery ci sentivamo gli assassini criminali. È pazzesco. No, è vergognoso, eh. Ecco, questo magari... Questo dovrebbe essere un argomento vittima di pregiudizio. Cioè, far sentire ladri chi voleva lavorare è terrificante. Io ho preso una multa, per esempio il caso, sottolineare Fabrizio in quarantena. Ah, mi ricordo. Durante il primo lockdown, poi vabbè, ho dato la duo sul caso della Madonna. Perché sono andato a lavorare durante il lockdown con una persona che era in domiciliare e che sicuramente non poteva avere il copio, non puoi uscire di casa. Eh, non faccio. E erano due, e mi hanno fatto una multa alla Madonna, mi hanno segnalato, perché stavo andando a fare il mio lavoro. Dai, da stessa. Se ero al bar, non si può... È un paese strano questo, eh. È un paese strano. 800 euro. Poi sai, se andiamo a analizzare, parlavamo prima con Ermal, che è un presentatore albanese. Ancora in Albania c'è la chiusura alle 11 la sera. Cioè, ancora. Però vedi, in Albania... Ma motivo, quale? Noi andiamo sempre, almeno la maschera non ce l'ha nessuno. Sì, ma capisci il controsenso, però? E poi però... Con tutto l'amore che ho io per l'Albania, che è noto al mondo. Cioè, ma si può. Non ci sono, non c'è obbligo di mascherina. Sì. C'è affollamento ovunque. C'è il tasso più basso di vaccinati e chiudiamo alle 23. Boh? Ma motivo? Ma cosa vuol dire? Adesso in Austria partiva da oggi il lockdown solo per i non vaccinati. Eh sì. Che però... E chi lo guarda? Dovessi bravi, dovessi fare l'Italia, il furvetto, cioè se io ce l'ho... Fermo uno per strada in... Eh, dice no, possono uscire solo per andare a fare la spesa. Perfetto. E cosa mettiamo? Adesso hanno preso di mire Pippo Franco lì. Ah sì. Sai? Sì. Che madonna, ne parlano tutti i giorni, tutti i giorni. Lo vogliono proprio rovinare, coraggio. Eh no, l'hanno già rovinato. Ecco, questo magari l'hai dato una volta la notizia, anche basta. Perché dopo diventa stalkeraggio. Cioè, l'hai detto? Basta. Ci penserà chi di dovere sarà stato multato e basta. Non è che lo dobbiamo lapidare, crocifiggere, sodomizzare, uccidere, bruciare vivo. E beh dai, ma no, ma l'Italia è questa. Ah ma noi le conosciamo. Scegli una persona da mettere a rogo e basta. Sentivo parlare quest'anno, dai, Natali e feste libere. E ci mancherebbe altro. Sai che ci hanno chiuso il Natale scorso. Eh certo. Si parlava di potete che chiusura ancora sotto Natale. No, ragazzi. Io sono, ho anche un altro bambino, sono separato, non sono separato. Sì, l'ho conosciuto tutto, bellissimo bimbo, grande. Non ero sposato, però viveva in un'altra regione e io ho dovuto fare 3-4 mesi, anche mio papà viveva in Piemonte e anche mia mamma, e 4-5 mesi. Senza vedervi. E non si poteva uscire dalla regione a trovare dei parenti, sai, gli amici, che erano considerati un padre in Piemonte. Beh anche noi non abbiamo visto Francesco, mio papà, per 4 mesi. Perché lui era sul lago. Lui era sul lago e noi eravamo qua. Cioè, comunque mia papà è giovane, lì ha 65 anni, però. Eh beh. Non ti dico gli ultimi anni, perché vivono altri 60 anni. Però. Ci hanno privato di tutto, sentimenti, tutto. Poi già siamo fortunati che abbiamo le videochiamate. Sì, esatto. Allora, almeno, almeno ci si poteva vedere. Quella pubblicità, non mi ricordo cosa promuoveva, che c'erano i nonni che parlavano con i nipoti in videochiamata, era terrificante, un dolore al cuore enorme. Eh sì. Ma non ho mai ricordo questo. Un dolore al cuore, veramente. Luca dai, vieni. Sembro io. Ci racconti, Anto, vieni anche te, che non l'abbiamo ancora fatto vedere l'Anto, nel suo cambiamento. Allora, buonasera, buonasera Luca, prego, guardi, si accomodi. E Luca ha perso i chili? Io ho perso i chili. Tu sei microfonata? Ah, allora parlate. Parliamo insieme. State vicino. Sì, state vicino. Io ho perso, sì, 100 chili. Microfono ho preso. Cioè, no, 100 chili, pesavo 100 chili. Microfono ho preso. Pesavo 100 chili. Pazzesco. Poi da là sono arrivata a pesarne 46, stando malissimo. Da 100 a 46? Sì, in 5 mesi. Ma scusa, cosa ti è scattato? Ci chiedevamo prima, cosa è stata? È proprio la cosa di dimagrire, forse la società. È giusto questa cosa che ti ho detto? Sì, sono arrivato proprio al 98, da là ho detto, il 100 non li voglio vedere. E quindi ho detto, è scattato proprio, ti deve scattare, come ogni cosa. Ti deve scattare. Che sia come il fumo che mi ce l'ha fatto prima o qualsiasi altra cosa. E quindi cosa hai cominciato? Non mangiavi più? No, zero. La cosa più sbagliata da fare. Assolutamente. È una cosa completamente più sbagliata da fare. Perché? Perdi le forze. Io ad un certo punto non riuscivo più ad alzarmi dal vetro. Il corpo ha bisogno di qualsiasi tipo di nutrimento, del carburato, della proteina. Poi io ero fassato con le calorie. Con le cose di sottomarca avevano meno calorie delle cose di marca. Ma dai, addirittura. Le barrette, ad esempio le barrette. Le barrette, le classiche barrette, quelle di marca hanno più calorie rispetto a quelle di sottomarca. Ma ti faccio una domanda a te, mai avuto qualche sbagliatura in questo tira e molla? No. Perché questa è una cosa che chi fa queste grosse esplosioni, da tanto, ma in modo drastico e rapido, la pelle tende a fare da elastico. Ho sempre fatto roller, quindi la parte sotto, la parte sopra fai fatica. Fai fatica perché devi allenarti. Adesso quanti kg sei? Adesso è 67. Però hai fatto questa pereta senza attività, tra l'altro sportivo? No, andavo sui roller. Fino a quando ce la facevo, poi davvero. No, no, senza attività mai. Mai attività, poi da là... Infatti anche questo non è un errore, però. Se tu fai una grossa pereta di peso, tendi a fare come una pera. Cioè, ti rinsecchisci, ma non in modo tonico. Ti svuoti con una pelle cadente, le smagliature sono nel tuo caso. Se invece lo fai accostato ad attività, comunque tieni tonico, la muscolatura, esatto. Però devi mangiare, perché sennò non hai le forze di... Quindi eri diventato anoressico? Sì, sono andato, penso avevo 17 anni, mi hanno ricoverato a una clinica qua a Milano e andavo a fumare. Ah, addirittura. All'epoca già fumavo, con la flebo, con le scimmie. Ero in pediatria, perché io ero ricoverato in pediatria, fino a 18 sei in pediatria. E quindi andavo a fumare con la flebo, con le scimmie, non me lo dimenticherò mai. Ma adesso ancora è questa fobia? No, adesso no, ti dico, forse ingrassare fino a quel punto non sono più arrivato. Cioè, ci metto sempre un limite e da là dico, se superi quel limite là, tendi a mangiare meno. Però no, da quello... Ma non hai un cattivo rapporto col cibo adesso? No, 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 a parte mamma napoletana, proprio pugliese, è impossibile. E non hai commenti che tu mangi? Sì, mangio effettivamente, parto che mangio tantissimo e poi mi rendo conto di... Sì, sì, sì. Però ti deve scattare, non c'è... No, no, come tutto. Io ero il contrario, tu ero un ragazzo, avevo 28 anni, maglolino... E portalo una volta la foto che la vediamo. E non ce ne vuoi... Non ti immagino. Te la faccio vedere? Eh, dai. E mi sono guardato lo specchio e ho detto, cosa c'è che voglio diventare... Voglio mettere a posto, un po' più di... E poi la vigoressia, perché anche quella è la malattia, al contrario, sono piccolo, no, più grosso, più grosso. Non sei mai contento, cioè, perché anche io non mi do di più, di più, di più. Sempre perché tutto crea dipendenza, il non mangiare, il mangiare troppo, il gonfiare. In questo momento, come ti piaci? Sto facendo ciò che devo fare, cioè, in questo caso sono in massa, quindi, un aumento di peso, faccio delle visite ogni due o tre settimane per controllare il grasso, però devo salire. Ma sei come vuoi? Più grosso. Come devo salire? Vuoi essere più grosso? Ma dai, ma sei bello così. Sì, non so, infatti anche mia moglie diceva, basta, vede quell'ombra in camera, che basta. Quindi dopo la mezza. Ma no, devo salire, sì, sì, sì. Vedi, però anche là è sempre una cosa di come uno si vede. Eh, certo. Eh, ma perché... Però ho la consapevolezza di essere... Cosa? Eh, lo... Di loro, eh, sì, bisogna che... Se parla uno, parla uno. Dai un po' il microfono all'altro. Ho la consapevolezza di essere una persona non normale, nel senso... Rispetto alla media. Certo. Quindi la lucidità ce l'ho, mi vedo in palestra, mi guardo lo specchio, gli occhi li ho, i vestiti di sé. Però la prendo come non voglio mai sedermi, cioè non mi devo sentire arrivato. Ho raggiunto, sono di 100, adesso sono di 99, manca poco. 100. Non è di 102, 100, cioè... E vado perché mi dà uno stimolo, una ricerca sempre a continuare a trovare il miglioramento. Vabbè, su 100 kg si sono arrivato. No, è una cosa che mi... Ma pesa di più? Cioè, conta di più il peso, quindi il numero, oppure... Prima facevo questo errore che è tipico di noi di palestra. Prima è la classe... Quanto fai di panca? Quanto pesi? Eh, certo. È la classica domanda del migliorante che facevo anch'io. Adesso è come pesi? C'è 100. Quanto sei di grasso? Lo rifaccio di te. Sono all'11. 60 sono di muscoli, il resto è organi e ossa. Ci siamo. All'anno scorso sono 100 kg ma al 18% di grasso. Ah sì. Quindi il volume era uguale ma le forme sono diverse. Ecco, ti faccio una domanda. Ovviamente non conteggiando quello che sei tu. Una persona normale, la massa magra e la massa grassa me la sai dire? La massa grassa, se non mi ricordo male, su un uomo, diciamo medio, su un uomo per essere una persona che sta bene in forma, mi sembra dal 18 al 25%. Fino al 20%, 25. Tu sei? Adesso all'11 ma d'estate al 5. Quindi per adesso, io mi chiamo, sono appannato, cioè sono grasso. Sei grasso? E sono all'11. Eh, guarda. Sono da 5 d'estate. Cioè devi avere solo muscoli e 3 kg. E vabbè sì. E 3 kg di grasso. E per una donna lo sai? L'informazione che hai? Forse la donna è, forse fino al 3, guarda, 28-30. Ma normo, non una modella, una donna normale. Certo, normale, certo. Non obese, non racchipica, una donna normale. Il giusto. Ma tu chiedi tutto, ma poi fai tutto di testa tua. E qui, Nino, lei ha la fobia, però sta, allora andiamo a pranzo, sai cosa fa lei? Un caffè doppio. Io l'ammasserei. E basta? Io l'ammasserei proprio di lei. Però in Albania ha mangiato l'Albania intera? Sì, però sei giorni lì. Eh. Ma però, io non sono convinta, perché tu, secondo me, hai quella cosa che hanno in tanti, che poi non capisco il perché, che non vuoi far vedere che mangi? E poi mangi di nascosto. Ma non è vero, ma questa è un'idea tua. Ma sì. Ma io mangio tranquillamente. E se no, saresti un filo e otto. Non so che fa strano, ma. Di nascosto? No, guarda, è bello. Fammi vedere? Ma bellissimo. Gobbetto. Ma guarda. E' lo ventotto. Non fai vedere quella di prima che mi fa morire da ridere. Guardalo. Io mi guardo qua, io mi chiedo, come facciamo ad andare in giro così? Ma che schifo. Bello questo. Come facciamo a farla vedere? Come facciamo ad andare in giro così bello? Aspetta, tu lì, avvicinati lì, ti dico io. Ecco, si vede benissimo. Viene da vomitare. Questo era Nathan. No, no. Ma va. Questo era Nathan. Che schifo. No, schifo, no? Perché sei un bel ragazzino. Però certo. Però ho quasi trent'anni. Non è che ero un uomo di quasi trent'anni. Quindi va bene, non è tanti anni che tu hai avuto. In otto anni ho fatto questo talento. Aspetta. Ma una domanda. Qualora tu decidessi, dici, io da domani non mi alleno più. Cioè, no, no, no. Supponendo che mi tagliano le mani. Oramai, però... Il corpo subisce un... Ma ormai c'è il muscolo, è difficile che torna così. Sicuramente per le tonicità ti sgonfi, sicuramente. Però da tornare alle origini no. Io ho sempre l'esempio di Filippo e Davide, che sono tutte e due con un passato di tanto allenamento. La base rimane. E rimangono. Poi ti puoi sporcare se devi tirare la pa... Certo, ma rimani strutturato, le spalle, le cose, rimani, eh. Penso. Sì, 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 rimani, rimani. Non così, non con la pelle, però... Io ho spettito, eh, se volete. Ok. Di panca una persona media, adesso non so come si dice, in gergo... Per essere considerato un uomo forte, dovessi alzare il tuo peso più dieci. Il tuo peso più dieci, ok. Cento chili, se tu pesi 60, 70. Per essere considerato un uomo forte. Ma poi mi risponderai quando puoi. Io faccio il pan. Ma potremmo mandare i whatsapp noi? Che mi piacerebbe leggerne qualcuno. Oppure se tu mi dai il telefono, li leggo. No, ecco, ok. Allora, adesso ho la spiegazione. Allora, vai a prendere il mio telefono e li leggo io, perché è giusto. So che ne avete scritti tanti, è giusto che ne leggiamo qualcuno. Io ho fatto esattamente un giorno di palestra, cioè due ore. E ho fatto più di panca 60 kg. Pesavi? Pesavo 60. Come la formica che supera, che porta il doppio. Infatti mi hanno detto, strano che riesci, mi hanno detto, probabilmente sono i roller che ti hanno aiutato. Sì, poi anche la forza, la panca è un movimento che io faccio con suetudine abitualmente, quindi posso fare 140 kg, ma non è detto che se io prendo un sasso di 140 kg sia in grado di alzarlo e portarlo. Ah, certo. Perché è il movimento in cui è più corto di 4, la struttura del... È diverso. Eh sì, perché se prendo... È una leva. ...data di una leva e vi solleverò il mondo. Non è detto che tu le alzze, perché non sono abituato. Non è bilanciato forse anche il peso. Quindi trovi anche persone che hanno più forza di base. Poi tu in quell'esecuzione sei più forte, perché lo fai sistematicamente. Come primo, guarda chi è? Andrea, del Cuoco di Bordo. Grazie ragazzi. Io e Antonio vi stiamo guardando, un bacione. Ciao bel bimbo. Allora, questo bel bimbo io l'ho visto crescere ed è il figlio della mia più cara amica. Carmelita. Grandissimi auguri, sono tutti auguri, eh. Grandissime vanno a Stefania, bentornate con la vostra grinta e tenacia. Domani ho cambiato il turno di lavoro di pomeriggio. Vai. Grazie a Riccardo Scarlato per aver riportato in televisione Vanna e Stefania. Se volete farmi un saluto, Andrea da Bergamo. Ciao Andrea da Bergamo. Buon compleanno. Di Agluc, strada intitolata ad un compositore che ha riformato l'opera lirica. Dove è nato un uomo che ha fatto a suo modo una riforma nella canzone italiana, meriterebbe di meglio. Un saluto Giuseppe. E l'avrà. Ti assicuro che il via Agluc cambierà. Mi costasse la testa, il via Agluc deve cambiare. Perché non è possibile che anche stasera siano andati a fare la multa alla macchina di Davide in via Napo Toriani che è larga 180 metri e puoi parcheggiare anche in nona fila che non arriveresti mai a ostacolare il traffico e permettano da anni, da secoli, di parcheggiare lungo tutta la via in un posto dove non si parcheggia e la riga blu non c'è. Quindi io pretendo, a costo proprio di rompere i coglioni, i miei lunedì sera di tutte le ore per sei mesi di qua a sei mesi, ma io esigo una spiegazione. Lunedì prossimo avremo qua in diretta con noi una persona che fa tante cose, che mi è piaciuta molto, mi è venuta a ringraziare e a conoscere India Gluc mentre mangiavo un toast nel bar del ragazzo che avete visto intervistato e lui ha un'associazione che si occupa di questo e di tanto altro. Quindi lunedì l'avremo qua con noi, poi faremo tanti altri video, eh ragazzi? Aspetta, comincia il programma o no? Cod'è? Eh ragazzi, questo è arrivato prima, è già cominciato, siamo qua. Poi ho 3000 auguri, siete simpaticissimi, molto coinvolgenti, intelligenti, complimenti. Buona serata da Stefania, beh ti chiami come me, quindi sei una giusta per forza, il nome è una garanzia. Vanna e Stefania per me sono tutto, specialmente Stefi perché è la mia unica fonte di vita, perché grazie a lei la mia vita è molto più piena. Il fan numero uno, Daniele Cassano, grande Daniele, grazie. Ragazzi poi li leggerò tutti e risponderò a tutti, eh? Sappiatelo, quindi continuate a scrivere. Rimettilo Max, eh? C'è, perfetto, grazie. E quindi insomma te hai scattata questa cosa? Te hai scattata questa cosa e da là basta. Però quando tu hai cominciato a non mangiare i tuoi genitori, ovviamente le avranno provate tutte. Quanti anni avevi? 17. 17. 17 da là mi hanno detto guarda che le malattie vengono senza che uno se le cerca. Ah sicuro? Figurati se poi te la devi andare a cercare. Da là il problema è che il mio star male è successo dopo. È successo dopo quando ho ripreso a mangiare, perché il mio corpo non era proprio più abituato. Quindi ho preso un virus intestinale pesante, da là varie flebo, varie cose, poi più in piano la situazione. Ma questa tua scelta era legata a qualcos'altro, vero? Era legata forse da essendo più piccolo rispetto ad essere legata alla società. Ovviamente legata alla società, quando uno da così piccolo decide di fare un cambiamento così drastico, qualsiasi che possa essere, secondo me è legato proprio dal giudizio degli altri. Non abbiamo detto perché sei arrivato a 100 kg, cioè i meri normali. No, io ho sempre mangiato, non mi sono mai privato di niente. No, d'accordo, ma eri grasso anche da bimbo? Eri sovrappeso anche da bimbo? Sì, leggermente il sovrappeso sì. Se tu un grasso si chiama grasso. Leggermente grasso. A casa mia un idraulico è un idraulico, un grasso è un grasso, un vigile è un vigile, una troia è una troia, ormai siamo in un orario in cui si può dire, è un grasso è grasso, però sai, political correct non si può più dire niente. Cioè uno rischia 20 anni di galera, si dice grasso, attenzione, quindi eri in sovrappeso. Ero in sovrappeso, poi da là ho sempre continuato a mangiare, non è che mangiavo di più, forse il metabolismo, forse l'essere ancora non sviluppato al 100%, chiedo poi, penso che faccia. E quindi da là fino al punto, poi proprio nell'adolescenza, di perdere tutti questi chili. Quindi anche il periodo penso che non sia stato uno dei migliori. È immagino. Cioè nell'adolescenza. Quindi eri vittima di bullismo anche tu? Di bullismo sì, le prese in giro quelle sempre. Tipo? Poi sta a te, guarda il chiatone, guarda quello, come fa, ma come si vede, la pallina di lardo. Come può succedere, guarda il secco, guarda, oh, ma sempre. Ecco, queste sono cose da non dire, non grasso, queste sono cose da condannare. Però io penso che secondo me l'educazione dipende dai genitori, cioè parte tutto da là. Se un bambino arriva a dire una cosa del genere, perché in famiglia si dicono cose del genere. Quindi partendo da là, poi, perché tanti bambini, se crescono, mia mamma è insegnante, sa perfettamente. Ah, insegnante? Matematica. Ma le medie qua. Elementari, le ha scelto di fermarsi alle elementari e vede proprio il processo. E dice, tante volte vedo proprio i genitori che poi capisce i figli. Ah, le scuole. Cioè io le dico sempre, mia mamma dice sempre. Sai, io l'esempio ce l'ho sotto i miei occhi tutti i giorni, perché quando vedo la mamma che sgomita il marito, perché ha visto Vanamarchio, ha visto me, e gli dà delle gomitate che proprio gli spezza le costole. Poi il bambino non ha capito. Chiappano il bambino per i capelli, guarda che c'è Vanamarchio. Quello è l'inizio, no? Quello è l'inizio di far capire al bambino che, cioè, cosa intuisce un bambino? Il diverso. Quindi Vanamarchio è diverso, Stefania Nobile è diverso. Lo faranno con... Io sono felicissima di essere diversa. Filippo. Perché se io dovessi essere uguale a voi, ragazzi, a molti di voi, sarei orgogliosa, ma a qualcuno di voi mi vergognerei veramente tanto. È l'educazione, è l'educazione proprio che si proietta un bambino. Ovviamente uno non essendo educato all'inizio, poi succede che va a scuola. Anche perché il bambino è innocente, per cui non ha il pregiudizio nella testa. Il bambino non sa cos'è un grasso, cos'è un magro, cos'è un brutto, cos'è un bello, cos'è il nero, cos'è il giallo. Il pregiudizio è arrivato dai genitori. Il tuo bimbo non lo sa. No, 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 è come dire. Ecco, ecco. Ma io mi chiedo sempre due cose. Cioè, la prima donna è, supponiamo, al di là di problemi, se uno ha problemi di salute, tiroide, sbagli ormonali, non è colpa sua. Ma uno che sta bene. Io mi chiedo, cazzo, ma tu stai ingrassando, ma non te ne accorgo? Cioè, non ti può. Eh, sì. Io, se sono così, arrivo a 160 kg e ci sono 60, me ne accorgo tra 10 kg. Cazzo. Arrivano a 160 e sono... Ma, scusa. Ma dico, ma non ti sei accorto? Tu lo vedi vite al limite? Brava, da lì, da lì, esatto. Cioè, prima di quella situazione... Quando arrivano su quella bilancia, che rimangono... 3, 20, 100... Sembra, cioè, io salgo sulla bilancia, sono 53, 54, ma lo so. Però se uno arriva lì e pesa 320 e fa lo stupito, beh, quanto pensavi di attimo? Però non ti sei accorto se hai problematiche, che hai degli sbagli ormonali... No, nei casi lì lo vedi cosa mangiano. Però, anche lì, adesso dirò una cosa, non crudele, però io sono uno che dice la cosa che pensa. A me vedere uno grasso perché si strafoga... Ma a me fa schifo, ma non fa schifo, mi fa schifo questo... Questo... E poi ho solo... Non è il microfono. Come a me non piace. Sei troppo grosso, ma con il mio sei troppo grosso, sei troppo tatuato... Non mi interessa nulla. Mi piaccio così, però anche a me dicono, sei troppo grosso, non riesci neanche a camminare. Allora io dico, sei grasso, mi fa schifo, posso dirlo? Certo. Perché ti strafoghi di dolci, poi bescoli... Ma sai cos'è? Vedere una persona che vuole punire il proprio corpo, cioè una cosa... Ma sai però, secondo me che cos'è, a me non piace. Però comunque molto in sovrappeso, io mi chiedo sempre il perché uno arriva a quel peso. Solitamente c'è sempre dietro, c'è sempre dietro un qualcosa. Quando tu dici la soglia non la capisci perché c'è un disturbo dietro, quindi tu non capendo il disturbo... Non tanto la soglia del peso, però credimi non riesci a capire perché mentalmente tu non sei stabile. Ma quando arrivi che non ti alzi dal letto, che ti devi far lavare le parti intime da tuo marito, o capirai che hai un problema o ti senti... Però credimi che tu... Sì, il problema però secondo me è mentale, non è tanto il fisico, ovvero che tu dici è il fisico che mi porta a mangiare. È proprio la mente. Ma sai, quando li... Secondo me devi fare un percorso prima mentale in qualsiasi... Sì, però se non ti piace, ti vedi, se io arrivo a un punto che non mi piaccio più, adesso te ne dico una, io ho questa roba degli occhiai, delle borse congenite, perché mi sono fatto un sacco di lampade, perché faccio sempre questo movimento quando piego negli sforzi, l'alimentazione togli i carbo, metti i carbo, bevi i sediti d'acqua, questi sbagli anche alimenta... Io così non mi piaccio, vedo questo sguardo stanco, mi vedo... Andrò a fare una play, faro plastica, ma non aspetto come vengono le borse qua. Mi vado a correggere, ho fatto del moto, a me non piaceva vedere di queste... E fai bene? Poi, criticavo, ma come ho visto tre righe, ho detto siamo 1,50... No, 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 non aspetto di avere la fronte segata, di... Eh, vado a fare il bo... Stessa cosa io inizio a 24, quindi... Oppure quando uno va a fare il trappianto dei capelli e già sta impiato fino a qui, magari fanno un po' prima. Ti vedi, se ti piaci... Certo. Ok, io non mi piaccio così, intervengo finché posso. Ho fatto le faccette ai denti, ma non aspetto che mi cadano i denti per un'altra dentiera. O le faccette prima... Ai denti sono un'altra cosa. Oh, mamma mia, i denti, no, ragazzi, i denti no. Piuttosto senza scarpe, senza orologio, nudi, ma con dei bei denti. No, 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 sì. È una cosa che quando metti in mano i denti ti costa più. Ma lo so, però... Io non mangio, non so, dormo sotto un ponte, ma tre denti me li metto. No, non si può, non si può. Poi adesso fanno i finanziamenti. Magari troveremo anche uno sponsor per i denti. Però, ragazzi, no, i denti sono fondamentali. L'eccesso è sempre sbagliato, anche la chirurgia. Io faccio un po' di botox perché mi vedo i segni, poi, che vada da Giacomo, che si ammazza di punto. Anche lì è un eccesso, cadi in quella malattia. Dipendenza. Dipendenza, come può essere. Quella è un'altra dipendenza. Dipendenza, no, le labbra sono piccole, no, così, no, di più, i zigomi. Ti fai la terza di seno, poi vuoi la quinta, poi la decima, poi la novantesima. Ma se non lo fai, va bene a fare il seno, se non sta bene per il sesterno. Poi se lo fa sei volte perché deve fare come quella, è la dipendenza della malattia. Dipendenza. Ma sai, tutte le cose vanno affrontate con intelligenza, anche la cosa del peso. Però io sono d'accordo con te, cioè, per me, che uno non si accorga, non è vero, dai. E' mentale, secondo me parte proprio da quello. Non è che non se ne accorgi, però magari tu non ti vedi così, cioè, magari tu ti piace effettivamente per come sei. Ma come ti piace, no. Eh, ma guarda che tanta gente, per quello ti dico il problema, secondo me, alla base. Il perché tu arrivi a pesare. E' una, tutte le balle. Ma secondo me il perché fa tanto. Non ho mai conosciuto una persona grassa che realmente si piacesse. No, no, felice no, però c'è il perché, perché secondo me mentalmente c'è qualcosa. No, no, mento. Infatti io però ho anticipato prima, qualora uno non ha problemi, cioè, di mentali, di disturbi. Eh no, mentale è fondamentale. Mangia perché gli piace mangiare e poi non ti lamentare se... Ah no, assolutamente. E se ti dicono quello che è. Io so che quando mi sono tatuato un braccio nero, le orecchie, in metropolitana che non prendo da dieci anni, probabilmente mi guardavano male. Lo so. E me lo faccio andare bene. Cioè, soprattutto il signore. Mi ricordo una signora una volta. In metropolitana non mi dimentichero mai. Avrà avuto... Fettava. Sì. Quanto a me è metropolitana. Schifata. Mi ha appoggiato. Mi guarda. De. Vuoi sapere una cosa? Mi ha detto il dialetto tra l'altro. Io? Con uno come te non ci andrei mai a letto. Ah, lei. Ah, ah, ah. Tutto pitturato. Che scherzo. Ah, lei. Ah, scusa. Grazie. Ah, lei va bene. Grazie. Va bene. Ma hai detto così. Il polletto. Che ci figuri io, c'è Andrea. Io? Vabbè, allora, se vengono. Grazie. Che se devo fare incazzarmi? Eh, va bene. Ah, sì? Tutto pitturato. Allora, mandiamo un... Così, magari c'è chi si è sintonizzato adesso. O comunque da poco e non ha visto la mia battaglia che comincio da oggi e porterò avanti fino al risultato ottenuto e io ce la devo fare. Quindi ho bisogno di tutti voi. Rimandiamo il video di via Gluck. Così vediamo. E vi faccio vedere in che condizioni è. Posso andarmi a sedere là? No? Aspetta, non so. Adesso non vedo. E vi faccio vedere al regista, a Fellini e ci sono tutte le case con il murales, con gli affreschi dedicati ai suoi film. Quindi si potrebbe fare veramente tanto, tanto magari dando anche lo spazio ai graffitari, come li chiamo io. Bellissimo, sono dei murales. Allo street art e dare come tema Celentano, quindi sui film, del suo... Questa diventerebbe la via più bella, più visitata di tutta Milano, da gente di tutto il mondo. Quindi io non sono nessuno, non sono un giornalista, non sono niente e nessuno, ma sono una persona che ama questa via perché ci ho vissuto, perché mi piace, perché amo Celentano e perché amo il bello. E per me vedere una via che ha potenzialità come questa, ridotta a un immondezzaio, ma non per colpa di chi ci lavora. No, anche noi ci diamo l'anima. O di chi ci vive, perché io lui lo so quanto lotta per fare tutto questo e giustamente, come ha evidenziato prima, si è fatto anche il bello, perché era anche peggio. Molto peggio, molto peggio. Siamo arrivati qua nel 2014, guardate, era molto peggio e veramente, quando si dice che si combatte per il bello, perché veramente si è combattuto per trasformare qualcosa in qualcosa veramente di migliore. Allora Seba, tu non mollare perché noi ce la faremo. No, assolutamente. Io tantissimo, sì, sì. Io sì, quindi tu... Non mollo. Io non mollo. Io non mollo mai. Non molliamo. C'è un ragazzo della Via Blu. Grande Adriano, io ti amo. Non so se tu lo saprai mai, ma io ti amo. Siamo in Via Gluck e sono in compagnia di una persona famosissima, poco di bordo, Marco, il titolare. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa mi racconti? Da quanti anni sei qua tu? Noi siamo qua dal 79. Beh, non io, i miei. Ok, logico. Però, perché, insomma, parlo di anni fa, la via era molto più viva una volta. Molto più viva, tantissimi negozi aperti. Io conosco questa via da 30 anni e vedevo tantissimi negozi aperti. Oggi sono tutti chiusi, come mai? Bella domanda. Nessuno vuole più aprire un esercizio commerciale qua. È un po' abbandonata. Noto che dove ci sono i negozi chiusi si aprono appartamenti. Cioè, appartamenti nel negozio hanno questa possibilità. Non vi piace questa cosa? A te piace? No, perché così la via va a morire. Certo. Cioè, siamo noi, altri ristoranti, un paio di negozi e nient'altro. Cioè, una volta c'era il lattaio, c'era il meccanico, c'era il falegname. Bellissimo. Purtroppo così va a morire. Cioè, la sera è desolante. Questa è una via famosissima, lo sapete tutti, per Adriano Celentano. Questo cantante famosissimo in tutto il mondo. Tant'è vero che io sto moltissimo tempo in Albania. E devo dire che in Albania, a parte l'Albania, è conosciuto in tutto il mondo. Quando uno straniero viene a Milano, vi chiede di via Gluck. E tu, penso che hai tanti clienti, no? Sì. Di stranieri. Sì, 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 assolutamente. E ti chiedono dove viveva, dove è nato lui? Chiedono, anche quando la mattina vengo a scaricare la merce, mi chiedono dove è nato Celentano. Passa gente che probabilmente non conosco. Mi chiedono dove è la casa. Sì. Mi piacerebbe vedere di nuovo via Gluck com'era anni fa. Questo è un ristorante meraviglioso. Si è mantenuto tale, dove si mangia benissimo. Quindi ve lo consiglio. E poi c'è lui, c'è Marco, che è un personaggio incredibile. Bravo come cuoco. E poi mi piace, sai perché? Mi piace perché tu sai dare alle persone quel qualche cosa, quando mangiano, che gli altri non sanno dare. Tu sai spiegare cosa hai cucinato per loro. È vero? Così dicono, è solo 22 anni che faccio questo mestiere, tu lo sai. Mi piace, sì lo so. Mi piace, adoro il mio lavoro e quindi sono nato qua dentro perché il giorno che uscì da Niguarda mia madre mi appoggiò col seggiolino sul banco qua, quindi ormai è casa mia. Bellissima. La sento dentro e ci do l'anima, quindi sì, è così. Marco verrò di nuovo a mangiare da te come sempre. Ti aspetto. E mangerò le tue cose speciali. Ti ringrazio. Ho fatto tanti a voi. Dai, anche a voi. Grazie mille. Ed è proprio in questo palazzo che tanti anni fa, ma sempre pochi per un grande, è nato Adriano Celentano. Solo questo meriterebbe che questa via diventasse un paradiso terrestre. Se ci aggiungiamo poi che è stata dedicata a questa via proprio da lui, la canzone più cantata in tutto il mondo, credo che siano due le canzoni, Volare e Ragazzo della Via Gluc, più conosciuto al mondo. In qualunque emisfero, in qualunque continente si canta, sono Ragazzo della Via Gluc. Com'è possibile che una città come Milano permetta questo? Fai vedere. Com'è possibile? Io mi chiedo. Allora, palazzi, il degrado più totale, marciapiedi sporchi, negozi chiusi. Allora, io in questa via ci vengo da… ho iniziato a conoscerla negli anni 90 ed era piena, piena di negozi. C'era di tutto, era una via viva, sicuramente non trascurata come adesso. Pian piano i negozi hanno chiuso tutti e c'è rimasto, sopravvive qualche artigiano. Guarda, tutte per lo più sono, Claire, così, spaccate, chiuse, in disuso. Stanno ristrutturando alcune case all'interno, ma io credo, io, ripeto, l'ho detto prima, non sono nessuno, ma io quello che farei per riabilitare questa strada, io la darei ai ragazzi graffitari che sono straordinari e la renderei un museo a cielo aperto dei film di Celentano. Io farei questo. Mi occuperò ogni puntata di questa cosa, quindi, poi durante il programma, voi vedrete questo redazionale che stiamo girando, quindi ci sarà una mail, scrivete. Io spero di poter fare qualcosa, non da sola perché non posso, non ho l'autorità per farlo, ma spero che insieme a me la causa venga sposata, non tanto dagli inquilini, ma soprattutto dai negozianti e dai ristoratori che, a fatica, facendo il loro lavoro straordinariamente bene, riescono a sopravvivere. Ma non è giusto sopravvivere, è giusto vivere. Allora, siamo in un altro ristorante di Via Bluc, perché qui ce ne sono diversi, Terre e Mare. Allora, tu sei qui da 16 anni e mezzo. E in questi 16 anni e mezzo, cosa hai visto cambiare in questa via? Sei in meglio o in peggio? Dimmelo tu. C'è stato un periodo che sembrava che migliorava un attimo, però ultimamente un po' trascurato. Diciamo che ne parlano da molti che vogliono fare, come tante zone di Milano, per avere un po' più... Curate, pulite... E avviarle, diciamo, perché è un po'... Ma sbaglio o si diceva anche un po' di anni fa che c'era forse l'idea di farla pedonale? Sì, c'è un progetto da anni, però non sono parole. Parole, che è un'altra canzone, a noi piace più Celentano in questo caso. Ma sbaglio, anche qui ogni volta che si va a votare viene qualche politico a promettere che Via Bluc diventerà, sarà... Un po' così, è così. Anche ultimamente? Un po' così, è così. E quindi essendo stato rieletto lui l'ha detto due volte? Sì, cioè arriva e non porta i bigliettini con le loro immagini così. Votatemi? Sì, però diciamo di fatto ne vedo poco. Senti, ma tu chiudi tardi la notte qui? No, qualche occasione, magari fine settimana, di solito mezzanotte. Ma ti capita, perché a me, io quando abitavo qua, mi capitava di vedere gente che dormiva sui marciapiedi o gente che faceva i propri bisogni sui marciapiedi. Io l'ho vissuto. No, più che altro quello che ho visto io in tante occasioni, sono magari qualche puttarello, così si fanno qualche dono. Hai detto poco? Quello purtroppo capita, ne ho visti io più di una volta. Quindi sicuramente andrebbe pulita, più illuminata, più seguita, più controllata e chissà, magari riportare in vita, anzi portare in vita perché non è mai stato il progetto di farla pedonale. Sarebbe stratosferico, è vero? Sì, noi aspettiamo, però è da molto che se ne parla diciamo. Ci stanchiamo di aspettare. Di dove sei tu? Sono delle calabrese. Calabrese. Celle Ioniche, precisamente. E quindi a Milano stai bene, hai trovato la fortuna. Sì, sì. Non è come 30 anni fa, però diciamo che Milano è comunque sempre il pane. Chi volta le spalle a Milano volta le spalle al pane. Sì, a parte gli ultimi due anni che purtroppo è stato massacrato di questo virus. Quindi insomma mi aiuti a fare questa battaglia per riportare al bello, al meglio questa via che dovrebbe essere la più bella di questa città? Io da parte mia sono abbastanza disponibile. Bravo, grazie. Allora ci rivedremo ancora. Grazie a voi. Buona giornata. Siamo alla via, nella via alle spalle di via Gluck, via San Martini. Allora innanzitutto vorrei che tu facessi vedere l'ampiezza di questa via, che è una via dove si parcheggia da tutte e due i lati. Ed è quattro volte via Gluck, ok? Prima cosa che salta all'occhio. Ma c'è un'altra cosa. Allora, il Vespasiano di cui parlavamo prima era lì, me lo ricordo molto bene. Era lì ed era una roba allucinante quello che succedeva lì la notte. Ma questo perché ve lo faccio vedere? Perché siamo proprio a dieci metri dalla stazione, quindi la gente scende dal treno, arriva in Diagluck e questa è un'altra via bloccata, non si sa perché. Perché tutto questo sotto binario dei treni, tutte queste gallerie, se fossimo in una Madrid, Londra, Berlino, qualunque altra città europea, sarebbe il polo della Movida milanese per eccellenza. Quindi dobbiamo muoverci per far sì che questo quartiere sia bello. Ma poi voglio dire, ma se voi avete casa qua, ma muovetevi, no? Cioè se il quartiere diventa bello come vi hanno promesso per cento anni, acquista valore anche la vostra casa. Quindi non state muti, parlate. Siamo qua? Siamo in diretta di nuovo? E Nathan ha aspettato per salutarvi, ci stava raccontando la sua alimentazione. Adesso vado a casa, mia moglie stanno dormendo qui, mi farò 70 grammi di riso e 200 di albume, che è il sesto pasto della giornata. E' questa la cosa importante, che è il sesto pasto della giornata. Quindi questa è la cosa più giusta comunque, che lo dicono tutti. Cioè al di là di Nathan che deve rimanere così strutturato, palestrato, gonfio, però anche per noi comuni mortali è sbagliatissimo mangiare come i porci, a pranzo, poi a cena. È sbagliatissimo fare come Antonella che a pranzo beve due caffè e poi mangia di nascosto perché io non ci credo. È sbagliatissimo. Adesso ti metterò una telecamera addosso. Oddio mio! Ogni tre o quattro ore dare... Scusa, ma volevo chiederti, ma gli albumi come... E il microfono chi ti sente? Come no? Oh, sono microponata. E dove? Ah, non vedevo. Ok. L'albume come? No, il riso hai detto. Sì. E poi l'albume come lo... No, cotto, cotto. Cotto come lo fai? Cioè... Quello schifo lì, quel bianco. Sì, ma invece che prendere le uova e sprecare, tra le due... A parte che faccio il caso di una Madonna, spacco tutto e... Eh, prima di quello nel cartone. Prendo quello nel cartone, 200 ml, 20 liquido, accedi la padella. Lo fai addensare e lo butti nel riso. Come in effezione Paolo. Paolone ne mangiava... Ma anche Paolone mi schierde da dentro. No, il riso parte, 10, perché poi è importante nel momento in cui abbassi i carbo alzarla a fonte di grassi, quindi ho muro da rachi e di olio. Quindi 10 grammi d'olio, che è un cucchiaio, quindi io l'olio lo metto così, lo metto così. Un cucchiaio sui 10 grammi. Amma mia. E anche l'acqua è importante, perché quando c'è... hai dei picchi dove bevi tanta acqua, ma nel corrispettivo ha alzato il sodio, quindi il sale, perché devi trattenere l'acqua intracellulare, quindi io mi sveglio, se per esempio in periodo estivo, oggi è 6 litri. Prendo quattro bottiglie, ricordo oggi questa roba qui. Oggi è 2 litri, con 0 sale, 6 litri, 6 grammi. 6 grammi oltre all'alimenti, cioè alla fresale, è già 6 grammi. È un lavoro con la storia. È impegnativo, è impegnativo. Come andare in miniera. Penso di spendere 2.000 euro al mese di mani. Certo, certo. Perché anche l'acqua cambia? Cambia perché al momento in cui tu il carboidrato, quindi il riso, hai già l'amido pieno d'acqua. Ok, certo. Nel momento in cui tu non metti il carbo, per rimanere pieno nell'acqua cellulare, non l'acqua corporea, quando ti vedi le cabine, l'acqua delle cellule all'interno dei muscoli, bevi tanta acqua, il sale per osmosi trattiene e tu rimani sempre gonfio. Nei periodi estivi dove tu mangi due fettine di pollo tutto il giorno. Lo mettiamo in contatto con Tarzan, queste qua, hai capito? No, non ne veniamo più fuori. Però se non avessi questa linea guida che vi appicce col frigo sistematicamente ogni 2 settimane cambia. Ma e tu da dove la extrappoli questa cosa? Ecco, anch'io che penso di essere uno dei più bravi in ciò che faccio, perché ci metto poi anche in dedizione, ho un preparatore. Ah, vedi. E siccome faccio questo lavoro, pretendo che i clienti mi rispettano e mi seguono, io se lui mi dice di mangiare quella candela, lo rispetto fiducia in lui perché mi sono affidato a lui e mangio quella candela. Perché c'è anche un esempio per i tuoi. E lui com'è questo signore? E lui come me, ha 42 anni, è grosso, è... Ma l'uomo... Perché anch'io ho bisogno di una persona che mi deve... Le so, le so, le so, perché le... Che ti dia le indicazioni... Però ho bisogno anch'io di poi di fare un check e di fare un riscontro. E lui a sua volta avrà qualcuno. E lui ha un preparatore a ciascuno. Eh, beh, d'altronde lo psicologo va dallo psicologo. È così. È vero. Perché fare... Io non sono andata mai da uno psicologo in tutta la mia vita e mai ci andrò. Ma sì, anch'io, ma non saprei cosa andare a dirlo. Io non mi alleno mai da solo, mi alleno sempre come un coppia. Ma per una questione di stimolo? Per una questione di sana competizione, di tempi di recupero, perché comunque da solo faccio l'esercizio, 12 colpi, pausa, cambio la canzone, è su Spotify, dico una roba, beh, ho perso. Invece se siamo 12 e vanno, infatti vanno i 12, tocca a me i 12, siamo allineati. Comunque in televisione sei un gran figo, eh? Sì. A parte che lo stanno scrivendo, però è vero. Sì. Quadra in primo piano una... Perché qua ti... Oddio, televisione anche non è un gran figo. Io quando l'ho visto la prima volta che è arrivato in zintoneria, ho detto, cazzo che bell'uomo, finalmente vedo un bell'uomo. No, perché è un bell'uomo di persona, lo so, lo vedo sempre. Però c'è chi è un bell'uomo e in televisione non viene bene. C'è chi fa schifo e in televisione viene bene, lui è bello qui e qui. È vero, è vero. Ci va un po' di nuovo. Guarda. È vero, eh? Sì? E non è male, eh? Vedi? No, no. È la tua bella figura. È male, eh? Hai visto? C'è cosa sto guardando? Fammi delle spalle e il braccio sui. E' bello pieno. Ma d'altronde è giusto. Ognuno ha i suoi punti di forza. C'è la donna che punta sulle gambe, la donna che punta sul seno, l'uomo che punta sull'addominale, sull'addominale. E beh, giusto. È normale. Però a me piace la gente che ama se stessa. Io sulla simpatia solitamente, appunto. Dici a me non hai niente, punti su quello. Perché tu sei convinto di non avere niente? No, ma... Tu sei un bel ragazzo, eh, tu? Non so perché tu... No, sei un bel ragazzo, poi sai cos'hai? Hai questo bel carattere che comunque riesci a mettere le persone a tuo agio. Quello che dicevo io. Eh? Quindi punti sul carattere. Quando uno... Sì, ma non è che perché tu hai solo quello. No, no. No, no. Ma soprattutto più se va avanti degli anni, gli uomini, le donne non guardano solo. Cioè guardano anche altre... Se hai una posizione della vita che non è quanti soldi hai, se... No, no, no. Io in una persona amo la determinazione, il carattere. Ma che c'è a me? Cosa che a me fa impazzire di una persona è questo. E solitamente piaccio proprio per quello. Non tanto per l'aspetto fisico, ma tanto per il lavoro che faccio. Il carattere è tanto, eh. Cioè voglio dire, sai, uno... Lo dico sempre, l'unica roba che non vendono all'essere lunghe è la personalità. Eh, sì. Questa è stata la compra. Roba la... Ah, questa è stata la compra. Nel succo al mirtile ce l'ha solo lì. Ecco, la personalità non vendono. L'unica roba. Quella non si compra. E così come quando io dico, sai, i corsi con noi fanno tanto sicuramente perché chi avrà la fortuna di partecipare a quel corso capirà di avere delle cose che prima non sapeva di avere. Però se uno è proprio nullo, è nullo, eh. È come una personalità fatta. Non fai niente. Il tuo deve avere. Cioè... L'ambizione, la determinazione, la personalità sono la ricchezza. È una cosa... Io faccio un esempio. Quante venditrici ci sono? Pochissime. No, ma anche se ce ne... Quante hanno la tua... modo di fare la vostra determinazione? quel pizzico in più che questa cosa la trasmetti in un modo diverso? Quanti sanno andare in palestra e dire, devi fare questo? Certo. Ma io magari... Oh, altre due. Dai, ancora, questa roba qui ce l'hai, la devi avere, non c'è scritto sul libro, sul manuale. Sai cos'è, solitamente si dice spesso, devi avere un piano B nella vita. Ecco, io ho deciso proprio di stravolgerla completamente, quindi rendervi il più belle possibili. Grazie. No, perché io ho detto, io voglio solo il piano A. Cioè, se tu già proietti il fatto di avere un piano B, quindi è il pensiero di avere già un'altra opzione, un'altra alternativa, è perché tu quello che stai facendo non stai mangiando te stesso. Quella è una cosa che proprio ho detto... Devi credere in quello che fai, poterlo avanti. Assolutamente, non devi cambiare... perché sennò poi ti focalizzi su altro anche. Certo. Quindi quello che stai facendo fondamentalmente poi non capisci il perché sei andato a farlo. Quindi tu sei diventato truccatore, adesso lo spieghiamo. Sì. E perché? Andato truccatore, dopo ho fatto ragioneria, quindi ho seguito il percorso di ragioniera, ho lavorato in una casa editrice, ho fatto fiere, congressi, eventi, fino al punto di dire una mattina io non vado a lavoro con il piacere di andare al lavoro. Ma non che non mi piacesse il lavoro del venditore o piuttosto che... Ma sapevo che non era la mia strada, avevo capito che non era la mia strada. Da là decido, ovviamente grazie a una famiglia dietro, perché se tu ti trasferisci da una città o un'altra, dove devi pagare un affitto e tutto un insieme di cose, non puoi sempre fare quello che vuoi. Ho avuto la possibilità, quindi i miei genitori mi hanno accompagnato in questo percorso, fino al punto di truccare personaggi televisivi, famosi, chi non, chi meno. mia mamma e mia sorella le mie prime cavie, da là ho sbagliato tantissime volte e sbaglio ancora, poi da là in neanche un anno le mie soddisfazioni le ho avute, sono qua seduta con voi, quindi... E quindi bravo. Quindi sicuro... Sì, assolutamente sì. Penso di non riuscire a fare nient'altro. Ovviamente non mi fermo mai qui, penso di diventare, di andare a toccare magari una Lady Gaga come hai detto tu prima, però devi sempre avere un'ambizione, ecco, che sia anche uno spazzino, arrivare al capo spazzino, sia un parrucchiere, arrivare ad aprire il tuo negozio di parrucchieri. Infatti io non capisco quella gente. Caricargli un po' meno. Sai quando noi cercavamo i venditori che non abbiamo trovato, ecco perché spero di trovarli al corso, cosa chiedevano? Qual è la paga base? Il fisso. Il fisso. Il fisso. Ma il fisso perché cosa mi chiedono? Perché loro non cercano un lavoro che li gratifichi. Per la sicurezza. Perché loro non si sono sicuri di quello che fanno. Ma un fisso, la paga base nazionale, ma che cazzo ti danno? Il posto fisso, c'è anche un film? Cioè ti svegli la mattina con il pensiero di come fare a metterti in malattia, per sfruttare la malattia. C'è gente che era felicissima quando era in casa integrazione, io ne ho conosciuti tanti. A me la gente così fa schifo, mi fa schifo veramente. Nella vita è bello svegliarsi col sorriso e andare a scoprire la giornata, ma fare la stessa cosa a 40 anni, ragazzi. 40 anni come Fantozze, Timbrara, Fanno... No, no, no. Non è anche ora, no. No, no. Io voglio prendere, se faccio di più, perché crede, se più bravo, prende il triplo di mezzo. Ma c'è gente che spreca 20 ore al giorno a invidiare quelli che hanno di più, ma se le mettesse a reddito quelle 20 ore lì sarebbero miliardari. È verissimo che ha uno stipendio quantità durante la pandemia, che comunque erano pagati gli statali... Era felicissimo. Ma per loro il Covid poteva durare 20 anni. Era felicissimo. Sì. Il Covid, in questo caso, sono comunque pagato all'80. Eh, mamma. In cassa integrazione felici? Sì. Io non capisco, però tanti, eh. Tanti sono. La cosa abberrante è che tanti erano ragazzi, perché finché senti questi discorsi da gente vabbè, di un'età, dici vabbè, poraccio, ha fatto sempre questo. Ma ragazzi diventati felici di essere in cassa integrazione? No. Tu non si può sentire. Ho fatto una storia su Instagram poco tempo fa, ho un collega, un cliente che è uno degli amministratori delegati della Folle, adesso vabbè, si può dire. E mi ha detto, io cerco persone dove garantito a contratto 1.500, a partire da 1.500, cioè io te le garantisco. Poi se sei bravo siamo sempre lì, 10.000, se sei un cadavere farei 1.600. Io ho fatto una storia su Instagram dove offro un lavoro, quando faccio le storie, guardate le scarpe, 200 euro, scrivete, 3.000. Vi hai fatto vendere 20 scarpe, vabbè, il lavoro sono pensato di 6, di cui uno gli ha detto, per il reddito di cittadinanza mi conviene. Cioè, mi puoi lasciare il nero e molto... Questo sarà l'argomento che tratteremo anche la prossima volta. Ora, per carità, anzi, non è che io non spio, arrivo dalla fabbrica. Eh, ma questo dobbiamo dire grazie al nostro governo, il reddito di cittadinanza. A chi... Assolutamente. Ma se ti... Infatti dicono che adesso faranno una nuova legge che decreterà chi realmente non ce l'ha, ma se ti vengono offerti due lavori e li rifiuti, lo perdi. No, vediamo. Il problema è che non vengono neanche proposti lavori. Adesso, no? Durante il Covid, il secondo Covid, non quello di marzo, il restato a casa, il secondo, che ho potuto lavorare perché mi sono fatto uno studio privato, io le mille euro che davano alle partite IVE, siccome incassavo a pieno regime, non me la sono sentita di chiederle perché stavo lavorando. Cioè, anche se lavoravo... Io non le chiedo perché comunque sto guadagnando e non mi sembra giusto toglierle a chi magari veramente ha la possibilità di prenderle. Non è che mi leo, mi fanno schifo, eh. No, certo, assolutamente. Però siamo la fortuna di operare lo stesso, di come mi va bene così. Di essere onesto. Però siamo sempre lì. Grazie. Ci sono 200, io parlo di 200 trainer, chi ha lavorato durante il lockdown? Io ho pochi anni. Ma non perché sono più bravo, perché come quello là al governo, col parrucchino, ha detto dal giorno 30, chiudiamo, mi sono adoperato, come dice Davide, a perdere delle cose, a pagare un garage, uno spazio così, ad allestirlo con degli specchi, pronto per... e chiudiamo e andrò al parco e farò qualcosa online. Io mi sono premonito. Il primo Covid mi ha fregato, ma non so che non te lo sapevamo. Eh, ma sai, quello l'abbiamo preso tutti un po' così. Ma il secondo che bisogna già lavorare, ma io ho lavorato, dovevo stare a casa, mi sono fatto trovare pronto. Ma sì, ma la vita gli si va incontro, non ci si siede a aspettare che ti arrivi lei. Sai, è sempre quel discorso, chi vuole fare fa, in qualunque ambito. Io so che in ogni negozio dove io entro da comprare il pane, un paio di scarpe, le compagnie di telefono, qualunque posto, cercano personale. In qualunque posto. Io entri o guardi, cercano personale. Dove sono questi? Cosa state facendo? Prendete il reddito di cittadinanza? Intanto che... ma no, ma poi sai, hanno i genitori che è... oppure le nonne. Le nonne sono... Io non ho nipoti, quindi non posso... Ci sono tanti ragazzi che avevano un lavoro, ci sono licenziati, eh. La nonna, finché ha soldi, finché vive la nonna che... la pensione la danno tutta ai nipoti. Ma è proprio il discorso che facevamo prima. Quindi parte tutto dall'educazione, poi i figli alla fine si ritrovano che stanno bene sugli anni, magari studiano una vita, benissimo. C'è chi studia e chi lavora la sera, e chi studia e basta, e dici, però io studio. E quindi ti aggrappi sempre. Fino a 80 anni. Studiano fino a 80 anni. C'è gente che a 40 anni va ancora all'università, eh. 40 anni, eh. Vorrei provare a spezzare, non una lancia, perché alcune cose, vivendo il mondo della palè, cioè dei gioventi, sai cosa però credo, ditemi se sbaglio, possa rovinare anche questa cosa, questi cazzo di social. Assolutamente. Cioè, nel momento in cui ho l'influencer, a cui tirerei tutto questo... perché lavoro fa il problema sul naso, perché non mi dire che è un lavoro, lì è un... cioè Davide è un'influenza, ma ha, sviluppa... Beh, ma Davide ha dei locali, ha un lavoro. Poi grazie a quello, io datano, personal terre, cioè ho un lavoro, poi lavoro su Instagram, ma sul lavoro. Devi avere un lavoro che ti porta. Sviluppo maggiormente ciò che faccio, vabbè. Però se io vedo a 700, a 1000 euro al mese, e faccio fatica e vedo questi influencer, e Dubai, e di qua e di là, anch'io e perdi di vista ciò che poi è. La concretità. Se passa tanto tempo, se passa proprio tanto tempo a guardare la vita degli altri, te lo dico perché anch'io inizialmente dicevo cavolo, guarda quel truccatore, guarda piuttosto che... perdi tanto tempo fino a che, come ti dicevi prima sul fisico, ti scatta quella cosa e dici perché non posso arrivare io a fare quel lavoro? Perché non posso arrivare a parlare di me? E ma finché lo dici come lavoro, lavoro è un discorso. Il problema è che i ragazzi della tua età non è che pensano al lavoro, pensano direttamente all'aereo, allo yacht, alla cosa, al tuo lavoro. Allo yacht, quello che non hai. Quello che non hai. Esatto, non ti appartiene. Ora, Ginto, sicuramente qualcuno che prende 1100 euro e ne fa 700 di giugno, perché devo fare la botte che mi ha avuto? Però faccio vedere solo, poi fanno le 20 ore in fabbrica e non le vedi. Però Davide, come dicevi, ha iniziato dai mercati, da qualcosa devi sempre iniziare, se non inizi da qualcosa non arrivi mai a arrivare a quello. È tranquillo che i ragazzi di oggi non cominciano dai mercati. Ma la gavetta va sempre fatta. Voglio arrivare a essere Davide, ma senza fare tutto il resto. Io ho iniziato a fare questo gratis, ho iniziato a fare questo gratis, mi sono fatto conoscere, ti fai conoscere, poi da là arrivi al punto di decidere tu quanto è giusto. Eh, ma tu sei uno, Luca. Non pensai, i ragazzi non sono così. Però ha ragione Nathan, immagine che chi loro vedono, loro non è che ragionano. Allora, le ragazze vogliono essere tutte Chiara Ferragni, tutte. Tutte ambiscono ad essere lei, a sposare uno come Fede, avere i due bambini biondi coi riccioli e a prendere 100 miliardi l'anno a farle foto, a far vedere il culo e la tetta. Ma sai, anche lì, a parte che Chiara Ferragni è una, che secondo me è di influencer, c'è solo lei, non mi piace, l'ho sempre detto, però l'unica vera influencer è lei. E un conto è dire, vabbè, io ho una professione, mi pagano per promuovere delle cose, lo faccio. Ma per la sua professione. Davide per la sua professione, un altro per la sua professione. Non puoi pensare, dice, non faccio un cazzo, sono un influencer. Di che cosa? L'influencer è l'influencer. Chi influenza? Lui, influencer nel suo ambito, può influenzare sull'abbigliamento, sugli integratori, sull'alimentazione, sui viaggi legati alla salute, un miliardo di cose. Davide, legato al suo lavoro, può sponsorizzare un miliardo di cose, ma uno che non fa un cazzo, cosa sponsorizza? Cioè, chi influenza? Però i social ci fanno vedere questo. Allora tu compri un milione di follower, ma non vedi che c'è gente che ha un milione di follower e ha sette commenti? Cioè, ragazzi, te conosco, io conosco uno che conosci anche tu, che ha quasi un milione di follower, ha quattro commenti, sei commenti, tre like, però lui si sente figo, ha un milione di follower, comprati, è figo. Però alla fine, nella vita, con cosa campi? Perché io mi chiedo questo, cosa mangi? Cosa mangi? I follower? Tu mangi, però no. Sì, quello mangia perché ha avuto... Non è il folista, in questo caso, il social funziona, però non deve essere lo stile Una ragione di vita. No, anche perché si perde poi l'obiettivo della vita reale. Sai, sui social tu vedi solo gente che ha Ferrari, Lamborghini, classe G, Urus, vacante... Magari a leasing, magari... Ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. Sì, non è vero. Cioè, non è vero, solo che, sai, un ragazzo giovane non ha la spregiudicatezza e l'intelligenza e la furbizia di capire che quello è una recita, è una recita. Cioè, ti fa vedere la bottiglia magari che ha aperto quattro domeniche fa, te la ripropone, fa il figo un'altra volta. Sui social può essere chi vuoi, piace per questo. Solo che quando tu ti trovi a dover uscire con una ragazza, o con un ragazzo, o se sei una donna, cioè, come fai a continuare la recita? Ecco perché poi i ragazzi non sanno più comunicare, sono degli sfigati, mica tutti, eh. No, no, certo. E poi sono tutti uguali. Ma sono tutti uguali. Tu prendi l'altro campo, che mi viene in mente, poi si aprono le fine, la musica. Sì. C'è stato sfera che è sicura. Ora tu vedi questi ragazzini, sono tutti rapper, trap, criminali, soldi, collane, dito medio, dentito, sono tutti uguali. Tutti. Con pantaloni qua col culo fuori, tutti uguali. È vero. Chiamerà le servizioni. Quelli col culo giù, con le col mamma, con la tanga fuori. Io gli darei l'ergastro. Ogni due parole è fra, bro, bella fra, bella bro, e passi, vita, bandane, giubbotti là, tutti uguali. Se bastasse quello per fare il rapper. Parla di criminalità e se ne che cos'è, un carcere, una cosa. Adesso perfettamente non mi ricordo, ma io sono la classica persona che si ricorda ogni anno del festival di Sanremo che ha vinto. Ti parlo fino a sé. Io no. Io niente. No, però la musica prima, ovviamente ad oggi la conosci. Io l'ho guardato ai tempi di Villa Pessi, non l'ho guardata mai più. Musica in questo senso, perché Claudio Baglioni, con i soldi così, se tu vedi questa sfera che fa così, anch'io voglio avere le 100 euro. Hai capito? E quindi le collane d'oro. E allora voglio quello, Cocciante, che sarà milionario. Ti fa vedere le foto che ha l'hamburghese, se ne frega. Sì. No, è proprio cambiato. C'è, capisci. È troppo bravo. È cambiato proprio il mondo. No, no, ma è verissimo. La Pausinica ha vinto tutto. Ma mai vedi mai in giro? Mai. Vedi questi qua, quei soldi, a Dubai, col dito medio, tutto uguale. Io ho notato, lo dicevo a loro, le persone più umili che ho conosciuto in questo mondo sono proprio chi fondamentalmente non te lo aspetteresti mai, no? Magari che sono arrivati a grandi livelli. Ti faccio un esempio. Io oggi ho ringraziato Sabrina Ferilli per avermi fatto amare l'Albania. Non so perché oggi mi è venuto in mente, perché grazie a lei ho conosciuto l'Albania. Sette minuti mi ha risposto, ciao Stefania, è stato un piacere, ci vediamo per farti un esempio. È vero. Io mando un messaggio a Mara, due minuti dopo mi risponde. Quando uno è grande, è grande. Quando uno è una cagata di piccione... Però è fondamentale dirlo, perché ad oggi, credimi, nel mio mondo ne vedo tanti, chi ha due, tre, quattro milioni di follower e ti trattano, ma a qualsiasi persona, da quella che ti fa le pulizie, ma proprio a pesce in faccia. E invece chi ha fatto, magari io Sanremo, piuttosto che ai grandi livelli o... Ma i grandi signori sono... È completamente diverso. Non me lo aspettavo, io essendo ignorante, lo dico perché uno non se lo aspetta. Ma guarda che questo è così in ogni ambito, non solo per lo spettacolo. Sì, però non se lo aspetta uno, capito. Quando uno è veramente grande, è grande. Quando uno è un buffone, è un buffone. Adesso, te l'ho detto prima, vanno nel pubblico di un programma famoso e loro sono vip. Sì, sì. Guarda che io ho conosciuto uno, è venuto al bistro un po' di tempo fa, che gli chiedevo, ma tu cosa fai? Dice, io lavoro nello spettacolo. Dico, quindi, ah sai, io vado nel pubblico di questo, di quell'altro, di quell'altro. Penso a te. E poi, quindi, c'è una vip, certo. Sì, sì. Lei di mestiere faceva quello prima del covid. Adesso, grazie a Dio, guarda, qualcosa di buono il covid l'ha fatto. Sì, qualcosa di buono. Qualcosa di buono nella tragedia, è brutto dirlo, ma l'ha fatto. Ha tolto il pubblico. Che per me era... Cioè, però anche il pubblico, la G, io che sono veramente un perso, fondamentalmente, cioè non è che sono Obama, o diceva Trump, no? Però alleno Davide, alleno Fabrizio. Capita in giro, ma spesso, nata scusa, possiamo fare una foto. Eh, beh, certo. Io, io... Sì, sì, rimani imbarattato. Per carità, però se non hai questa lucidità, umiltà, comincia a entrare alla parte. E ti parte l'embarattato. Ma una foto, scusa, guarda, sto mangiando. Sì. Scatto con l'opera e dire, ma chi cazzo sai che fai il personale, cioè, voglio dire. E dopo la gente prima ti fa una foto, poi, sì, grande, sono grande. Fa una foto, non ho tempo. Eh, va a far fuori. Mi ricordo, sai cosa mi hai fatto venire in mente? Raffaello Tonon. Uh. Ah, lo conosco, Raffaello Tonon. Che dice, mi ha fatto, guarda, riguardavo il video, che è su YouTube, di un compleanno, che abbiamo fatto, ne abbiamo fatto un po', che abbiamo fatto assieme nel 2013, mi pare. Mi pare. E quindi un tot di anni fa, e lui raccontava questo, che eravamo morti tutti. Allora dice, sai, io entro in un locale, in un ristorante, la gente mi guarda, buonasera, buonasera, buonasera. Poi, sai, ordino, e questi mi guardano. Arriva lo spaghetto, faccio il rotolo, faccio il rotolo. Raffaello, possiamo fare una foto? Dice, ma cazzo, ma mai un'ora e mezza che mi guardi? Un attimo prima? Sì, certo, perché se dico di no, guarda quel coglione di Raffaello. Questo è vero. E quindi mangi lo spaghetto freddo. Perché devi far la foto? Perché l'ho visto in metropolitana? Eh? Non l'ho mai conosciuto, però l'ho visto in metropolitana, Raffaello Tonon. Per farti capire, uno magari potrebbe permettersi. No, lui è normale. E solo Fabrizio che è all'opposto, quando entra nella parte. Fabrizio, faccia una foto. No. E più no, sei un grande, e una gente vuole, perché il bello è dannato. Se non mi chiama, lui non ha capito che io non lo vedo più in vita mia. No, no, io adesso, mi hai fatto venire, lo so che la gente lo osanna per questo. Ma io, te lo dico, fammi questa e metto una croce. Sì, ma non può fare il carcerato con me, perché sono carcerato anch'io. No, ma lui non lo fa facerlo. Siamo due. Con me deve giocare alla pari, perché... No, ma io lo vedo a volte, non ce l'ho fatto. No, no, ma è vero, è vero. A che ora? Fabrizio, posso dare al locale? A l'ora e mezzo? Alle tre. Bravo. Ma non perché lo fa poco. Perché? Se io arrivo l'un e venti, ce l'ha te. È lindo, è lindo. È grande, è grande. Invece è un coglione, è grande. È lindo. Numero due. È però è vero, ad ogni personaggio si addice una cosa divertente. Certo, esatto. C'è Geriscotti, arriva l'una, perché Geriscotti è quel patatone. È, buonasera. No, no, è vero, è vero. Se io la sua personalità anche dice... Però io, conoscendolo fuori da questi contesti, Fabrizio, c'era anche tu, quando l'ho conosciuto, è estremamente buono, disponibile. Ma è un suono. Io non lo dico, Fabrizio è un patatone simpaticissimo. E poi ha pagato per fare corona. E quello che fuma solo quando fai alle storie e vai in discoteca. Siamo in macchina, che cantiamo, arriviamo davanti al locale, pronti? Occhiale, scende, camminata. Cazzo. E entra in scena però, entra in scena. Recita. Però lui è amato per quello. Però è un attore. E quella roba è un attore per quello. Sì, no, no, ma è vero. Se lui fosse come nella vita normale, probabilmente non avrebbe tutto questo seguito. Lui è così. Io sono diverso. Una volta, no, questa fa una paura. Perché sei simpatico. E perché? Se puoi se fanno una foto. Sì, certo. E beh, perché di te ha un paura. E poi dopo attacco io il bottone. Grazie, sei tu bello. Poi vieni fuori che sei un buono. No, è vero. Eh sì. Corgo mi sa. Davide un altro. Io che l'ho conosciuto ora bene. Diverso dai social. Cioè, nel privato quasi timido. Nel senso, nel social è pieno di sé e personalità. Sono il king. Sempre con il dito. Sì, sì, sì. Campanico, il dito, un don, questo. Però nel privato è timido. Quello è il mestiere. Eh, perché secondo me parla esattamente di ciò che mi fa. Io credo di essere l'unica che è uguale. Sì, sì, sì. Io sono uguale. Sì. Social, televisione o casa, io sono uguale. Io come sono uguale. Identica. Io proprio. Noi siamo uguali. Ma sai, noi siamo nati facendo questo. Nate facendo questo. 40 anni di televisione. E quindi, chi invece... Ma chi è stato tu? Sei emozionata? Dico, ma di che? Chi l'ha detto? Ma chi me l'ha detto? Riccardo. Sì. Ah, sì, Riccardo l'ha detto prima. Però vedi che insegnamento hai avuto? Se non avessi avuto una mamma come la mamma. Beh, ma sai, io avevo 13 anni che avevo un microfono in mano. Ma sì, eh? Abbiamo iniziato a seguire. Però è grazie, ritornando agli discorsi iniziali. Certo, io ero una bambina, quindi non facevo niente. Avevo 13 anni. Avevi i calzettini lei. Marisa del Frate mi disse, ciao bella bimba, come ti chiami Stefania? E da lì basta. Ma a me, io non l'ho vissuta questa cosa, perché per me era la normalità. Sì, era come quando c'era in fabbrica. Davanti alle telecamere, era come un bambino andava a fare un'altra cosa. Cioè, non lo so come spiegarlo. C'era come, non so, uno va in fabbrica, dove vai tu? Io vado a Rete. Ma l'hai sempre portato ovunque? Io sempre. Sempre andato ovunque. Pensa che ti voglio raccontare questa cosa. Dove c'era l'è, c'è lui. Quando andavamo a Torino, allora, a fare la diretta a Torino il venerdì, partivamo da Bologna, in macchina, io e lei. Che Bologna-Torino è un bel viaggio. Bologna-Torino è un bel viaggio, eh. Facevamo la diretta e poi alla notte, alle 3 di notte, tornavamo a Bologna, perché io la mattina poi dovevo aprire il negozio. Allora lei si metteva dietro, sdraiata, e dormiva, e io guidavo, ascoltando la radio, andavo. Mi fermavo sempre in un, sai, motogrill così, che prendevo un paio di caffè, come fai tu così, per star sveglia, perché... Certo. E c'era sempre un tipo strano, un bel uomo con un permeabile di pelle lungo fino ai piedi nero, e il caso strano era sempre lì, e mi diceva, posso offrire qualcuno? No, no, grazie. E vabbè, io riprendevo le mani. Una sera, questo, mi dice, lei va a Bologna, vero? Dico sì. Dice, mi può, dice, mi dovrebbe fare una consegna, una consegna le faccio, dico, ma stai scherzando? Dico, io vado a casa, che ho sonno, vado a dormire. Niente, non faccio in tempo a niente, aprire la macchina, che lui apre la macchina dall'altra parte, lo sportello, sale uno in macchina, sale uno, e io dico, dico, il pacco chi è? Questo signore? Dico, tu vuoi scherzare, tu vuoi scherzare, eh? Dico, io ho una bambina dietro. Nessuno le tocca la bambina e mi fa questo. Niente, buon viaggio, chiude lo sportello, e io, cioè, capire, no, ero imbarazzata, ma avevo anche paura, no? Certo. Allora, niente, vado, provo di parlare, questo non mi risponde. Oh, ma io... Allora io, cioè, aveva una coppola come Fabrizio, calcata così, e gli occhiali, non ho capito se era giovane, se non lo era, io ho capito niente. Un impermeabile col collo così. E non diceva niente? Niente, ho provato tante volte a parlare, non mi ha mai risposto, allora ho acceso la mia radio, poi, capito, siamo arrivati a pagare il pedaggio, perché a quei tempi non c'era. Che tu potevi passare così. E allora io, questo apre lo sportello, scende, si affaccia un attimo di nuovo così e mi dice, grazie che Dio la benedica per tutta la vita. Ricchiude lo sportello e io non l'ho mai più visto. Oh, ma... Sì, questa è una delle cose che mi sono capitate, poi sai quando me ne sono capitate, tantissime, però per dirti che lei è una bambina... Fagli andare a fumare, che vogliono andare a fumare. Chi è che vogliono fumare? Vai, vai, tranquillo. Davide mi continua a dire di diti di aspettare, ma lui prima di un'ora non arriva. Non farei la sesta tappa. Prima di un'ora non arriva. Grazie Steffi per avermi invitato con tanto, questo sono contento perché anche se in piccolissima parte ho partecipato al tuo record. No, no, assolutamente. Ma poi sei piaciuto tanto. Se tu vieni tutti i lunedì io sono felice. Noi abbiamo solo piacere. Parliamo di cose interessanti, che interessano il pubblico, perché sicuramente sei un bel uomo, il che non guasta, capito? Cioè tante cose. Tutte a tuo favore. Sei il benvenuto. No, sì, sì, sì. Ma tu sei bello così perché... Mi sono un attimino, però con il contesto familiare e gli argomenti, non hai quelle pausi. Sei naturale, non sei... No, terribile. Non so cosa fare. Sai, io odio quando andiamo ospiti da qualche parte, adesso ormai tanto, penso che non andrò più da nessuno, adesso è a noi ospitare gli altri. Esatto. Che ti dicono cosa vuoi che ti chieda. Ma come cosa vuoi che ti chieda? Ma chiedi quello che... Le scalette impostate. Vuoi le domande prima? Ma non le voglio. Però, correggimi se sbaglio, è fondamentale. Che cosa? Con chi ti siedi. Ah, beh. Se ti metto a tuo agio. Ah, beh. Quello è fondamentale. E' già metà del lavoro, Luca. La televisione non è per te. E' già metà del... Correggetemi se sbaglio, ma è... Guarda, io sono stato ospite dappertutto, da tutti. Ma qualche stronzo lo incontro. Sì, sì. Io dico sempre il più signore della televisione italiana si chiama Paolo Bonolis. Lui è il più signore che questa televisione italiana ha la fortuna di avere. Non esiste nessun altro come lui. Professionale, bravo, serio, gentile, simpatico, educato, alla mano. Sì. Una parola per tutti, da quello che lava i pavimenti a quello che sposta la scala, a tu. Un grande. Pensa che una volta mi raccontò, non in diretta, ma mi raccontò fuori, dietro le quinte, no? Che lui non lo volevano in televisione. Cioè, lui praticamente gli dissero che non era il caso che lui provasse di fare quel lavoro. Perché non era in grado. Hai capito? Non ho già letto. Pensa, pensa. Ma davanti a un altro ti piace? Erano usciti vari articoli, no? Sul fatto che magari lui scherzasse o piuttosto che davanti a un altro. A me piace da morire. Sul fatto di come lui si pone. A me piace da morire, ha di una simpatia unica al mondo. Lui è... Cioè, non lo trovi mai esagerato? L'hai sempre trovato giusto in qualsiasi... Io lo amo lui. Guarda, io odio i quiz, odio quelle trammissioni di merda. No, no, da come si approccia proprio da lui. Mi piace da morire, ma lui lo guardo. Perché mi piace lui. Anche io, mio marito lo guardiamo. Ma dai, ma lui... Sarà anche perché lo conosciamo. Noi ci abbiamo lavorato proprio con lui. Noi andiamo a cantare la pepina a fa il caffè. Vestito da bambine? L'avrò avuto... Da bambine? Con i codini e i cosi? Beh, io ero una bambina, però... Tu eri una bambina? A me mi aveva vestito da bambina anche a me. Certo. C'è su YouTube. Sì. Però, a parte questo, lui è proprio... No, lui... No. Se qualcuno ha il coraggio di dire qualcosa di Bonolis, è perché parla l'invidia. Ma dai, è un grande, è il numero uno lui. A me piace, credo solo a me, perché se sento in giro sto sul cazzo tutti. A me è mamuccari, col suo modo che ha di fare, anche se ti piglia per il culo, a me piace. È grandissimo. Però se parla di mamma, la gioca, il caffone, piglia per il culo... Anche a me piace. A me no. No, no. È bravo invece. A me no. Perché so che è pesante. Però è bravo. A fare quello che fa è bravo. Devi sempre anche pensare a quello che fa. Sì, no, certo. Ad esempio, guarda, ti dico una cosa che verrà riportata sicuramente da tutti i giornali. Striscia la possono fare solo quei due lì, che io non posso vedere. Estio Greggio e Denzo Iacchetti. Solo due. Chiunque. E i due che sa... Io non li posso vedere, però riconosco che quel programma lì lo possono fare solo loro. Gli unici che hanno preso le redini e l'hanno portato avanti, Ficarre Picone. Sì, è vero. Che se la sono cavata. Tutti gli altri un disastro. Totale. Anche quelli di adesso. Neanche Gerry Scotti ti è piaciuto? Assolutamente no. Assolutamente no. Un disastro, un'annualità. Guarda, mi piaceva tanto prima. No, no. Adesso quando lo vedo cambio canale immediatamente. Allora, per fare quel programma lì devi essere stronzo. È diventato un vecchiaccio. No, no, no. Devi essere stronzo per fare quel programma lì. È un programma che attacca tutti, fa restare la gente e devi essere stronzo. Non puoi essere fra Giacomino e fare striscia alla notizia. Quindi gli unici che possono farlo sono quei due lì. Questa è la verità. Mi è piaciuto per quel Siani perché come attore mi piace tanto. E lei? Lei per l'amore di Dio. Cioè lei... Come si chiama questa qua? Mi viene a dire strano. Non era Michel Unzi che era? No, no, no. Anche io. No, era... C'era che non sempre il sorriso a 360 sempre. Vanessa incontrada? Se lo giuro. Vanessa incontrada? No, non è solo. No, ragazzi, è matrice, è difficile. Molto. È uno dei programmi che c'è da una vita poi. Quindi... Ai, no, in declino come tutte le cose. La numero uno sai chi rimane dopo la step in? Maria. Mara Maria. Sì, sì. Anche se lei è amico. C'è posto per te? Quella è troppo. Però poi viene da fare. Maria è l'unica... La può fare. Innanzitutto ha stravolto la televisione italiana. Perché lei è riuscita a fare una televisione facendo parlare gli altri. Sì. È la numero uno. Sieduta per terra stravaccata. Sì. L'unica che può fare... Vedi, un'altra Maria. Chi è che potrebbe fare Maria? Però, che scuola ha avuto Maria? Costanzo. Che scuola ha avuto Maria? Il numero uno. Oh, Costanzo è davvero il numero uno. Laureata in giurisprudenza. Lei era... Sì, ma io la ricordo. È laureata in giurisprudenza. Perché io con lei la prima volta che andiamo da Costanzo... Dunque, Costanzo ha fatto i 40 anni di trasmissione? Mi pare che mi hanno detto. Sì, sì, sì. L'anno scorso. Noi ci andiamo da 40 anni. Da 40 anni. Sì, sì. Quindi, io Maria me la ricordo con i fogli dietro, a Maurizio, che prendeva gli appunti. Io me la ricordo. Beh, sì, era la sua assistente. Lei è stata... Vedi? È bastante. L'intelligenza delle persone sta in questo. Questo è un grande insegnamento, ragazzi, se volete fare un qualunque lavoro, ma soprattutto questo. Non potete pensare di arrivare in televisione, prendere un microfono e fare i presentatori. Lo fate, ma lo fate da schifo. Io l'ho visto anche pochi giorni fa. E sappiamo. Ma vedere una persona laureata, stare dietro anni, anni, lei è stata dietro a Maurizio Costanzo. Ed è riuscita a fare. Lei in molte cose assomiglia a Maurizio Costanzo, ma è stata anche più brava. L'ha superato. Perché Maurizio Costanzo, per me, io ho un'adorazione per Maurizio e ritengo che... Vabbè, lui rimarrà altri cento anni al timone del suo programma e spero di andarci ancora molte volte. Ma lui è rimasto ancorato al suo personaggio. Lui è rimasto così. Ed è l'unico che riesce a mantenere gli ascolti facendo quello che fa da quarant'anni. Maria è riuscita a fare una televisione che fa solo lei e addirittura lei si è decuplicata. Perché lei fa programmi diversissimi tra loro che vanno tutti bene. Quindi, ragazzi, per arrivare ad avere un microfono in mano e a condurre, dovete stare dietro ad uno grande almeno dieci anni. Dietro però. Eh sì. Proprio dietro. Dietro. Quindi dici che è questa la tecnica. Assolutamente. Aspetta perché arrivo, chiudo e arrivo, Davide. Prego. Prego. Non si può pensare, dice vado a fare il presentatore. Io sono con mia mamma da quarant'anni. Da di più. Perché ne avevo tredici, ne ho cinquantasette oggi. Quarantatré anni. Ok? Ma all'inizio io per anni l'accompagnavo, preparavo la postazione, l'ascoltavo. Poi ho fatto la valletta, ho fatto l'annunciatrice a Rete 4 Piemonte, avevo sedici anni. Sì. Annunciavo il programma, tra poco andrei in onda, guaggia e sì. Eh, ho fatto la gavetta, tanta gavetta, tanta. Ma ti piaceva? È una cosa che... No. No? Ti posso dire la verità? Non gli è mai piaciuto. Non gli è mai piaciuto. Oggi lo amo. Oggi lo amo. Ecco perché voi imparate, avete cominciato ad amare me. Perché oggi lo amo, allora mi faceva schifo. E quando hai avuto il passaggio? Ne parlavamo prima quando mi dicevi... Allora, io all'inizio lo vivevo come un lavoro che dovevo fare perché lo faceva mia madre. Così come, non so, il figlio del macellaio va a aiutare il papà, il figlio del benzinai, uguale. Per me era il lavoro di mia mamma, lo devo fare. Ma va di pari passo con la serenità che mi parlavi prima che sei arrivata ad oggi ad avere? O è solo... A me mi ha cambiato molto tutto il male che ho vissuto. Quindi dici che ad oggi sei convinta del lavoro che fai? Oggi io amo questo lavoro. Ok. Prima... Quindi fino a prima... Prima era un lavoro come esattamente un altro. Era una cosa perché dovevi farla, forse. Guadagnavo tanto, seguivo mia mamma. Però è interessante questo. È una maturità. Ero famosa. È interessante questo passaggio che dici, che ad oggi ami quello che fai. Io oggi amo questo lavoro e l'ho voluto, fermamente voluto, così come ho voluto le cento ore, perché sapevo che solo facendo le cento ore io avrei ottenuto quel riscatto che in nessun altro modo avrei potuto avere. Perché io, vedi, ho sempre anche vissuto la fama e l'etichetta della stronza, figlia di Ivana Marchi. Io ero la stronza, figlia di Ivana Marchi. Oggi io non sono più stronza e sono... Mia mamma è la mamma di Stefania Nobile. Ti faccio una domanda, forse è provocatoria, forse no. Ti faccio una domanda, puoi anche non rispondermi, ma non credo tu lo faccia. Ti è mai pesato essere classificata come la figlia di... No, perché non fregandomi niente a me di questo lavoro, a me non interessava essere... Io ho sempre stato orgogliosa di essere figlia di Ivana Marchi, perché io l'ho sempre vissuto come figlia di Ivana Marchi, ecco perché lo facevo di malavoglia, perché non era il mio lavoro. Oggi so che è il mio lavoro e so che farò tante cose, non solo in Italia. È bello sapere questo, è interessante capire questa scena. Questo no, è molto giusto quello che stai dicendo. Per riuscire nella vita in qualcosa bisogna amare quello che si fa. Se lo si fa perché bisogna farlo, non si otterrà mai niente. Però non è... Non posso fare questo pasto perché... Giusto? Perché poi mi faccio... La gente mi paga, ma io per primo lo faccio, quindi... Tu ami quello che fai, ma lo trasmetti. E in primis che ci crede, dico allora sarà vero. Tu trasmetti esattamente quello che fai, che ti piace. Certo. Però non è scontato. Io proprio forse la domanda di prima dicevo... Il peso, no? Se ti sei mai... Passami il termine, ma non per qualcosa. Non vergognata, però sentita con il pregiudizio che lei già aveva, no? In passato. Ma ti parli di quando? All'epoca. Non dico adesso il pregiudizio... Sembravamo la Madonna di Fatima, quando giravamo... No, ma l'epoca intendo ultimamente. C'è in senso l'epoca del dopo. Io non mi sono mai vergognata di niente. Del dire con tutto quello che è successo non ne hai mai neanche avuto. Assolutamente. Ma con chi? Ma sono gli altri che si devono vergognare. Ma sono gli altri che devono nascondersi, non noi. E' giusto fare queste domande. Magari uno non lo sa. Sì, però, tesoro mio, sarebbe un lungo discorso che tu non sai. Troppo lungo e tu sei troppo giovane per capire. No, no, va bene, ma non c'è problema. Lasciamo andare Natan, dai che è tardi. Sì, vengo... Natan, io ti aspetto tutti i lunedì. Grazie a te. Tu vieni quando vuoi. Grazie a te. Non hai bisogno di inviti, capito? È stato un piacere. Quando vuoi vieni. Grazie, ti aspettiamo. Ma passa tutti i lunedì, dai. Dai, fai una scappatina. Salutami la tua bella moglie. Ciao. Il riso col pollo, dai. Ok, ok. Il riso, il riso e il pollo. Ciao Natan, grande. E comunque, vedi, è bello chiacchierare. È sempre un piacere, sì. Ah, è bello, è bello. Poi lui, sì. Si chiacchiere. A me piace... Questa è la televisione che amo io. Quella che nasce così. Buonasera. Scusi. Chi è che c'è? Noi. Eccoci. Certo. Ma se noi ci aprissimo una bottiglina di champagne, visto che è il mio compagno... Ma mangiare qualcosa no, scusate, ma adesso... Allora, appena ci viene a salutare Luca, così lui va. Ok. Grazie, Johnny. Appena Luca ci saluta, ci trasferiamo a tavola. Ah, facciamo il trasferimento? Eh beh, sì, anche... Certo. Vai, devi attaccare la spina. Io ho visto che c'è inserimento. Allora, Topo chiede cosa porto. Cosa volete? Volete qualcosa da mangiare? No. Ragazzi, volete... Max, vuoi il croque madame? Sì. Vuoi il croque madame? Cosa vuoi? Eh, ma il pollo è poco, eh, ragazzi. Non riusciamo a mangiarlo tutti. L'assaggiamo, ma non è che vi saziate col pollo. Ma poi... Ce n'è un petto per uno, sì. Ma voglio dire, non è che voi siete sazi col pollo. Cosa mangiate? Fagli portare il croque madame. Cosa volete? Johnny, dimmi te. No. Come sei a posto? Come? Hanno mangiato, eh, loro. Avete mangiato voi? Hanno cenato. Avete mangiato? No. No, ma dico avete cenato. Ah, noi no. Noi abbiamo pranzato. Io ho fatto colazione. Lei ha bevuto due caffè? Esatto. No, niente, Davide. Sono le quattro e mezzo. Considera che, vabbè, noi mangeremo tra poco, che dobbiamo ancora mangiare e basta. Poi, davvero, lo champagne c'è. Porta solo la tua personcina. Che ore sono? Ricky ci sta ancora guardando. Vedi che bravo. Le due e mezza. Grande Ricky, numero uno. Le due e mezza, quindi quante ore sono? Come ce la caviamo, editore? Ai dieci. Signore editore, come ce la caviamo? Quattro ore. Quattro ore e mezza. Che cosa? Chiediamo quanta, perché siamo in diretta. Ah, no. Ma va, ma sono volate. Sì, è vero. Mamma mia. Eh. Sono proprio volate, guarda. Sono volate, sì. La prossima... Il prossimo lunedì avremo tante cose in più. Eh sì. Questa settimana, ragazzi, non abbiamo caricato. Nel senso che la prima andava spiegata, volevamo che voi entraste nella dinamica del programma, dovevate capire tante cose e dalla prossima avremo degli sponsor, ovviamente, perché come vi dicevo all'inizio, anche noi viviamo di pubblicità, ma una pubblicità diversa. Come abbiamo visto Laura, vedremo altre persone, ma è una cosa diversa, non la pubblicità così. Poi la prossima settimana avremo, oltre a portare, continuare a portare avanti questa cosa per regalare il lustro che merita a Diagluc, ci occuperemo di tante altre cose, quindi tanti altri temi sociali. Poi molti, in molti, mi avete scritto, ma parlerai delle carceri, ne parleremo molto, ragazzi, perché è un tema che sapete che io avrò sempre nel cuore, sarà la mia parte di cuore dolorante, ma anche quella bella, perché tornando a quello che diceva Luca prima, se noi siamo così oggi, lo dobbiamo anche a quello. Voi non sapete, forse qualcuno lo sa, qualcun altro no, che mia figlia, anni fa, intervistò il direttore di San Vittore. E ci pensavo proprio l'altro giorno che mi piacerebbe tanto. Purtroppo, purtroppo, quell'intervista non è stata più recuperata. Allora, aspetta, dottor Marano, giusto, che poi diventò, lui era un direttore, è stato il direttore di San Vittore quando noi eravamo a San Vittore, un direttore, come può essere un direttore di un carcere? Difficile, è difficile trovare un aggettivo, perché è chiaro che devi essere autorevole, autoritario, severo, però lui era tutto questo, ma era straordinario, un uomo eccezionale, che io poi andai ad intervistare e lui rimase sbalordito, perché disse, ma non mi è mai successo che un detenuto, invece lui meritava questo, tant'è che poi diventò provveditore alle carceri della Lombardia o forse del Nord Italia. Adesso non lo so, però mi informo, perché mi piacerebbe rivederlo ancora. Anche a me piacerebbe. Così come, Lucchi, ci saluto, noi ci vediamo, e vabbè, poi ti chiamo, e tanto lunedì sei qua. Sì, ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì prossimo. Buon proseguimento. Grazie. Grazie, grazie. Grazie mille. Ciao, Natè, ciao. E quindi, lui mi piacerebbe moltissimo andarlo a salutare e anche a ringraziare, perché a me ha insegnato tantissimo, così come ho un desiderio, lo dico così magari lo riesco a realizzare. Ma io sai che ho pensato di chiamare le carceri di Bologna? Io vorrei chiamare, e magari domani chiamo, ma so che non è uno scoglio facile da superare, perché è con chi parli. Comunque, quando noi siamo state detenute al carcere della Dozza di Bologna, la persona che più temevo era la sovra, la sovrintendente. Noi non potevamo sapere i nomi loro. Poi così di straforo avevamo saputo che si chiamava Anna, non so il cognome, non so niente, perché in carcere è tutto segreto. Ma per quale motivo? Io la temevo da morire, era di una... allora mi sembrava cattiveria. In realtà è la persona che nella vita forse mi ha insegnato di più, dopo i miei genitori, d'accordo? Ma che mi ha insegnato le cose importanti della vita. Ha messo a posto un po' le regole nella mia testa. Lei era terrificante. Quando mi chiamava... Nobile! Time out! Io tremavo proprio, mi sentivo il sangue gelare. Ma era una persona che alla fine ho amato, veramente, e darei tanto per poterla rivedere. Spero di... ma rivederla è libera, ovviamente. Mi piacerebbe vederla fuori, sovra Anna. Posso vederla fuori e ringraziarla per tutto quello che lei mi ha insegnato? Mi ha insegnato veramente tanto. E quando, addirittura, quando venivano a dare la doppia mandata alla cella, no? Io mi sentivo liberata perché sapevo che da quel momento lei non mi avrebbe chiamato più. Perché io proprio ero terrorizzata da quella donna. Era una donna particolare anche nell'aspetto perché era molto autoritaria, ovviamente indivisa, ma era piena di anelli. Questo me lo ricordo. Aveva questa voce tonante e era una grande osservatrice. Lei osservava tutto e tutti, sapeva sempre tutto e tutto di tutti, ma era così giusta. Io mi ricordo una volta che l'ho odiata, glielo dico, l'ho odiata moltissimo perché ha umiliato, io credevo che lei avesse umiliato, una detenuta che l'aveva chiamata non sovrintendente e lei l'ha rimproverata ma in maniera molto dura e ha detto, vedi i gaffi qui, non so come si... Io ho pensato, ma guarda te, ma anche io non riconosco i gaffi, cioè le stelle, le cose, la miraglia, la nave, la sovrintendente, la... chi c'era? La sottosovrintendente, questa, neanche me li ricordo, ma di lei mi ricordo. E ho pensato, ma a noi chi ce li insegna? Cioè come facciamo noi a distingere i gradi se nessuno ce li insegna? Però poi ho capito invece che non è proprio così, perché noi avevamo il dovere di informarci, ed è giusto. Se tu ti vuoi relazionare a una persona, tu devi sapere chi hai davanti, quindi nel mondo del lavoro come funziona? Noi sappiamo se c'è un direttore, se c'è un caporeparto, se c'è... cioè è giusto osservare i ruoli. Ecco, lei ha voluto insegnare questo, ma quando si è rivolta a quella ragazza, che ricordo perfettamente, aveva dei capelli lunghissimi, fin quasi per terra, lei si è rivolta a tutti noi, e ha voluto dare testimonianza del suo livello elevato, giustissimo, perché lei lì dentro non era né la direttrice né tutto il resto, ma io mi ricordo solo di lei. E mi ricorderò di lei per sempre e spero di poterla vedere. E guarda, voglio osare, spero di andare a cena con lei, sovra, mi piacerebbe tantissimo, vederla senza divisa e poterla chiamare Anna e non sovra, anche se la chiamerei sempre sovra. Pensa che era una grande stimatrice dei miei quadri. Sì. Le ne regalai qualcuno e spero li abbia attaccati a casa sua. Lei mi disse, quando io ebbi i domiciliari, no? Ed era un passo difficilissimo, perché ragazzi, io uscivo e lasciavo lì mia madre, quindi io avrei preferito morire piuttosto che uscire e lasciare lì mia madre. Però lei mi disse, Dobile, guarda avanti, non ti voltare, a tua madre pensiamo noi, vai fuori! E con questa cosa io... Prendevano. Ma poi ho capito, cioè ho capito, il non voltarsi vuol dire quando esci da un carcere non devi mai voltarti perché c'è questo detto che se tu ti volti ci torni. Quindi io non mi sono girata e non sapete lo sforzo che ho fatto a non girarmi a guardare lei, ma lei mi ha dato la forza di fare questo, ma mi ha dato la forza di fare tante cose. Quando fui trasferita a Pisa è stata una cosa terrificante. Però lei mi ha chiamato, sai, nell'ufficio qualche volta quando tu uscieri. Eh, lo immagino, lo so. Per dirmi che... Perché so che lei si informava. Chiamava... Chiamava argomenti. No, ma è bello perché io in uno di questi lunedì insieme al mio cameraman andrò fuori da San Vittore. Purtroppo voi sapete, molti di voi sanno, che un mio grande desiderio sarebbe poter fare la volontaria in un carcere e quindi vivendo a Milano, a San Vittore. Ma paradossalmente, per questo strano, assurdo gioco del destino infame, uno non può andare a spiegare che cos'è il carcere se è stato in carcere. È come dire, io vi insegno a leggere ma non so leggere. Cioè, ragazzi, come facciamo a dare l'importanza dei volontari in carcere? Quanto è importante? Importantissimo. Fondamentale. È di un'importanza... Noi, noi tutte, ci siamo salvate. Io ricordo Paolo, un'altra figura che ho e che ricorderò sempre, che veniva a leggerci e ci leggeva... La Gabbianella. La Gabbianella. La Gabbianella. E tanti altri libri che ci ha letto. Erano momenti di evasione, erano momenti di libertà. Queste sono persone che tolgono spazio alla propria vita per andare a fare questo nelle carceri. Questi sono i santi, quelli che io amo definire santi. Ecco, io vorrei far parte di queste persone, cioè andare a spiegare alle donne rinchiuse lì come non lasciarsi andare, come non mollare, come non farsi prendere dagli psicofarmaci, come non farsi uccidere dagli psicofarmaci, come non pensare a allontanare il pensiero del suicidio, che è ricorrente, come fare tante cose che io ho vissuto e quindi saprei spiegarle. Comunque andrò a fare... Ah, ok. Aspetta. Spero che non abbia già chiuso, Johnny. Aspetta. Davide, ti mando la posizione. Se ce la fai, porta per i ragazzi... Ok, porta un missile. E se, fammi un favore, porta del prosciutto buono e un po' di pane per i ragazzi. Cioè, pane cristallo, quello che hai. Ti mando la posizione. Così, più di rata di questo, ragazzi. Manca che vi portiamo in bagno. Grazie a voi. Manca che vi portiamo in bagno con noi, eh. E... E quindi andrò comunque fuori dal carcere San Vittore sperando di trovare magari qualche agente o qualche parente, quello lo troverò sicuramente, che mi racconti il degrado cui devono sottostare, le umiliazioni cui devono sottostare per entrare a trovare i parenti. Comunque ne parleremo qua nel momento. Allora, sono le... Le due e mezzo. Due e cinquanta, cosa dite? Ci mettiamo a tavola, noi ci adoperiamo? Sì, però abbiamo bisogno dei ragazzi che vengano... Cosa facciamo, ragazzi? Ci spostiamo e ci inquadrate col totale o dovete salire voi? Ditemi voi. Sentiamo Piddi. No, Davide, Natta ne è già andato. Natta ne è andato perché doveva fare il sesto pasto. Ma tanto verrà tutti i lunedì. Siamo noi, siamo noi tre e i due ragazzi della regia. Cinque. Cinque. Sono in due o in tre, zia? Due. Aspetta che rispondo un po' qui anche a tutti i miei miliardi di messaggi di auguri, grazie. Perché io nasco oggi, eh? Quindi più bel compleanno di così. Ne ho compiuti anche in carcere, eh, ragazzi? Ne ho compiuti anche lì. Non è stato bellissimo, ma siamo riusciti anche lì a trasformare qualcosa di positivo. Dai, noi ce la facciamo sempre. Allora. Oh, mi sa che potremmo... Max, se tu riesci, mi dicono da New York, Filippo Ferretti, che lui è pronto. Allora, in regia hanno la mail di Filippo, possono mandare il link. Max, mi dice Filippo da New York che lui sarebbe pronto. Ci proviamo? No, di Filippo Ferretti? No. Allora, Filippo, parlo in diretta e magari mi stai ascoltando. Mi serve una mail a cui mandare il link da cui tu poi puoi accedere a collegarti con noi. Ok. Che bello. Come sono contenta di questa diretta. Tu sei contenta? Sì. Di questa diretta? Sì. Vedi, mi fa lo stesso effetto delle cento ore. Cioè, mi dimentico di essere in diretta. Vieni qua tu. Io aiuto Antonella? Ah, no. Ah, portiamo già, ok. Sai cosa farei? Mettere il pegamento in tavola proprio come i contadini? A me proprio, sinceramente, giusto? Allora, non è più voluto. No, 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 no. Mi dice Filippo. Stiamo tentando un bellissimo collegamento, ragazzi, con New York, con un importante... Ecco qua. Te lo giro, Max. Questo? Questo o cucchiaio? Sì. Allora. No, cucchiaio no. No, cucchiaio no? No. Ah, beh, sì, per tirarlo su. Ok. Ok, Filippo. Dacci proprio tre minuti e ti arriva il link. Ok? Grande, Filippo! Lui è un giornalista molto importante che i miei follower conoscono perché siamo diventati amici. Ecco, questa è la bellezza dei soci. Siamo diventati amici su Instagram, soprattutto, particolarmente, durante il lockdown. Abbiamo parlato tanto, ma non ci siamo mai visti perché lui lavorava in quel periodo a Miami. Essendo in pieno lockdown, tutti bloccati, insomma, è normale che non ci siamo mai potuti vedere. Non potuti vedere, non ci siamo mai potuti incontrare. E poi, da un mese, più o meno, ha avuto un importante incarico in una famosissima televisione americana, ma a New York, per cui adesso vive là. Io spero tanto di poterlo andare a trovare, chissà, a Natale, non lo so, perché poi mi prendono i sensi di colpa, non voglio lasciare Gigetto a Natale, quindi vedremo, ma sicuramente presto ci conosceremo. Ci conosceremo di persona, ma la cosa bella è che io, pur non conoscendolo, mi sento più amica di Filippo Ferretti che di tante persone che magari vedo tutti i giorni. è una cosa strana. È nata questa bella amicizia che spero, attenta che sono inquadrata qua, spero che duri nel tempo e che diventi ancora più bella quando ci conosceremo. Quindi sono contenta di poterlo presentare a tutti voi. Mi piace che lui racconti, visto che prima parlavamo di determinazione, no? la determinazione che cosa ha fatto di bello in una persona come Filippo Ferretti. L'ha portata in America, l'ha portata a lavorare in televisioni straordinarie di Miami, di New York, così, così. Quindi, ragazzi, i sogni si avverano, ma bisogna avere tanta voglia e soprattutto bisogna crederci. Ecco perché tutti voi dovrete iscrivervi al corso che terremo qui il 27 di novembre dalle 14 in poi una giornata insieme finiremo alle 20, a mezzanotte, alle 2 non ce ne frega niente parleremo fin tanto che ne avremo voglia. Voi, io, Vanna Marchi e Riccardo tre generazioni a confronto generazione di fenomeni. Generazione di fenomeni Adesso noi aspettando New York vi dimangiamo un pezzetto di pollo. Tu quale pezzetto vuoi, Batti? Vuo. Questo? Piccolo. Piccolo? Perché piccolo? Piccolo perché è così. Togli la carta. Del crack. Io prendo la coscietta. Io fin da bimbo ho sempre preso la coscietta. Allora, noi però una bottiglia ce l'apriamo, Anto. Eh sì, eh. Cioè, è sempre il mio compleanno, ragazzi. È spesso? Poi, le 100 ore non mangiavamo per non dormire. Non bevevamo alcolici, neanche una misera birra. Niente, niente di niente. Ma queste non sono le 100 ore. Riscatto l'abbiamo già avuto. Mi spiace dover fare a Antonella... Allora... Sì? Sì, sì? Ci apriamo il Giulio? Vai, Giulio, col bene che ti voglio. La 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 la. Ragazzi, mangio un boccone perché sto svenendo, eh. Abbiamo... Io ho pranzato poi neanche così tanto. All'una e mezza? Lei ancora prima ha mangiato ancora meno, quindi... Io no. Abbiamo i crack. Vuoi sbagliare? No. Allora... Tu dove... Tu... Buonissimo, eh. Buonissimo. Ragazzi, di... Assicuro che è buonissimo. Allora, chi lo apre? Tu? Sciabolo. Sciaboliamo. Vai. Sciaboliamo. Ah, io non sono capace. Allora, io guardo il vetro. Allora, sciaboliamo con il bicchiere. Sciaboliamo in attesa del numero uno che sta arrivando. Poi sciaboleremo altro. Non voglio rompermi un'unghia io, eh. Eh. Non vorrei, quindi. Mi adopero affinché non succeda. Ragazzi, però, dopo, venite anche voi, eh. Una alla volta e venite a prendere un bicchiere di Giulio. Per cortesia. E anche un pezzo di pollo, se lo volete, che c'è. Aspetta che non voglio rompermi un'unghia, so che non si fa, ma... La voglia. Poi il Giulio è cattivo, eh. E quindi? Com'è? Non vuoi un caffè doppio, Anto? No. Ma va? Come mai? È ora del caffè doppio. Ah, ok. Domani è pranzo? Domani è pranzo. Certo. Ottimo, veramente ottimo. Sì. Eh, no, fatto così... Io però non ho capito la ricetta, però poi... Guardi, su YouTube tutta la marinatura, cioè, fatta stamattina. E poi basta, poi hai visto, dopo, una volta fatta quella, fa tutto da solo. È andato da solo. Non devi fare niente. Quindi anche molto semplice. Comodo. Oh. Sgabbiamento, vero? Vero. Vai. Sì, sta bene, orizzontiamo. Allora. Orizzontiamo. Chi miro? Miro al? Giulio è cattivo, eh. Dammi il bicchiere, quello più grosso, Anco. Dammi quello della birra. Perché Giulio è cattivo. È tosto. Ma è necessario fare questo? Eh, se no, non so aprirlo io, e quindi mi viene meglio così, sciavolando, che aprendo. Vai! Tanti auguri, tanti auguri a me, tanti auguri a me, oh, questo è un bel compleanno, ragazzi. Grazie a tutti, anche se non ci vediamo, cioè, voi ci vedete, ma io vi vedo tutti. Vi immagino tutti lì davanti che non ho riuscito a staccarvi dalla televisione. Io lo so, io lo so, ragazzi, questo è il mio preferito, eh. Cosa? Devi? Non farei pubblicità per altri, ma per questo sì. Per questo sì. Vieni, Anto. Oh, adesso sì, che è un bel 57. Prima, no. Ma i ragazzi riescono bene su? Eh, dopo, in un modo o nell'altro, vedremo. Aspetta che facciamo un brindisi, Betto. Vai. Anche l'anto. Ragazzi, venite su! Cin! Cin, cin, auguri, Steffi! A noi, ma soprattutto a voi. Auguri! E a, hashtag, noi creiamo dipendenza, che da stasera per sei mesi sarà qui. Capite? Quindi, non parliamo di un periodino brevino, vero? Poi alla fine dei sei mesi arriverà una robona che... Oh, bene, vai! Cos'è che hanno? Filippo. Ah, Filippo! Filippo! Filippo Ferretti, New York, e gli chiederemo un po' di cose sulla sua vita, che è... Oh! Ciao, ciao, Filippo! Ciao, Filippo! Ciao! Come stai? Un bacio, come state? Tanti auguri, Steffi! Grazie, grazie, grazie! Allora, senti, io voglio sapere subito che tempo c'è a New York. Fa un freddo cane! Davvero? Tanto, tanto? Sì, adesso ci sono sei gradi! Sei... Ebbè, allora più o meno, dai, anche qua. Ma di giorno qua si sta bene ancora, eh? Non è freddo. Di giorno qua ci saranno dodici, tredici gradi. Però venendo da Miami, la volta è troppo grande. Però tu da Miami, certo, la differenza, cioè... Si sente, si sente. Io però ti seguo sui social e mi sembra che tu stia molto bene a New York. Io sto bene, sì. Stai bene, vero? Si percepisce. Vero che... Si vede. Sì, Steffi, è un'altra città, è un altro mondo, New York alla fine è New York. È Miami, è... La Florida, lo sai, canta, canta. Comunque è una città che ha tanta energia. Mare, la lingua spagnola che lì non c'è più. Esatto. Però a New York c'è questa energia che poi ti contagia, e quindi se la sai ricevere, ti dà una forza incredibile. E ti sei inglobato subito bene nel nuovo ambiente di lavoro? Comunque, comunque sì. Sì, perché sai, qua in America inizi oggi a lavorare e oggi cominci a lavorare davvero. Qua non c'è aspetti, passo a passo, ti vai in campo. Ma qua cominci, parti a cento all'ora subito. E quindi tu praticamente hai mollato tutto là e hai ricominciato a New York. Sei un grande, Filippo, eh, davvero. Sai che quella diretta che abbiamo fatto dalla spiaggia, no? Io ero in spiaggia in Albania e ci eravamo collegati con te. È piaciuta tantissimo. E mi hanno scritto, ma non hai idea in quanti? Perché erano rimasti affascinati dal tuo racconto di quando hai deciso di andare a Miami. Lo voglio raccontare ancora? Penso che fare il giornalista è un lavoro che ha una grandissima responsabilità. perché si tratta soltanto di raccontare storie, raccontare la storia degli altri, ma uno ha una responsabilità tanto grande. Perché comunque uno deve conquistare la fiducia delle persone. e uno ha un, come ti posso dire, ha la responsabilità di essere il messaggero di notizie. Notizie che sono, nella maggioranza dei casi, notizie difficili, notizie brutte. E mi rendevo conto che in Italia è rinforzibile farlo. Perché, pensa che, faccio un passo indietro, mi piace guardare la televisione italiana. E, precisamente oggi, stavo guardando un servizio di un programma, credo che era di Rai. Praticamente sputtanavano veramente una persona brutta di un crimine brutto, certo, un crimine brutto. E questa persona era appena attaccionata. Se è vero, era realmente un crimine brutto, perché era una persona che aveva messo, sai, queste goccioline per... dei drink, per poi... La droga dello stupro. Sì, sì. La droga dello stupro. E ho detto, questa persona è stata arrestata ieri e oggi è già il maniaco seriale. Il processo era già stato. E lì ho pensato a te. Perché ho detto, questo in America è impossibile. Sì, veramente, prima di andare in onda, qua c'è molto scrupolo su... su dare un giudizio definitivo sulle persone. E poi alla fine questo è il giornalismo. Cioè, in America... Perché se lo fai col vicino te ne freghi. In America, credo, credo, eh, lo chiedo a te. Cioè, quando uno deve affrontare un processo, c'è più rispetto, nel senso che... qua è già deciso. Perché se l'opinione pubblica ti ritiene colpevole, basta, sei colpevole. Lì, credo di no. E poi una cosa che mi piace è che qua tu hai possibilità di fare degli sbagli, paghi, una volta che hai pagato è finito. Basta. Ecco. Ma non c'è da dire, no, va, brettela di... È come quando prendi una multa. Sì. E tu prendi una multa. L'hai pagata e basta. L'hai pagata e basta. Non è, no, ma per te hai posteggiato dove non si poteva. No. Hai pagato... In Italia tutto è per sempre. Tutto. Tutto è per sempre. E soprattutto le cose brutte. Purtroppo sì. Filippo, ma di dove sei tu di Natio? Di Firenze. Ah già, che me l'avevi detto. La più bella città d'Italia. Bellissima. Vero. E da quanti anni non vieni in Italia? Pensa che io avevo il biglietto per andare a Firenze a marzo del 2020. Ah, proprio quando è scoppiato tutto. Proprio tre, quattro giorni prima che chiudessero tutto. E quindi non vieni da... L'ultima volta sono stato nel 2019. Ma cosa ti manca soprattutto dell'Italia? Se qualcosa ti manca. Penso che dell'Italia mi manca, senza tutta la mia famiglia, mia mamma, senza dubbio. Sì, questo sì. E mi manca, penso che mi manca la parte della cultura. Alla fine l'Italia è un paese che... Io non mi riconosco come italiano. Cioè mi riconosco qua come italiano, vabbè. Però mi manca questo fatto di riconoscermi nella gente. Gli italiani sono... C'è una cattiveria in Italia che è pazzesca. Sì, sì. E vedi il... Sapetto? Per la strada. È vero. Quindi se... Non mi riconosco in questo. Quindi questa è stata una delle prime ragioni per cui sono andato a... Sono venuto qua. Quindi senza dubbio mi manca questo. La roba da mangiare è buona. E l'aspetto della cultura. Perché poi alla fine sei italiano, nasci con certe cose. E certo. Poi tu sei di una città talmente bella, dove la cultura è talmente ricca, che certo, l'arte, la storia, tutto. L'America è un popolo giovane, è un paese giovane. Senti, ma... Loro come ti accolgono? Cioè lasciamo stare lavorativamente, che tu sei bravissimo, quindi è chiaro, tu sei perfettamente integrato e dai del filo da torcere agli americani. Ma nella vita, nella quotidianità, come viene visto un italiano che lavora in America? Qua la cosa bella dell'Italia e dell'America è che se tu sei, lo sai fare, quando c'è un problema di età, io in Italia non potrei mai lavorare, 42 anni non potrei mai lavorare a questa età, sarei troppo bene, fuori da qualsiasi età. Quindi l'America è un paese che riconosce i meriti, che riconosce la bravura? Sì. Pensa che comunque un italiano che lavora, qua non hai bisogno del tesserino per i giornalisti per l'esame di Stato, perché queste stronzate non esistono. Qua se lo sai fare, lo fai bene, se lo fai male ti buttano fuori su. Ah, beh, ah sì? Cioè lì devi dimostrare di farlo, non c'è il tesserino lì, che poi qua sai... Con la cosa del pubblicismo sono tutti giornalisti, tutti e nessuno. Hai sentito che hanno chiuso due testate, due TG in Italia, a Mediaset? Sì. Hanno chiuso TG4 e Studi Aperto. Passissimo. È che il problema, per esempio guardando la televisione italiana è una qualità orribile. Beh, salute e tanti auguri. Purtroppo non c'è niente. Cine, come vorrei brindare con te. Lo faremo, lo faremo presto. Eh, sì. Purtroppo penso che guardando la televisione italiana io a volte la guardo e dico madonna, è cosa brutta. È brutta. E soprattutto è brutta. Ci sono tanti programmi brutti, di cattiva qualità, di messaggi sbagliati, persone che non ci dovrebbero essere. Penso all'odio, alla cosa, sì sì, terribile, è vero. E questi dibattiti, questi programmi di cronaca, che io li vedo qua a volte la mattina, quindi immagino sono di pomeriggio, questi programmi orribili dove ci sono queste persone che non hanno nessun criterio, che stanno lì solo per parlare, dire le cose ovvie. Forte. Eh sì. Mentre in America l'informazione com'è? È più attinente alla notizia. Non c'è questo sciacallaggio. La notizia. Infatti, l'hai fatto, perché l'hai fatto cosa è successo? Finito. Eh. Non c'è l'esperto che sta a dire, no ma te hai fatto. Ci sono dei programmi in Italia che comunque, veramente da giudizio mediatico, che fanno odio, ovviamente, questo aiuta, però purtroppo ci sono persone vere dall'altro, persone che hanno sbagliato e che le continuano a martirizzare per gli sbagli fatti, persone che non l'hanno sbagliato, poi alla fine chi ti va a dire che no eri inocento? Eh sì, solo. È brutto. È vero, è vero. Quindi adesso tu, vabbè, poi la vita è lunga, tu sei giovanissimo, non si sa, però adesso tu stai benissimo a New York. Abiti in una bella casa, in un bel quartiere, non voglio saperlo, ma bello? Sì, in realtà la casa è bella, la casa è... Beh, qua ci sono dei prezzi pazzeschi a New York. Eh, immagino. I prezzi sono veramente alti a New York, tutto è veramente troppo caro. È tutto, è tutto too much. Eh sì. Io l'altro giorno penso che... L'altro giorno, per esempio, stavo... Perché c'è un po' di ritorno, quindi ti sento un po'... Certo. In qualche seconda. L'altro giorno, per esempio, stavo cercando posteggio e qua se metti sulla strada ti fanno la muta subito, quindi ho cercato un posteggio e vedo fuori 8 dollari e 90. Dico, vabbè, 8 dollari e 90, alla fine, allora, io penso, 8 dollari e allora, ma... Sono tanti, eh? Sono tre ore... E che cavolo? E mi fanno un conto di 80 dollari. 8... 3 ore? Ho detto, aspetta. Ho detto, aspetta, no, ma 8 dollari e se entri a luna di notte e per mezz'ora. Sennò sono 25... Mamma mia. Mamma mia. La mia persona cosa deve guadagnare? Scusa. Quindi è meglio andare a piedi. La macchina non può posteggiare. Oppure bisogna sempre andare. Oppure bisogna andare con qualcuno che ti fa il giro. Perché tu giri per fare i servizi, ovviamente. Tu sei in giro. Sì. E qual è la notizia, per esempio, più clou adesso a New York, qual è che hai dovuto dare? Beh, adesso, per esempio, purtroppo si continua a parlare tanto del coronavirus. Il coronavirus qua stanno facendo un sacco di... Come ti posso dire? È un misto tra il Green Pass, però il vaccino per tutti, dai bambini agli adulti, a terza dose per tutti. Cosa interessante, per esempio, che qua si può fare la terza dose soltanto se tu hai voglia. Per esempio, ma non devi avere lavorare, non so, in un ospedale. No, se sei adulto e vuoi la terza dose, ti la fai. Certo, certo. Senti, e com'è? Non voglio parlare di politica assolutamente. Ma com'è adesso con questo presidente? Io ti posso dire che, in contatto con Trump, i prezzi sono alle stelle adesso. Sì? Tutto è molto, molto caro. Ti posso dire, dal latte alla benzina, dagli affitti alla carne, tutto va più del doppio. Ma... E gli stipendi sono gli stessi. Ah, ecco, ti stavo chiedendo, gli stipendi sono in proporzione o no? Cioè, sono rimasti così ma... Gli stipendi sono gli stessi, se no un po' più meno. Ma uno stipendio medio, cioè un commesso a New York, quanto guadagna? Io penso che un commesso a New York... Beh, ti posso dire, per esempio, ho visto gli annunci che se te lavori in una... Tipo un McDonald's... Sì. Ti pagano tra i 12 e i 14 dollari all'ora. Quindi sarebbe buono se fosse qui. Qui sarebbe buonissimo. Sarebbe molto buono se fosse qui. Eh, qui sarebbe buonissimo, lì non credo. Qui in realtà non puoi vivere con il stipendio. Eh, no. Ci sono persone che lavorano due o tre. Lì credo che sia la complicazione più grande sia che molti vivono talmente lontane o che per poter spendere meno che passano la vita in metropolitano, in treno. Sì, questo è il problema perché, per esempio, e qui le distanze sono immense. Quindi ci sono, certo, c'è la possibilità di prendere la metropolitana, però da una punta all'altra può essere un'ora e mezzo. Quindi immaginati tu una giornata, perdere quattro ore della tua giornata in treno o in macchina. In treno ancora ancora puoi fare qualcosa, ma in macchina... E lì è tutto amplificato, è tutto grande. È tutto grande, sì. E dove si va il weekend a New York? Cosa si fa il weekend a New York? Si fa di tutto. Pensa che io... Io credo che sono tre weekend che mi sono trasferito qua e ancora non so che fare. Ah sì? Il primo ho dovuto spacchettare tutto. Il secondo sono andato al giro e il terzo pure sono andato al giro. Purtroppo sto lavorando la domenica, quindi il mio weekend è un po' più corto. E c'è così tanto da fare... Che non si sa... Non si ri... E immagino... Che non so da che parte iniziare. Adesso ci sarà anche già l'aria del Natale, eh? Sarà già... Sarà... Comincerà a essere bellissima. Sì, qua cominciano prestissimo qua il Natale, sono esagerati in tutto. Quindi Natale... Sai qual è uno dei miei più grandi sogni? Pattinare a Central Park. Sai che ieri mattina ero andato a Central Park. Vedi? Io sarà che... New York l'ho vista d'estate, ma New York è inverno, no? L'estate... New York è inverno. Non mi ha fatto impazzire, però tutti i film, no? Che ho visto, milioni di film, tutti ambientati a New York d'inverno, bellissimo, l'amore, i pattini, le foglie. Stupendo. E quindi uno dei miei sogni è quello. Poi se incontrassi mio marito, Al, sarei felice, capito? Senti, ma lì è già uscito il film? House of Gucci. È già uscito in America? Sì, è già uscito. Ah sì? E tu l'hai visto? Ancora no. Eh, quando lo vedrai, che lo vedrai prima di me, dimmelo. Perché qui esce il 16 dicembre, tra un mese. Ma dai, veramente? Sì. Non so perché, poi il mio marito, scusa, poteva farlo uscire prima. Dai, punto. Non lo sai. Oggi è 16 novembre, per il mio compleanno me lo facevano vedere. No. Niente. Ma sai che io sto vivendo in un quartiere che è a cinque minuti dal Central Park. Ah, che bello. Si chiama Harlem. Si chiama? È Harlem. 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 Negli anni passati Harlem era un quartiere di neri, quindi era un quartiere malfamato. Poi negli anni, ovviamente considerando che la città cresce, quindi adesso è diventato, come ti posso dire, la parte più alla moda della città, perché comunque ci sono tanti edifici che sono durati, tanti locali, e belli, e ho scoperto, ma non so se è vero, che tuo marito ha vissuto in questo quartiere. Vedi? 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 Ah, ma tu invece, Harlem. Sì? Ah, non avevo capito. No, Harlem l'ho vista anch'io. Sì, viveva lì. L'ho letto nella sua storia. È vero, è vero. L'altro giorno ho trovato per strada come un poster che diceva che erano i vicini famosi e tra l'altro c'era il tuo marito. Ma dai, ma lui adesso dove vive? A Los Angeles? Credo, sì. Non lo so, dovresti saperlo tu. Eh no, perché sai, è un sorbetto, eh. Non è che mi dice proprio tutto. Lui mi chiama, sono qui, sono lì, ma vai a sapere tu dove vive. Sì, appunto. Senti, l'amore come va? Bene? Bene, benissimo, tutto bene. Bene, bene. Sono molto contenta. A New York. A New York. Anche la tua metà. È lo stesso, lo stesso amore. No, dico, prima Miami, dico, si è trasferita anche la tua metà, giustamente, a New York. Ah, ole. A New York, eh. Quindi è già un po', perché è un paio d'anni? È un paio d'anni, sì. E vedi che io mi ricordo tutto? Mi ricordo quando me l'hai detto, mi ricordo tutto. Io ti ho detto, no, andrà benissimo. Perché tu lo... Guarda, io credo che una persona con un sorriso come il tuo, meriti solo di essere felice. Non può desiderare... Cioè, non potrei augurarti nient'altro perché già esprimi. Guarda che facciosa. Tu sei la facciosa della felicità e della... Che meraviglia! È strana sei questa cosa, che ci vogliamo così bene e non ci conosciamo. È incredibile, eh? È vero. È vero. Questo è il lato bello dei social, vedi? Sì, e questo dovrebbe essere un esempio soprattutto come tu gestisci i tuoi social. Perché ci sono purtroppo tantissime persone sulle varie piattaforme, TikTok, Instagram, Facebook, che usano... I social sono una cosa grandissima, sono una potenza in mente. È vero. E hanno un costo bassissimo perché alla fine ti dedichi tempo, però non devi investire in un negozio, un fondo, partire l'affitto, un deposito. Lo fai bene, lo sai fare. È un mercato in un filo. Purtroppo ci sono tante influenze. La cosa oggi più potente del mondo che però per molte persone è come avere una Ferrari e non averla patente. Perché non hanno capito che non... Esatto, o non metterci la benzina. Sì, i social non è far vedere il culo, le tette o i pettorali, la spalla, cioè, è altro. È un po' come la televisione in chiave moderna, cioè devi avere dei contenuti perché se no non vai molto lontano. Ecco, è vero. E comunque ti danno la possibilità di conoscere il mondo intero ed è bellissimo. Purtroppo ci sono tante persone, i cosiddetti VIP, che allora perché chissà sono famosi per qualsiasi cosa, allora sono inavvicinabili. Tu sei l'esempio contrario. Grazie. Quindi è l'esempio anche del tuo successo. Perché comunque questa è la, credo che sia la base del social, avere una relazione, un rapporto sociale con l'altra persona, con i follower. Ma io credo che sia, se tu decidi di darti, devi anche, cioè loro ti seguono, tu devi dare, non so come dire, devi ricambiare questo amore di queste persone che si svegliano guardandoti, mangiano e ti guardano, sono al lavoro e ti guardano. Cioè gli devi, gli devi tanto, gli devi tanto. Secondo me sì. Poi c'è chi li fa in un modo, stai contando i follower e non ha mai risposto a un messaggio. Vabbè, ne parlavamo anche prima. Non significa niente. Io non lo farei. Se dovesse avere un profilo io così non lo farei. Non lo farei. E che non ha senso. Non ha senso. Non ha senso, no, no. Invece è proprio bello perché poi io sento di dare molto ma mi danno molto anche i miei follower. Cioè tante volte mi insegnano tante cose, sono una lezione di vita, sono, insomma, scambiare, comunicare è la vera richiesta. Che poi sia in qualunque lingua del mondo ma è la cosa più bella che ci sia. Che ore sono io? Sì, è vero e poi ti dà la possibilità di rompere le barriere della distanza. Penso, stiamo parlando da New York. Capisci? La bellezza. E siamo come se stessi lì. Sì. Che ore sono Filippo a New York adesso? Sono le nove e me. Di sera? Di sera. Quindi vai a cena? Quindi vai a cena sì. Ho appena finito di lavorare. Hai finito adesso. Senti, ma esiste ancora il ristorante di Robert De Niro, il Tribeca? Sai che non lo so perché avevo letto che in realtà non andava molto bene. Sì. Così, finalmente. Sarà un'emozione, faremo quelle scene proprio da film, eh? Io patinerò a Central Park. Tu mi verrai incontro. Patineremo. Ho partorito una deficiente. Hai capito? Dai, che ti lasciamo andare a cena. Ti voglio bene, Filippo, davvero, ma hai fatto un regalo grandissimo. Grazie, Filippo. No, senti, grazie, auguri. E posso dire che Vanna è bellissima sera. Sempre bellissima, però oggi è bellissima. Io ti ringrazio, tu sei veramente molto, troppo gentile, grazie, grazie mille. No, veramente, sì. Per almeno 80 anni li porto benino, dai. Eh, direi. Dai, direi. Direi che sì. Grazie, Filippo. Filippo, grazie davvero, sei un amore e poi ci sentiamo. Un bacio. Adesso abbiamo anche i Whatsapp, quindi. Ok? Appunto, adesso non ci manca niente. Ciao, ti voglio bene. Tanti auguri. Ciao, ciao. Ciao, Filippo. Ciao. E che carino, vedi? Sì. No, ma lui è meraviglioso. Gentile, sì, molto. Vedi, parlavamo prima di quando uno è veramente qualcuno. Filippo è qualcuno, però, ecco, questo è l'esempio. Un grande giornalista a New York, che non è cosa, eh? Mamma mia, che fame che ho. Mi prenderò un altro peggio di pollo. Io no. Meglio. Ottimo. Ottimo. Come tu no? No, no. Perché? Perché no. Una fame che mangerei. Eh? Un dromedario in birrito. Con un'anguilla. Che l'anguilla. Stavolta è un espadale, come è spiaggiato. No, no, è in birrito. Sai cos'è in birrito? No. È uno in calore. Ah, orca. L'opposto proprio. Ti monta una. Va bene, va bene. Va bene. Sì. Fermati. Dove sei andato? Sì. Questo? Questo pollo è fantastico. Cioè, veramente. È buonissimo. Lo devo fare assolutamente. Dicevo che, se ci pensavamo, si poteva fare un po' di... insieme, eh? È vero? Come va? Questa ha avuto l'approvazione anche di Nathan. Davvero? Ce l'ha abbonata anche lui. I blasi sono ancora incollati alla tv. Ah. Che bello. Eh, ma è così. Noi creiamo dipendenza. Molto, molto carino. Veramente. Mamma mia. Che personaggio. Filippo, sì. Dolcissimo. Voi è una persona dolcissima. È proprio un bravo ragazzo. Allora. Vediamo un po'. Ah, Piddy che ha messo la mia sciabolata. Eh, non so. Mi sta riprendendo la mannata. Ah, più difficile, Giulio. Adesso ti porto io. Sto arrivando. Ah, che brava bambina. Ah, ma piccola. Infatti, Giulio è la più difficile da sciabolare. Perché? Perché ha il collo molto grosso. Non ha il collo sottile come... Ah, mi sembra che te la sei cavata bene, eh? Eh. Con l'attrezzo giusto. Bello. Mi sta piacendo molto. Io guardo tutto. A me quello che fa impazzire che mi mandate sono tutte le foto delle televisioni nelle varie case. Ah. che è la risposta, no? Che ci stanno seguendo. Vanno a Quartorito una deficiente e fa morire le risate. Non per la frase, ma come dice le cose. Che è una buffona, lo sapete. È una buffona. Sto seguendo il collegamento con Filippo Fantastico. Sono d'accordo con quanto dice non c'è più la TV di un tempo, anche l'informazione è distorta, manipolata e improntata a creare odio. Leggevo l'altro giorno che l'Italia è il 41esimo posto al mondo in libertà di stampa, quasi ultimi. Buon proseguimento, auguri. Grazie, Giorgia. Pensa come sono combinata, eh. Cosa hai fatto adesso? Allora, mi stavo avviando per darmi un po' di rossetto. Sì. Vedo un signore e dico buonasera. E chi era? Indovina chi era? Massimo. Ma va, era tuo marito? Ah, Al. No. Ah beh, io quando facevo la doccia che faceva alle 100 ore mi pigliavo dei colpi pensavo fosse un guardone. Perché poi c'era quel cavolo di cosa che si spegneva la luce. Il sensore. Pazzesco. E io mi giravo che si spegneva la luce e ci vedevo un uomo. Antonella, prendi due bicchieri che diamo lo champagne Eh sì, eh, ragazzi. Ai ragazzi. Non lo vuole, Gianni? No, è un uomo. No, è un uomo. No, è un uomo. Eh, beh. Champagne. Per brindare a un incontro Con te Che già eri di un altro Cutana Ricordo C'era stato un indito Cutanona No, ma veramente Ha pensato Vi dico buonasera Mi rendo conto Il corona Chiamava Non ho la suoneria Ci sono Ah, ok Max, quando puoi collegamento con Fabri Fabri Ti manda un altro link Appena lo vedi Vai E entri Io mangio Mangio Cos'è rotta? Portabuono Sì? Spaccali tutti No, beh, adesso Dice che portabuono Non lo so fare Fammi chiamare Perché sono rimasto solo Sono uscito Non lo so fare, ragazzi Non lo so fare Non lo so fare Non lo so fare Cazzo Sono a casa da solo Dimmi cosa devo fare Perché sono incapace Anto Vai a chiamare Fabrizio Digli cosa deve fare Che è a casa da solo Eh, ma adesso Lo guida l'Antonella Lui fa così Si chiama Si chiama Si chiama Anto Ma è venuto come doveva o no? Buonissimo 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 Io mangio Tu racconta qualcosa Ma stavo aspettando il collegamento E quindi mi ero E quindi mi ero Zittita Per così dire Com'è che hai messo Quella testa nera Lì così Non ti piace Beffi? Ma non vedo Il nesso Non capisco Ma non c'è sempre Guarda Hai lasciato lì tutto Io? Questi? È osso Queste ciccia Non è osso È osso È obbligata? No, no Allora mangio l'osso io Sì? Certo Lo fai di solito Ragazzi Questo pollo è da Oscar Capirai Le è un pulastro No, no Le banno Alla fine Le è un pulastro Le banno Le banno La bourguignon Sei riuscita? Ha un guardone E comunque Antonella Sta mangiando Guarda Ogni tanto mangio Certo Poi oggi ha la minigonna No la minigonna Eh la minigonna Volevo dire la gonna Non la minigonna Non l'ho mai vista La vedo sempre con i jeans Ha la gonna Guarda là Hai capito? Hai capito? Che figunte l'oscia Eh? Noi avevamo uno Nel paese dove abitavamo Zanna Emilia Che diceva Gnocca la madre Figa la figlia Sì Tutte le volte che mi vedeva Io dicevo E Bernarda la nonna Che non l'hai vista Per anni Me l'ha detto Arrivavo E gnocca la madre Figa la figlia E Bernarda la nonna Il figlio della Dino La Fioraia Sì Eh ragazzi Quanti ricordi Allora Ieri Eh O oggi Mi ricordo Ho perso il conto Guardavamo un video Dove Riccardo Fogli Cantava E mi è venuto in mente Quando io Conobbi Riccardo Fogli Che mi faceva un gran film In un aeroporto Di una bellezza Di una bellezza La Fciaia L'Ena Brotta Bagaglia E io ho detto Ma come mai La vecchiaia È così La Fciaia L'Ena Brotta Bagaglia Ma era talmente bello Eh sì Abbiamo Fabri? Sì Fabri Fabrizio Oh Dove sei? Ciao Aspetta Aspetta Cosa fa? Si sta Cercando un'angolazione Eh Va che sei bello In tutti i modi Fabri Sì Inanza Retta Di fianco Allora Amore Sei bellissima Oh Ciao 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 Allora Ciao Vanna Ciao 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 Fabrizio Prima di tutto Cosa devi dire? Tanti auguri A te Oh Grande Scusami ma Ti sei rifatta qualcosa Perché sei più bella del solito oggi Io o lei? Che cosa? Io? Oggi sei veramente bella Amore ho la frangia Tu non mi hai visto ancora Eh? Ah ecco cosa c'hai di nuovo Ma stai bella amore? Ho la frangia Ma cosa c'hai lì? Una pentola? Cosa? Certo stiamo mangiando Il pollo a limone Che ha fatto lei Guarda che abbiamo fatto una puntata fighissima Bellissima Nathan è appena andato via Quanti sono? 43? I miei? 57 Va bene Non ho una bottiglia di champagne da festeggiare Ma la domanda è Ma la mia vanna Ce la fa a reggere Pino a che ora Pino a che ora Da davanti A far cosa? Ha fatto le 100 ore Lei vuoi che non rega 8 8 sono una passeggiata Cosa vuoi che sia Allora domani sei a casa tu? Domani Domani mattina esco Mezzogiorno Dopo le 4 sono a casa Allora arrivo io con una bottiglia Che brindiamo Va bene? Facciamo una bellissima storia Instagram Per tutti gli amici E festeggiamo Bravo Allora Lo vuoi dire finalmente Che io ti posso vendere per le serate? Assolutamente sì Assolutamente sì Non è che noi vendiamo Ma mi vedete appannato anche voi? Sì Anch'io ti vede appannato Aspetta che puliscono la telecamera È la Questo mezzo Lo vuole Carlos Sei appannato Sei guai Aspetta che pulisci Che pulisce il video Allora Senti Io vorrei sapere Fammi vedere bene Aspetta Che acconella quella? Sei appannatissimo Fabri Aspetta che sono così appannato Aspetta un attimo Come succede? Aspetta che cerco È il bello della diretta Sarà una delle tue creme Saprei che Fabrizio è l'uomo più profumato d'Italia Davide non c'è? Sta arrivando Eccolo Vieni Davide Dov'è Travallo? C'è in collegamento Fabrizio Vieni Vieni Cercavo di capire Dagli il gelato Anto Dov'è il gelato? Aspetta che non sei microfonato Oh grande Anche Shine Grande Grande Grazie 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 Gli auguri più belli del mondo Guarda qua Grazie E' là ma è tutto appannato Guardalo Appannato A cavallo Grazie E siamo qua col pollo Dice Fabrizio Cos'hai una pentola? Senti Fabri Fammi parlare con Davide Aspetta che non sentiamo Fabri Amore fammi parlare con Davide Ado vai in diretta? Non hai il microfono Davide Datemi il gelato Dov'è? È ingrassato Davide Aspetta un attimo Che gli do un microfono Aspetta Guarda che dovete fare Le serate insieme Voi due Amore sto mangiando Sto mangiando Mangiando sushi Davide Qui Vai cavallo Ti cercano loro Pronto? Vai cavallo Sedi Si sente? Cercatemi Cavallo Allora cavallo Allora quando facciamo una serata Organizziamo in diretta una serata Una serata in cui mettiamo una console E vengo a suonare la gittoria Non si può alzare non l'ho sentito Aspetta Dovrei capire come pulire la telecamera Ecco adesso sento È tutto appannato Aspetta rimani così? Fermo così? Profilo? Guarda che bello che sei Quasi ai miei livelli Allora dobbiamo vendere Io che sono la numero uno Devo vendere una serata con voi due insieme Tagga qua Tagga Stefania Facciamo una tournée in Italia Tagga Ci stai? Fabrizio Assolutamente sì Ti trovo in forma Devo dire la verità Sei bellissimo anche te Noi siamo i king di Milano Se andiamo in centri E te spacchiamo tutto Si deve girare anche la madonnina Quando arriviamo Allora Davide Questo venerdì lavori? Eh no Non lavoro mai Sempre in festa Dai Pira Ho lavorato quando facevi mercati Quando è che vieni da noi Fabrizio? Allora sei all'agittoneria venerdì? Eh dai Ti aspetto Adesso puoi uscire no? Allora Io venerdì Ho un permesso Eh Ho una serata a sesto Quindi qua Sono dalle due alle quattro Ok Prima Verso mezzanotte e mezza Vengo a sbocciare All'agittoneria Vai Ma venerdì? Questo venerdì Ah bene Ok Ok Posso? Pago Sei capo Tu sei il padrone Tu sei fratello C'ha la scacchiera però ricorditi Dobbiamo fare la partita a scacchi ancora Davide vengo con quella ragazza Che ti piace tanto No non mi permetto più di guardarla Perché Sai perché? Perché io quella volta che ho visto So che tu sei mai Sembra ragazza appariscenti Quella volta che sei venuto là Ho detto Ho visto una ragazza che sembrava quasi che passava inosservata No? Ma una bellezza particolare Poi ho detto Ma chi era questa qua? È la sua fidanzata Eh ma che ne sapevo io Cioè Non lo sapevo E quindi Ma oh Complimenti Bravo Se sembra un cavallo Seria Cioè è veramente Seria Cosa? La fidanzata è seria Questo giro Eh sì L'ho vista è brava Anche tu sei preso Vedo tutte le storie di sbaciucchiamenti Era ora Devo dire la verità Purtroppo sì Eh meno male Ma meno male Ma si vede che è una brava ragazza Meno male Sto scherzando Ma domani la vedo? Certo Ah bene Perché vado alle 4 Da lui? Da lui se vuoi venire Cioè tu non dormi mai Alle 6 chiudiamo Ma quello alle 4 dormi Stai qui Alle 4 dormi Beh ma è il mio compleanno Mica dormo Io figurati Ma va No vado da lui Che vado a brindare con lui Se vieni anche te Andiamo a trovare Fabri Ok Ma senti ma il nostro amico Il proprietario del canale Dov'è? Il proprietario del? No il nostro Riccardo non c'è Ma perché non si vede l'inizio? Riccardo c'era prima La gente non lo vede l'inizio Ah ok Riccardo c'era prima Però a mezzanotte sveniva E allora è andata a casa È nata? Cos'è venuta a fare? No ma nata Ne si piace da morire Ma gli ho scritto Aspetta Perché sto portando un po' di Di cose per te Da bere così Niente Voleva Voleva il biberon E niente da fare Doveva fare il sesto pranzo Allora è corso a casa Doveva mangiare 40 grammi di Ma c'è venuto lì no? Apriamo sto salon Vai che intanto Lo comprendiamo Con Fabrizio Cavallo vero Ma sai che siamo usciti Venerdì Sì Sai che siamo usciti Venerdì con Natano Sabato Che Io vi ho visto Quando eravate al Pineta No E poi questo sabato Sono stato al Salice Ma poi sono venuta a Milano Non uscivo da Da tre anni Da Milano Da cinque anni Madonna Che bello però Dov'è il telefono? Che meraviglia Io ti ho visto anche Quando eri là In quel posto Con tutta quella gente Con i bimbi Dov'eri lì? Amore Buccinasco Cos'era? La verità Parlando seriamente La verità? Parlando seriamente È che non mi aspettavo Un'accoglienza di folla Così Grande Così bella Eh ma la gente Ti va bene Ma che apro il salon Fabrizio Apro il salon Per te Fabri Per te compri Andi a Stefania Fabri vai Salon Ah 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 Cos'è uno champagne? Champagne pesante Questa è roba seria È il top È il compleanno della bambina Vai Io mi sono portato lo zato Dove è finito? Dopo facciamo parlare Cosa Chi? Ah è qua Shain È certo che lo facciamo a parlare 13 anni di onorato servizio Shain è il nostro collaboratore più fedele 13 anni che è con noi Vieni qua Shain Vieni con noi Shain Vieni qua vai Sedi qua Fedelissimo Shain è davvero Shain è per noi Com'è per te Cos'è? Fammi vedere Shain Shain Sei davanti Alessia Qui siamo in tv È diverso Vai Shain Ma Alessia chi è? Alessia è la ragazzina Quella Top 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 Model Sì che l'hai vista Tua moglie? Chiedi sempre di Alessia Tu fatti vedere Alessia Vieni qua Dov'è Filippo Champagne Filippo? Max non riesci a alzare un po' il volume qua l'audio di Fabri? Non si sente Fabri? Steffi Dove è Filippo Champagne? Filippo Champagne? Eh non lo so Stava guardando Stava guardando prima Solo che ha detto che stasera non aveva il tampone Ma ha scritto non poteva Se no veniva con me Lui non è vaccinato Quindi Lui si tampona ogni due giorni Tu hai già fatto il terzo? Io ho preso l'appuntamento per fare il terzo Aspetta che prendo un bicchiere e faccio finta di brindare Dai vai vai Dai vai Hai ghiaccio? Dove è ghiaccio? Dai io Prendi ghiaccio Che mettiamo oggi il salato Poi basta che non c'è cosa più Alessia devi capire che devi girare da dietro No te lo dico perché non lo sai Perché è brutto Ma questo qui non era dei ragazzi E chi non mangia tutto il salato? Quanta ne hai portate? Tu metti Fai facciamo Guarda qua Quanta roba ha portato Metti fresco il salato Però Fabri così appannato non si capisce perché Va freddo Tutti scrivono corone è sempre buono Ci credo che è buono Aspetta che dimagrisco io un'altra volta 10 kg Allora Steffi Fai la storia No Ci Io guarda più che brindare al mio compleanno Voglio brindare a te libero Ti voglio bene Noi io e te possiamo Steffi io e te possiamo fare un solo brindisi Quale? Alla libertà Bravo grande Esatto Esatto Ma tanto ormai dai Lo sei Se Dio vuole Finalmente Pensa la prima sera Che cazzo di casino che facciamo Pensa Senti volevo dare una notizia così La terza doppia serie più vista in tutto il mondo Davvero In tutto il mondo Vedi Netflix Vedi Ha avuto un successo internazionale Eh beh ci credo Ho visto che è girata bene È girata bene No perché le storie di cronaca Dovrebbero fare qualcosa su di noi Perché noi siamo delle icone italiane Eh eh sì Dovrebbero sì Siamo dei pezzi di storia di questo paese Nel bene e nel male lo siamo Vabbè Eh Noi per una cosa Tu per un'altra Rappresentiamo certo Un pezzo di storia d'Italia Ma la cosa bella è che noi Lo saremo sempre Un pezzo di storia d'Italia Anche tra cento anni Si studierà Napoleone Ma si studierà sempre Vanamarchi e Fabrizio Corona Davide Davide Salom 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 Quanto costo una bottiglia di Salom Senti ma tu ami più Normale o Rosè Io amo Allora Io non amo purtroppo Davide Tu lo sai Io non amo lo champagne Io bevo drink Il mio drink preferito Quale? Quello che ti porta a casa ogni tanto Il Negroni L'americano 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 Poi passo al Gintoni A proposito Davide Stai lì un attimo Stai lì Aspetta C'è dei gin nuovi pazzeschi Vedi che comunque innamorato E' più carino Gli fa bene Ma c'è una bella ragazza pulita Io l'ho vista subito Comunque c'ho l'occhio lungo L'avevo vista in mezzo Quando hai avuto quella sera là Cavallo Allora Sono stato in Puglia Davide Eh Sono stato in Puglia E sono stato in questa gintoneria assurda E mi sono bevuto questo gin Unico Era un posto di scappati di casa Ma figo E penso che non ci sia un gin buono di questo Vediamo cos'è È fatto con le foglie di coca Di coca? Cos'è? La muerte? La muerte? Ah lo so Lo so Ce l'ho anch'io Rosso, nero, bianco Tutti i colori Questo ha i frutti di bosco Ce l'ho Sì Che bianco Che bianco Ce li ho tutti Ce li ho Allora secondo me Questo è uno dei migliori Che c'è Domani te ne porto un bancario Ma com'è questo? È buono Ce l'ho anch'io Buono la muerte è buono Ce l'ho da due anni La muerte Da quando è uscito Sì? Sì È buono Quando io avevo la gintoneria tirana Era il gin che andava di più Quando dico le foglie di coca Quelle e tutto La muerte Però Non è quello È proprio che ha fatto bene il gin È buono Ma è meglio Il gin mare o l'endrix? No Il gin mare Vabbè È classico ormai Rosmarino Basilico È molto mediterraneo Spagnolo Però la muerte A me piace più la muerte No Mi hai chiesto Il gin mare o l'endrix Ah Hendrix No Vabbè Sono classici Endrix Monkey Gin mare Sono tutti lì Poi c'è cose più particolari Poi dipende che tonica la bina Sai che hanno fatto anche un gino alle formiche rosse? Io ne ho una alla ballone Sì Poi c'è quello con le foglie d'oro Poi c'è Adesso ne hanno fatti miliardi Sì Sì Però poi la distillazione è quella che importa Invece l'altra mattina Quando ero a Milano Marittima Là? Non ho capito Perché quando mi sono tornato a spingere come in questi tempi Non ho capito Dopo la serata Mi sono svegliato E mi sono fatto Un Ora te lo dico Un Bloody Mary Ah un Bloody Mary Sì Con il pomodoro Comodoro Vodka Vabbè ma a mezzogiorno e mezza però Beve Prova Sai perché Mi fa tenerezza Fabri Siamo un bimbo Che l'hanno portata al parco giochi Perché giustamente Adesso non dorme più Ho visto la libertà E cosa provi Comunque Davide ti voglio fare una domanda Se uno beve Ok Incomincia così Si beve 4 americani Poi si beve 2-3 bottiglie di rinno Poi passa un rosso A metà cena fa 3-4 soldi botti Poi fa un paio di montenegri Poi si butta su un gin Poi fa un po' di ruina Dopodiché fa Una moglie E una serie di show di tequila Non si dovrebbe sentire male Guarda io Ho visto solo uno fare così Filippo A parte lui Con 16 short di tequila Filla Però non faccio nomi Una donna Famosa Una donna fatto 16 short di tequila 16 short di tequila Dopo la si Ti ricordi? Oddio non mi viene Bellissima donna Vabbè comunque E non è morta? Ah sì Però secondo me è meglio che parti sempre a salire Non devi mai scendere di gradazione Non puoi partire da americano e puoi scendere al vino rosso Perché ti spacca la testa Se sali sali sempre Gradazione sempre più alta No Questa me la sento Se saldo salgo Io quando bevo Scusa Uno normale Scusa Una persona normale Che va a farsi l'aperitivo Poi va a cena Che cazzo fa? Pochino a bella cena Eh no Non devi fare l'aperitivo Devi fare l'aperitivo a champagne No Soprattutto devi bere la stessa cosa No O sali dopo Il problema di tanta gente è questo Noi abbiamo tutte le notti Io lo so La gente fa l'aperitivo Gin tonic Americano Negroni Poi negroni ne parliamo Di spacca Aperite i negroni Poi vanno Ristorante Vino rosso Vino bianco Per il vino da me Vomitano Vomitano Cioè o si è allenato C'è uno stomaco come me e Filippo Ma sono pochi O se no La gente sta male Per quel motivo lì Invece no Cioè tu non puoi fare l'aperitivo Con un 47-50 gradi E poi scendi a un 12 gradi e mezzo O 14 un vino rosso Quello è il problema Cioè c'è scritto anche in tutte le parti Quindi bisogna sempre salire L'aperitivo è la cosa che rovina L'aperitivo Una fluta di champagne E poi vai a cena Ma cosa fai tu sveglio ancora a questo Il cavallo Mica c'è sonno Guarda me Come mai sei sveglio Amore ho avuto Ti ho detto che ho una storia No? Ho dovuto fare In questi giorni Sono lavorato con un pazzo Ho dovuto fare una call Con l'America lunga In pazzo è stata al telefono E niente Sono indietro con lavoro Fini secondo voi Vado a lavorare Andrò a letto alle 5 e mezza Devo lavorare E vengo a fare la partita Infatti ho capitato adesso Mentre parlavo con voi Guarda me la sua mangiura Sto cenando ora alle 3 e mezza Ma dai Eh Vedi che prima Andavo a letto Regolare La roba assurda È che il fisico mi regge Sì Il fisico Addominali squartati Sei bellissimo Io ogni tanto Guardo le tue storie Dico Darei tutti i milioni di euro Che ho io Anche quelli di mia Di mammette I 65 milioni di euro Che ha mammette Di Stefania Per avere il tuo fisico Tutto Però posso dire una cosa Ti faccio un esempio Ieri sera sono andato a letto alle 6 La mattina mi sono alzato alle 9 Mi sono alzato in giro tutto il giorno Sono rientrato alle 4 Ho fatto 30 appuntamenti Ho litigato con 50 persone In tutto questo Dalle 8 e mezza Alle 9 e 40 Ho messo le cuffie Ho pompato come disperato E ho corso un'ora In 20 minuti In giro A lui lo fa lo stesso Ah beh C'era di serve di energia Lui si allena comunque Lo so No Io se non mi alleno Non muoio C'era di serve di energia Adesso tu comunque E quindi Tu quando Hai toccato le notti Dai 6 settimattina Arrivo stravolto Ma l'hai sempre fatto Però ormai Quando prendi il ritmo Quando prendi il ritmo così Lo tieni Io a me bastano Quelle 3-4 ore Ma no Con Nathan Ho partito bene Passavo sempre davanti A casa tua Solo che Mezz'ora arrivare Mezz'ora tornare La macchina Ma infatti Devi fare una roba Uno come te Deve fare una roba Ti prendi Ti prendi Una macchina Di quella Di fare tutto in casa E ti alleni 40 minuti in casa In casa Quella è un tapirulano Se ti fai Se fai venire Nathan In casa Sì No Ma cioè Andare in palestra Da solo lui non lo fa Fabri Non è come te Poi noi Non siamo D'appuntamento Cioè vengo Dalle 4 alle 5 Dalle 9 Ma quando mai Cioè non siamo D'appuntamento Quello che succede Facciamo Vedi Infatti anche io Ma lui lo fa Nate sempre 4 e 20 Quando c'è quella cosa Io quando Però tu Tu dovresti Allora Devi sapere una cosa Quando io andavo in galera Perché Purtroppo A differenza di altri Lo posso dire Perché ho fatto Avanti e indietro Dalla galera Sei Ok Sei Ma quando andavo in galera Io facendo Il primo giorno Che andavo in galera Dormivo 48 ore Sotto le coperte Di cemento Poi mi alzavo Mi dava il schema Mi allenavo tutti i giorni Allora tu devi dare uno schema Cioè vuol dire Io vai Appena ti svegli Se tu vai a letto Di solito alle 5 Alle 6 Poi dormo Finale 4 La prima cosa Che fai alle 4 Se lo metti Come prima cosa Tutti i giorni Lo so Ma lui lo è stato Per anni Prima ero Quando andavo al principio L'era L'ho sempre fatto così Prima cosa Tutti i giorni Ha cambiato Poi dopo Adesso Andavo al Cereso Poi non va La salva Agno turco La piscina Di là uguale Adesso Con nata Mi allenavo bene Perché nata E' veramente bravo Cioè Lui Si spingeva Anche oltre Quello che Con l'esercizio giusto Lui dice sempre Una cosa Lui dice Una cosa sola So fare nella vita E la so fare bene No no è vero Veramente lo stimo su quello O speriamo che finisci Quello è veramente bravo Oh A me non manena più Come no Ma un'altra volta È scappato Che veniva da te Una volta almeno Due volte almeno Anche Carlo Si è visto adesso Che si allena con lui Adesso Carlo Tutte le mattine Ma Fai presto Minchia Carlo se lo vorrei rivedere Ah è bellissimo Carlo se lo vorrei rivedere È bellissimo È lì? È lì? È alto 1,90 Minchia Non si ricorda di me Ah no È benvenuti Povero È piccolo Quando l'ho portato in cantina Per mano A vedere Tutti i vini Aveva 8 anni 8 anni No no Aspetta 12 anni 12 anni Sì dorme 12 anni Dorme già Dorme già Dalle 10 Stepi Eh bene Fa bene Adesso è un gran Però vedi Vedi la bellezza Stepi Siamo in casa Soli Io e lui Cosa A bellezza Siamo in casa Soli Voi due Eh beh Cosa c'è di più bella Alla fine non mica sono solo La cosa più bella del mondo La cosa più bella che hai fatto tu è Carlos Non è che Ormai quelli belli come te e me Devono prendere il chalice per masturbarsi Come hai detto te Cioè non sono dei No Siamo troppo Troppo per tutto Abbiamo avuto troppe donne È una rovina Un po' di disintossipazione Però adesso ti vedo bello presino Eh Per fortuna Da un po' più colpo Oh ma io guarda che Guarda mi fai una Però posso dirti una cosa Guarda dai Sia parliamo di robe serie Stasera Davide dovevo essere Cioè comunque La gente può dire quello che vuole Ma io non lo facevo uguale Sai che non dico mai le cose A me non me ne frega un cazzo Niente di nessuno Però vedi lui è uno che ha talmente esperienza Perché l'esperienza con le donne è lunga Cioè lui Quando io ho portato questa tipa qua Lui ha capito Che questa tipa aveva qualcosa di vero Ma mi ha detto subito Eh Cioè Ma non era Non è facile da capire Questa roba qua Ma era mischia Ma era mischia E lui la me la ha detto Ma era mischia una serata E lui la me la ha detto che Ah ah Io ho visto subito Che questa roba qui Era quella che era meno appariscente Cazzo Ma no è perché Quello che dice lui Che ne avete viste tante No è una cosa Che o ce l'hai o ce l'hai Ce l'hai nel sangue Capisci questa roba qui Sì sì È vero Sono d'accordo Pulita Bella Ho detto minchia Che cazzo Poi ho pensato Lui raconterò quattro Non è che c'era anche altre Non l'avevo mai vista Ho detto cazzo Poi gli ho chiesto così Fai questa è la mia donna Vabbè allora Vai Sei sempre il numero uno Cazzo Number one E ha selezionato E beh Chi c'è Il numero uno È una fatica Ma E poi altre settimane prima Che ero andato da lui Avevo portato i cosi Ho visto Non facciamo nome Perché non è giusto Pionde Di tutto Ecco Avevo portato i negroni Roba Appariscentissima Ma questa Da questa casa Non è che possiamo parlare L'occhio lungo Quelle che le ammazza tutte Aspetta Dai tempo Se no Non si è accaduto In questa casa È passato chiunque Però Poi alla fine Mamma Mamma Non siamo a casa Stai zitta Non capiamo niente Cos'è che Guarda che non la sentiamo Eh No Io la sento Io sento solo lei E non sento te Diglielo tu Fabri di stare zitta Ma cosa sta facendo È qui che mette via le cose Qua nel bar Che mette via Sto facendo i tortellini Quando mi verrai a trovare tu In questo figo studio qua? Amore Chiamo il permesso Quando è che fai la puntata? Che cosa? Quando è che fai la puntata? Tutti lunedì prossimo Tutti lunedì Ma non puoi venire una serata qua? Un giorno ti chiedo il permesso Vengono Sempre da mezzanotte alle 8? Noi partiamo dalle 22 alle 6 Tutti lunedì Ma possiamo andare avanti anche alle 8 Che io non lo so Tu quando Vieni qua Almeno parliamo per bene Mi piace Assolutamente Ti prometto Ora è che siamo straseguite Sai come ti sono in diretta adesso? Assolutamente Ti prometto Domani ti do l'auditel Mi scrivevano Tra quanto arrivi Davide Tra quanto arrivi Davide Ho fatto chiudere prima Scusa ragazza Gentilmente Potresti versare un po' di salon? Grazie Perché mi sento un po' Con la bocca asciutta Peccato che non possiamo Con questa roba fa ridere Della pentola Cosa? Questa roba Della pentola fa ridere È perché Da dietro la telecamera Sempre da dietro Non oscurare Mai da davanti Non puoi passare Da telecamera Sai questa mia televisione Sempre da qua Questa mia televisione Sempre da qua Passa da dietro Da destra a sinistra Lo versi Passi La quadra tu Adoperti qua Fai bene anche il staglio Ma chi è sta ragazza? No ma non è che te lo dico per un cosa No no certo Lo sai ragione È la mia badante Non lo so più Sì È la badante Ma è diventata Mora? Sì si è fatta Mora Fai vedere che si muore È la badante Ma non è riconosciuta la bambina Scusa Perché non venite qua voi due Vi allargate Vi adoperate Lei ha fatto le cento ore con te Sì Lei è Anto Sì Grazie Che è Anto? Anto ha lavorato anche con Fabri Con la bellissima ragazza Fabri Come hai detto tu di Anto? Anto è una signora della niente in gamba Ad opera ti accendi vai Ah c'ho la torta Di un'educazione rara Comunque Anto è bravo o no? È una brava ragazza Scusa ogni tanto faccio qualche rutina nel microfono Non fare Filippo anche te No però sto bevendo Per te sto bevendo Io non berrei neanche Niente Stemmio lui Avrei bevuto acqua avrei Non beve mai lui Bevo io Lui beve Beve tutto shine Vai che arriva la torta Faccio un video Aspetta Guarda Fabri Alla fine mi vuole sempre bene Facciamo prendere due o tre forno Fabrizio Corona in diretta ragazzi Seguitelo Chi ha bisogno Playboy di Milano Siamo noi due comunque The King qua Vai Fabri Torta di compleanno Oh grazie 57 anni dei mostri 35 Guarda io sono orgogliosa dei miei 57 Tanti auguri Ma proprio tanto Oh Vanni Vieni a fare l'agurd Sei andato Fabri Fabri in diretta Sono qua Ah bravo Mi piacerebbe tanto che tu fossi qua Sennuto con me Vanni vieni a fare l'agurd Ci sarai presto Auguri buon compleanno Grazie Ma è bello avere qualcuno Che ti festeggia finalmente Ma oddio Va per otto Guarda che Ne abbiamo fatti 18 Io e te di compleanno assieme Sai Adesso mangiamo eh Eh Oddio Con un intermedio Di San Vittore E tutto il resto Ma sono cose Sono cose Passa tutto Anche come militare Come fa il militare Infatti Non vedo Fabrizio più nel quadro Com'è Ragazzi Non ti vedo Ecco Devo andare a lavorare un'oretta Se no faccio troppo tardi Amore ti chiamo domani E passo da te Ok Se nel finale puoi vedere Quando ti togli la maglietta Ciao vanna Un po' di addominali Ce li fai vedere Grazie Fabri Ti voglio bene Ti voglio bene E lo share va E lo share va Ciao Ciao Buonanotte Ciao 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 Adesso adoperiamo con la tua Facciamo l'intervista Oh mamma Devo soffiare Tanti auguri a me Dove so Cacchio Cos'è la tua età Galessia Oh Grazie Grazie Beh la devo tagliare io Eh sì eh Sì per forza Primo taglio Sembra quello Che non si scorda mai Ragazzi Mettete fisso tutto lì Chi è fisso? Le telecamere Madonna No Davide davvero La televisione fa grassa Guarda che siamo in onda Sì ma fa più grassa Guarda Guarda Sembra King Kong Vici da voi No sembro quello No sembro quello Che siamo andati l'altro giorno Ma la televisione ingrassa Sì eh No sembro quasi andati A quella cosa dell'illusione Vieni qua che hai tutto il Mi faccio schifo Scusa Quello del GoTV Come si chiama Alessandro Il proprietario Riccardo Riccardo scusa Se sono ingombrante Ho fatto cinque giorni Che ho freccato L'anima di Christ E quindi Allora No veramente No dai Non si può andare avanti Ma che roba Io non riesco Guarda Dovrà arrivare il momento Guarda Ma non la fai tu Perché io non riesco Sembra Ma forse questo ci vuole Tu fai conto Che quando vedi Forse ci vuole questo Una persona Guarda come si dice Due taglie Fa la televisione Così Due taglie Perché è stato carino E' sempre in forma Fabio E' stato carino Io l'ho vista super E' strappato vedere Carlos che dormiva Spero che si fidanzi Con questo seriamente E' lì che si sbaciucchi In tutti i video Tutti i video Con tante fighe Pesantissime Non l'ho mai fatto vedere Però infatti Questa qua è top L'altro giorno Che ero andato a casa Che avevo portato il coso Non avevo mica riconosciuto Fagna Manca solo Gigi Lo so Allora Shine Dopo facciamo parlare Un attimo Shine Certo E raccontiamo E' un attimo E' un attimo Fedelissimo Da 13 anni ragazzi Shine Spine Quanti soldi hai contato Shine? Mamma Quando hai contato Ah Mettila tu Ricordati sempre Ma Sì Ma È in televisione Ma noi si dimentica Allora Dottor Mariottini Ah bello Lo puoi tu Vedendo quello che ti pensi Che poi è anche Fa delle sedute Da Non so come mai Sir Mariottini Quando viene da lei Sta due o tre ore Perché parliamo Che Mariottini Eh sì Stefani mi sa che È innamorato di lei No no A me piacciono No a me piacciono Le persone intelligenti Chiacchieriamo tanto E comunque Condividiamo anche Fabrizio Secondo me è in diretta Mariottini Ma Cosa ha detto lui Che lui ha cominciato A seguirti A me Cioè ad apprezzarti Una bontà Quando ti ha visto Qui che parlavi Degli champagne E dopo ne parliamo dopo Di lieviti Di questo caso di lieviti Martolini E di tutte queste robe qua Che tu dai per scontato Ma non mangia Ma non mangia Ma non mangia 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 Mangia Beve Dorme Russa Io peso 54 kg Hai capito? Magari E tu 250 E gu Siedi Sedi Sento che ho mangiato a torta Dai Ma dove sei? Ti ho mangiato a torta Questa è posizione? Guarda che forse La pratica La musica Che buona Che buona Che buona Che buona Che buona Che buona Che che l'ha portata? La sorella di lei L'ha fatta A te Oh madonna Grazie Mauro ha letto le galline non si può amare la sorella Mauro questa è bella ci manca mettiamo un po' di zucchero buonissima madonna è proprio una pasticcera voglio ingrassare come non basta dopo Vittorio oggi ci voleva sì basta veramente Davide ma domani allora non diamo ma domani non prendiamo aspetta domani di zico no ma noi con me non mangi il menù non mangi sai con me mangi una cosa perché è un brodino mi devo mangiare due passatelli GoTV domani seguiteci che siamo un altro stellato ora che ho bevuto secondo giorno di dieta oggi era il primo è per 3 kg ho bevuto quella domani un secondo aspetta dammi a Mario dammi la 4 guarda Mario Mario dove vai? dove vai? di chi è? grappa bocchino sigillo oro no madonna sempre più in alto posso fare un po' di pubblicità? no perché si può grappa bocchino sigillo oro sempre più in alto grande Mike senti allora parla un po' serio facciamo parla un po' Shine ma com'è? comunque sto bene intervista Shine allora intervista Shine ma deve avere un microfono Shine però come stai Tigre? vai bene prendi un po' da bere che tuo fratello è a stemio anche lui a stemio la torta? più favorevole sigarette lui cosa vuoi togliere? che cosa vuoi togliere? il canestro? l'ampolla? spostalo te Shine mettono per te l'ampolla adesso intervistiamo Shine 13 anni di onorato servizio ma con cosa parla Shine? siete connessi? non andate a dormire che c'è la video nazionale dove vai? vai a letto? ma è se lavora va a letto chi ho reso? scuso è in regia lui ah voglio ancora due ore se do allora è che intervistiamo Shine grande cavallo 13 anni di onorato ok non c'è una microfono? io aspetta dammi due un altro ma andiamola compro un microfono domani dammi ah ma non c'è un microfono per la cazza no? ma metti con la divana che tanto non parla c'è quello dell'altro vai Shine che ti microfoniamo scusa tua mamma cosa ti metti mai a fare il microfono perché mangia beve tutto il tempo tutta la serata mangia beve perché hai messo il microfono? ma smemoriti un po' ma com'è che sei così una buona? guarda non accetta lo scherzo ma come mai? mai mai sai cosa dice Francesco? eh c'è ragione Francesco i morti quando muoiono alla faccia seria lei sarà l'unico giorno in cui riderà veramente quando andavamo alla dozza veramente Francesca arrivava per camminare sul viaglio e dice vedete che è incazzata quella incazzata sempre si sveglia incazzata andavamo là prendiamo i calci dagli zigari sai cosa mi dice a me? sai cosa mi dice a me? un'ora di colloquio stai qui non fai venire vicino che mi fa paura che è sempre incazzata ancora dovevamo raccontarla dovevamo portare Francesco prima ho raccontato della sovra quando eravamo alla dozza aspettareci i bambini che ci davano i calci la dozza ho detto prima che voglio rivedere la sovra come è che si chiama la sovra? sovra bella io me la farei volentieri la sovra smettila sono quelle cose che non hai mai fatto nella vita c'è uno come me 4.000 donne all'attivo è pericoloso lui non si può lui è pericoloso smettila intervista Shine intervistiamo Shine signori e signori Shine 13 anni di onorato servizio con noi mai un giorno di malattia anzi solo una volta siamo andati a chiappare in ospedale eh poverino io a 500 non me lo dimentico di cosa? di diabete è vero? unica volta che è stata a casa eppure fa la vita non mangiato oggi comunque sono quelle cose la vita quando sono andato l'altro lato che ho di flavor ho detto no lavora sempre adesso ho un po' più di capelli con Mario iniziava con Mario 13 anni anche Mario lavava i miei piatti chi eravamo? io, te, lui, Mario chi c'era? Carlo? no ma Carlo è arrivato dopo dopo perché non c'era un solo noi c'era Gad Michi Gad è vero c'era Gad Michi è arrivato dopo anche lui c'era la mano in piatti ragazzi e perché io quando in cantina dipingevo le sedie con i tacchi a servire che gli faceva male i piedi io morivo e lui diceva che dovevo servire solo quei tacchi tacchi alti servivo solo io perché lui era timido ci credereste voi che lui era timido? era timido non va bene è la verità comunque abbiamo fatto ci siamo fatti il mazzo veramente 13 anni stavamo diciamo ho non dato servizio e adesso lui è direttore hanno tutti paura di lui lo giuro diciamo anche che voi avete litigato? all'inizio sì perché è giusto no c'è stata una volta in cui avete litigato lui si è licenziato ah sì sì è vero e io vi ho fatto fare parte io non mi sono fatto trucche ma però è sbagliato e avevo capito no? beh si può sbagliare certo possiamo dire che Shai veramente io quando lui non c'era questi 15 giorni ero in stati d'ansia e tornato sono partito tranquillo allora diciamo che Shain è odiato dai suoi colleghi tutti perché Shain è l'unico che ha capito che lui lavora per te 20 telecamere controlla tutto e quindi lui fa i tuoi interessi ah certo giusto e non guardi in faccia a nessuno perché lui è giusto Shain? se qualcuno frega a Davide a me brucia la sangue è certo è come rubarsi a te si intende anche perché non vedono il lavoro stanno lì a bere chiacchiano c'è la gente fuori telefonini che poi comunque ci sono dei locali dove gli sequestra il telefono sapete? io lo farei a tutti all'ingresso tu non vuoi? vabbè no vabbè niente comunque lui controlla tutto 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 quando c'è lui poi sono sicuro che chiude li manda via tutti fino alla chiusura quindi avere una persona così ragazzi in un'attività hai già fatto tredici tu se vai via due giorni sei tranquillo ma se lascia lo sbaraglio che sono tutti cani sciolti è un disastro uno al telefono quello chiacchia ma io lo vedo ancora adesso non ci sono io quando parla quella tutta fuori c'è quell'altro con la mano così lo vedo io da seduto quindi shiny è ormai direttore mi sono anche entrati nella macchina alle 8 di 6 ho visto c'era tutta la sicurezza quello vabbè mi ha fatto anche la multa stasera ancora a me al ferro via via Napotoriani larghissima chiamano sempre perché gli dà fastidio il Ferrari che la intralce via Gluc che adesso farò anche io dei video su via Gluc che voglio che diventi con tutti i miei follower facciamo una petizione tagliamo lunedì prossimo c'è una persona molto importante che ha un'associazione è diventata famosa per la canzone di Celentano questa via arrivano veramente cinesi o cose lo sento anche quando intervistate i ragazzi e la verità vedono tutte queste macchine che io tante volte non ci passo col Ferrari se passa un camion devi tornare indietro ma io sono rimasta bloccata un'ora e mezza e non fanno le multe a nessuno dietro alla poveretti a quelli della né testa urbana che non passavano bloccati però ne frega niente è una via dimenticata allora parliamo un po' di Shine allora ha avuto una figlia quanti anni ha adesso? dieci anni dieci la prima giusto? sì e l'altra adesso è nata adesso sì non abbiamo una foto è piccoletta è appena nata è appena nata bella cicciona però insomma lui è contento allora diciamo che i ragazzi come Shine sono ragazzi speciali perché lavorano tutta la vita per la famiglia che è là quindi loro vedono i figli una volta all'anno e non è facile eh ragazzi che sono che lui è musulmano ma musulmano vero perché poi sono quelli che musulmano che fumano fanno vanno a Troia e ci sono e poi c'è quelli veri come lui a lì pom inquadrati quelli non toccherebbero un euro ma proprio per loro per la loro concezione di vita capite e tanti tanti che parlano che vengono con gli amanti con gli amanti lasciamo perdere che tanti tanti di noi sono molto peggio di tanti gente che critica come loro ah tu non mangi il maia che cazzo te frega te cioè la loro filosofia teniamo noi un rigore così ma se sottora madame io l'ho visti quando faceva caldo che erano verdi in faccia però sapete cos'è la forza ve lo dico io la forza che non si lamentavano perché tanta gente dice oh ho fatto una malata su stango mai non lo fanno mai pesare a nessuno e alla notte lavorano mangiano la mattina non mi ricordo alle 6 le 4 quando era le 4 le 5 quando salva il sole giusto mangiavano a quell'ora senza lamentare bere poi che è ancora peggio e quindi tanto rispetto per queste persone tutto il mondo e paese così vuoi raccontare fargli raccontare mi piacerebbe sapere quando quando allora tu quando hai deciso di arrivare dal Bangladesh cos'è che ti ha spinto a venire in Italia è una curiosità per 2007 nel 2007 si abitava mia sorella e due sorelle qua volevo vivere insieme noi tutti quindi la prima volta che sei arrivato senza sapere la lingua senza sapere la lingua senza sapere niente e cosa hai fatto appena arrivato arrivato c'è già radio mio coniato io quando ho sentito quella lingua io ho pensato mai io non posso imparare questa lingua tipo io sentivo come cinesi che sta parlando si io spavento dice no io non imparo queste parole invece si adesso parlo un po' ma quando sei arrivato tuo cognato e tua sorella già lo parlavano si si loro si loro venuto prima e quindi allora sei arrivato sei andato a casa loro quindi avevi un appoggio si e poi tuo primo lavoro siamo stati noi primo lavoro si primo lavoro si qua ma io mi ricordo di te che va bene non parlavi così bene ma già parlavi si si perché siamo fatto un corso quasi 12 mesi ah però si 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 tu sei tra quelli che adesso lo parli benissimo io per esempio quando parla Martin io faccio finta ma non capisco niente io dico si perché se no mi parla 4 ore ma non capisco niente no tu sei bellissimo e parli bene quindi sei arrivato da noi e ovviamente sei partito dalle cose più umili pulizie facevi le cose ma io non ti ho mai sentito mai una volta dire no o lamentarti o no eh diciamo che tu sei proprio partito dalle cose più umili con tanta dignità e oggi sei il direttore di Davide abbiamo sgominato tante bande eh tante bande non ti viene no non mi viene tante bande e abbiamo sgominato le bande io e lui eh comunque da un lato sei anche stato la fortuna io non credo nel senso che non ti ha regalato niente nessuno però alla fine sei arrivato hai trovato un lavoro ed è quello che hai ancora oggi quindi probabilmente il tuo schierarti dalla parte del datore di lavoro ha pagato perché tu quanti ne abbiamo visti passare in questi anni tanti quanti eh vuoi lavorare con Davide ragazzi io ci lavoro da sempre è tanta roba perché lui ti insegna tanto ma è anche un disastro stare dietro a lui eh perché se lui decide che non si dorme non si dorme se lui decide che non si mangia non si mangia se lui decide che si mangia sempre si mangia sempre se lui decide che si cioè la vita ruota intorno a lui non è non è lui che ruota intorno alla vita solo che lui ingrassa io no ma vabbè ma adesso è un periodo così e poi cala non fa la fenomena che lo sai quante volte l'abbiamo visto così eh ma perché voglio che dimagresca eh ma lo so eh lo so 110 anche dai ma stai scherzando ma quanto pensavo a 110 con sì certo sì 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 quindi io l'ho già visto così poi è chiaro mi spiace perché è un bellissimo ma non è quello il discorso e quindi oggi vabbè poi Shine ha anche una storia particolare perché poi con la moglie e la figlia vivevate qua poi tua moglie non riusciva a stare qua guarda che quello perde i soldi dappertutto non si trovava e posso anche capire eh perché sai lei non parlava italiano sì non avendo un po' da primo giorno lei non piaceva ma non è facile io lo capisco perché per esempio lo vivo in Albania che è la mia seconda patria però anch'io riconosco le difficoltà cioè la lingua è una difficoltà enorme è una cosa è una cosa che non è come te ma poi a sua moglie mancavano i genitori insomma a sua moglie mancava che sai un conto scena un lavoro ha tutto lei era in casa da sola tutto il giorno perché la figlia andava a scuola lei era da sola senza poter parlare con nessuno non capire una parola della televisione cosa fai quindi lui cosa decide di rimandare la moglie e la prima figlia in in Bangladesh di nuovo e quindi si priva lui della famiglia sono tanti sacrifici che fanno questi ragazzi cose che noi italiani non forse ai tempi venga venga del dopoguerra negli anni 50 vuole che perde i soldi dappertutto noi facevamo questi sacrifici e poi è nata in città di nuovo e è nata la piccoletta come si chiama la piccoletta? si chiama Falak Falak che bello Falak è nata a Falak quindi Shine è andato là per assistere al parto della moglie e adesso ha due vimbette e lui rimane il numero uno dell'agento ma anch'io tu pensa direttore allora io non spesso è attivato il nuovo telefone è bello? lui non si trova tanto non ti piace? gli piaceva più quello più piccolo? no si è troppo grande per me è troppo grande però è bellissimo si si io non lo spengo mai il telefono perché con te non posso però da quando è arrivato Shine qualche ora dormo quando Shine non c'era chiedi a mia mamma io dormivo un'ora eh sì quindi comunque ragazzi adoperatevi adesso io ho capito come funziona questa puntata tutti lunedì dalle 10 alle 6 tutti lunedì tutti lunedì per 6 mesi allora io farò delle cose quest'ora se va no infatti tu devi io vorrò parlare di champagne di cose importanti di vini cucineranno cose poi avremo altri personaggi certo tanti e quindi preparatevi che vi svelerò dei segreti importanti a gratis tu lunedì prossimo vieni all'inizio poi vai al lavoro prima vieni qua adesso ti puoi adoperare un po' di salone perché vorrei ma abbiamo anche noi le mani qualcuno che mi adopta un cameriere non è che la sorella di Mauro ma sembra bellissima la sorella di Mauro ha fatto cintore per lui tu sei la sorella di Mauro basta non hai un nome non mi ricordo Antonella Antonella Anto è anche bello il nome passa da dietro ricorda sono in televisione non è Instagram cosa fai là sono in televisione sai pensa che sono le 4 e mezza comunque ma metta 80 anni non ce n'è io andrei avanti vedi per me io vorrei fare 250 ore adesso no no ma io le voglio io ricardo ricardo sei ancora sveglio non credo se sei ancora sveglio poco a lei che costa tanto poco a lei che costa tanto dove vai con quella bottiglia hai visto la tua bottigliera si si l'ho visto ma non sono tutte quelle ma in Otec 96 sono quelle che tu avevi nella rastrellina in Otec 96 quella sono 100 bottiglie in Otec più quelle che abbiamo buttato ciao ma che ne sapete questo me lì allora vuoi venire a raccontarlo da sobrio anche perché non posso parlare di Otec 96 perché secondo me ci sono delle bottiglie che io non posso parlare e un giorno parlerò perché dopo dopo mi arriva il messaggio della Francia ma a me non me ne frega a me non mi scrive nessuno io posso dire tutto allora la Francia io dico solo una cosa su tutto quello che ho bevuto ci sono delle percentuali di tappo su delle bottiglie che voi non vi immaginate neanche senti Davide la Cerenza allora io non sono cliente di nessuno io qua va di non da pago lo spazio è mio e dico quel cazzo che mi pare io credo che la Francia a Davide la Cerenza dovrebbe fare un monumento io dico sempre che Riccardo di Gotivu dovrà fare il mio fuori da Gotivu perché la RAI ha il cavallo e Gotivu deve avere il mio di statua ma la Francia dovrebbe fare all'entrata la statua di Davide la Cerenza perché spieghiamolo perché ma qui sei in televisione ma prima c'erano tanti di champagne oggi è andato a cercare veramente non si tratta di niente e dopo ascolta qui sei davanti molti sono i tuoi follower ma molti sono persone che non ti conoscono allora perché la Francia dovrebbe fare un monumento anzi 18 monumenti a Davide la Cerenza perché prima di Davide la Cerenza lo champagne era la bevuta delle occasioni cioè il matrimonio la laurea il compleanno il Natale oppure il mondo dei night che era comunque un mondo limitato perché i night io li rimpiango ancora perché io come mia mamma avevo il spettacolo però il champagne avevano quel coso che lo giravano lo sgasavano si è vero è vero poi le ragazze lo buttavano via nelle fioriere è certo e in Francia bevevano la piscine vabbè quindi con questa cosa che non ha inventato Davide perché Napoleone sciabolava ma Davide l'ha riportata in voga la cosa della sciabolata e l'ha resa la cosa bella gogliardica di tutti i ragazzi quindi i ragazzi hanno imparato a bere bene perché quando noi è iniziato per scherzo sciabolando cose da bere i video beh i video quando si è messo a portare sui social la gente viene solo per sciabolare più che altro il video poi ha iniziato a apprezzare e capire il buon bere no? io ho anche dei clienti adesso sinceramente anche l'altra sera avevo quello che ho visto padre e figlio quello col Ferrari non faccio il nome faccio il cognome e comunque padre e figlio che il papà il papà è contento che comunque è Ferrari i soldi di dare 200 euro al figlio per venire a bere un buon champagne piuttosto che ammazzarsi di ciupiti di grappa la pera sì quelle cazzate buttate giù così che costano poco che comunque non danno cultura né niente quindi molta gente si è approcciata al mondo dello champagne per quello ragazzi per capire come bere bene un 12 gradi e mezzo non è come bersi ciupiti da 40-50 gradi arrivi col fegato spaccato e sei cotto io bevo due o tre bottiglie di champagne a sera adesso quando facevo palestra due anni fa io voglio addominali scolpiti e non è il bere che ti fa ingrassare perché tu ti bevi due bottiglie di champagne e come un'acqua con 12 gradi poi il giorno dopo ti fai un'ora di palestra sauna bagno turco sudi pc e butti fuori tutto questo è vero? ero fisicatissima ancora eppure ho 56 anni quindi lo champagne è una cosa anche in Francia è quasi un'arte un rito bere uno champagne e degustarlo tante volte anche loro criticano la sciabolata queste cose qua perché amano talmente tanto il loro prodotto che quasi per loro denigratori ho perso alcune cose ho perso la crue con passare per questo perché è stata vista male ne parliamo è stata vista male è stata vista male da loro che uno veramente io ci credo che ha messo uno champagne 12 anni anche sui lievi tenuto lì creato poi uno pam lasciamola così però questo è stato il primo Napoleone nel 1500 mi sembra che quando tornava dalle battaglie beveva champagne si aveva perso per consolarsi e becciabolata beveva champagne si aveva vinto per festeggiare queste storie l'abbiamo già detto l'altra volta però pubblico ogni settimana è diverso l'unedì prossimo vengo a raccontare questa cosa qua alle 10 alle 22 ma sì ma non è che ho bevuto non è quello scherzo no ma non per quello perché c'è più pubblico alle 22 ed è giusto ma anche a quest'ora se non me ci guardano lo so e poi rimane su youtube la puntata lo champagne è nato cioè lo sdoganato veramente io 7-8 anni fa così e poi ha preso il volo anche adesso 4-5 giorni fa in Puglia c'era un agente per i Jue di Belle Poe che dice non si vendevano bottiglie di Belle Poe adesso ne vendo te non ne ho più però cosa mi fa incassare a me perché ripeto io non sono te non ho doveri non ho doveri verso nessuno ma mi piace che i meriti vadano riconosciuti allora oggi lo champagne si beve così tutti i giorni si va fuori si fa l'appetitivo si fa la bottiglia è diventato il bere normale questo lo dovete a lui è inutile che io vado al pranzo a Trento a casa di Lunelli si no di si si di si no si si e per i Jue che dica che lo riconosca probabilmente sono gli unici che lo riconoscono perché comunque noi abbiamo sempre no ma io io voglio io esigo pretendo che tu sia allora cosa hanno scritto su quel libro che tu sei si ho anche Alberto Lupetti mi aveva scritto anche ieri sei quello che è sdoganato lo zampai anche in un modo un po' così sciabolare cose che facevamo con la piscina ma ragazzi sarebbe come dire guarda facciamo questo esempio a te hanno tolto la crue gambassade lunedì spiegheremo perché sarebbe come dire che Enzo Ferrari ha creato la Ferrari per uno che guida col cappello in testa e va ai 20 no è uguale cioè tu hai doganato lo champagne dicendo cosa dicendo le tue frasi dicendo le tue tanta gente ne ne frega il venditore ne frega niente hai visto anche l'altro giorno mi ha scritto che ho fatto lì selose non sapevo anche le mie bottiglie non sapevano e sembra quasi io sono 6-7 anni che ho spinto selosso alla grande e poi questo ha scritto perché scusate ma perché P2 prima di Davide chi lo conosceva ma perché Giulio ma Giulio per noi tutti era la loggia massonica grazie a Davide abbiamo capito che ma il Giulio perché è diventato così forte costava 65 euro il Giulio e Giulio vedeva un P2 vendeva perché il Giulio fa almeno 12 anni sugli eviti vediamo perché in Italia c'è un po' di ignoranza c'è una parte di italiani che pensano che tutto quello che ha le bolle sia champagne il Giulio non è champagne perché è fatto in Italia champagne lo puoi chiamare solo nella zona champagne come San Daniele lo chiami San Daniele perché lì se lo fai appena fuori ma magari è più buono il parmigiano perché a Parma ogni cosa ha una provoca quindi il Giulio non è champagne ma non è un metodo classico lavorazione metodo champenoise quindi la lavorazione è quella si fa nel più o meno stesso modo però il Giulio faceva 12 io quando ho capito 6-7 anni fa 8 anni fa dicevo ma cazzo 12 anni sui lieviti questo è come un P2 ma spiega 12 anni sui lieviti allora lo champagne quando fermenta l'uva l'uva spiega bene come viene fatto uno champagne lunedì lo facciamo bene facciamo dei schemi e spieghi tutta questa cosa dei lieviti se ci vuole due ore spiegare tutto differenza da queste cose qua però per stringere il Giulio è come bere un P2 come una bottiglia che superiore la crista è crudo un peigno secondo me perché comunque tengono le uve fermi lì sono soldi fermi lì per quello tu quando mi dicevi facciamo il nostro champagne lo farai lo farò però io non posso prendere un piccolo proprietario che comunque non ha forza dopo 36 mesi champagne lo butta fuori tu troverai uno ma uno che lo tiene 12 anni quindi c'è una cosa che piace a me non metterà mai il mio nome perché ha tenuto i soldi fermi 12 anni ma non è che mette i soldi su niente mette i soldi su Davide Lacerente vabbè comunque questo lo vedremo quindi Giulio hai iniziato a parlarne tu sì ma ancora loro mi rispetto che bottiglie che ho io non faccio via ma ce ne abbiamo quando andiamo a Trento a mangiare lì? andiamo quando a Marcona andremo tu sei andato stupendo meraviglioso c'è stato un po' di roba seria tra me Giulio e Giulio in Italia dove mandare lì? poi comunque non è che ti voglio discriminare Franciacorta cosa comunque ci sono delle riserve di Bella Vista la Moretti la Anna Maria Clemente comunque sono anche le bottiglie da avere anche queste qua uno fa una scelta ma ce neanche altri piccoli che comunque stanno venendo fuori però non puoi tenere tutto noi lavoriamo sui grandi nomi per me Italia c'è Giulio e basta poi Francia Francia è Francia quindi sei d'accordo con me che ti devo quello che secondo me adesso si che ha rovinato anche tanto è da quando è partito forte lo champagne che anche le discoteche si intropese tu guardi escono cento bottiglie mille bottiglie è normale che se tu uno gli dai un che ne so bagate questi posti qua mille bottiglie che noi non le vediamo neanche mille bottiglie che noi non vediamo neanche qua che te le stingo però in quei posti là che vengono vendute tanto magari non so che convenzionare non voglio non voglio neanche sapere cosa c'è sotto escono cento bottiglie su un carrello e aprono e buttano al pubblico e quante bottiglie sono uscite e fanno incassi da centomila euro se li ho visti duecentomila euro a sera e allora questo è quello che rovina il vero mercato lo champagne e poi vengono a dire a me che non devo fare la degustazione di Selos bella in una discoteca a me pensavo anche a loro poi non mi hanno neanche risposto però quelli secondo me sono quello che rovinano certo il tuiga ma non che ce l'abbia con noi per mardire che domani sento che mi scrive anche Briatore non è quello speriamo ognuno fa il suo lavoro però ognuno fa il suo lavoro però io da me lo champagne che noi sciaboliamo è tutto lo gustiamo lo degustiamo insieme ai clienti ma quel cinema lì io non lo farei con lo champagne diciamo questa cosa tu spesso dici questa cosa qui e io condivido in pieno quando uno dice sono un sommelier cosa ha bevuto nella vita quando dice sono un sommelier vabbè cioè a parte 4 crodino la domenica sommelier vabbè fanno i corsi uno dei più quotati in Italia è l'Ais lo so io ne conosco tanti anche oggi hanno grande rispetto di me tutto però è chiaro che è un sommelier cioè lì è la forma io vedo dei cinesi che bevono il romane conti bevono il rigiaie boti a 30.000 euro che possono insegnare a me a tanti sommelier in Italia perché bevono 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 capito sommelier è una figura di vero noi abbiamo studiato all'inizio un po' di teoria sulle cartine ci spieghiamo wine tip ma anche wine tip ti ricordi all'inizio è stato il primo ok un po' di teoria ma tanta pratica perché comunque anche i sommelier se tu non hai la forza economica tu fai un corso costa 500 euro ti faccio un esempio costa 500 euro cosa fanno in queste cose? ti fa assaggiare un po' di cose spiega la teoria ma quando ti dice ti fa assaggiare spiega le uve oggi assaggiamo il merlot ok merlot merlot da 20 euro e merlot da 1000 euro tu quando bevi ti fanno assaggiare un merlot da 20 30 50 euro perché devi stare dentro nel prezzo è normale non ti fanno mai assaggiare e bevi quello poi arrivi e assaggi in masseto che è una bottiglia a 800 700 800 euro adesso e dici ma questo non è uguale a quello che ho assaggiato quindi se non hai la pratica puoi essere sommelier quanto vuoi io ho tanti amici anche sommelier più importante tutti sommelier di uno stellato non è che ha bevuto cioè no no perché comunque ha aperto ma non ha bevuto ha aperto alleatoria magari ha assaggiato una volta quelli che sono usciti da me come Dario comunque gli voglio bene che ho avuto anche oggi e tanta gente che ho formato Maraffio Giorgio Giorgio adesso stanno assaggiando tutte le sere assaggiano assaggiano bevono bevono grazie a me anche ai nostri clienti perché comunque il locale che ho impostato io la gente apre vuol bere con noi qualunque aprono P2 e tutto beviamo insieme un bicchiere te lo offro sempre e lì alleni il palato impari a conoscere i vini i champagne sarebbe come uno chef che non mangia brava giusto uno chef deve mangiare io quando mi incazzavo se tu non assaggi scampi i cameri quando arrivano che non assaggiava diciamo scusate ma vuoi assaggiare ti devo fare un bocchio in testa come fai a cucinare se non assaggi è normale che devi assaggiare è uguale il bere è uguale soprattutto il bere ancora più lunedì prossimo viene Marco del cuoco di bordo a cucinare a cucinare hai preso la piastra lì sì adesso prendiamo il forno prima di tutto fai fare il pola limone a tua mamma no stupendo ma tu non l'hai mangiato l'hai fatto stasera sì è lì non l'ho visto poi ero pieno di gente non l'ho visto è stupendo ho visto un pezzo visto che avete intervistato Sebastiano cosa fate con la pentola mangiamo il pollo ma come sono bello riposato ancora dopo quattro giorni andare a letto alle 9-10 ho perso 5 kg ma l'avviso è riposato quindi domani che aria lì ho 10 e mezza 11 a letto domani andiamo sai che domani andiamo a cena ai piedi noi due da soli ma non mangiamo non mangiamo andiamo in un posto top stelle stelle ma non mangiamo il menù intero mangiamo un piattino per uno un minestero un brodino un tortellino per uno un passatello ma mammetta come starà dietro guarda 80 anni guardala là 4 e 44 mammetta ci seppellisce tutti 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 questa è la forza di mamma chioccia capito no diciamo beh sai Davide credo che per riaverla a sua mamma darebbe tutte le bottiglie e farebbe debiti per 150 anni quindi ti ammira perché sei qua ultimo cru che l'ho bevuto con lei e quindi tutti ma ora dovevo chiamiamolo chiamiamolo ma svegliamo è sicuro senti quindi lunedì io voglio che tu racconti bene tutto questo va bene e no perché è bello cioè è comunque un mondo ragazzi anche se uno non bevesse cioè per esempio Shain ovviamente non beve perché come ha detto Davide è musulmano vero e non beve però sicuramente anche persone come lui che non bevono piace sapere le cose non è che noi studiamo non è che noi studiamo le guerre perché dobbiamo andare a sparare alla gente però le studiamo quindi è comunque impara l'arte e mettila da parte poi la storia dello champagne è davvero affascinante poi molto sai mi diceva Leo Damiani ecco Leo è un personaggio che io io lo adoro lui deve venire eh sì lui deve venire perché ascoltare Leo Damiani allora io ho avuto il privilegio di passare un po' di sera pensare che all'inizio non lo potevo vedere io ti ricordi? perché così però poi lui no non lo potevo vedere perché era un po' snobbante verso Davide poi dopo invece ho capito che non era così ma all'inizio non mi piaceva un po' di scienza l'ha fatto vent'anni con Krug mi ha raccontato la storia delle Krugambassade come nascono le Krugambassade e mi ha raccontato tante cose davvero avere lui mi piacerebbe tanto mi piacerebbe proprio tanto tanto perché è bellissimo ascoltare la storia e lui diceva l'ultima volta che ci siamo visti in Ginto pochi giorni fa che anche Dompe che si dice sia stato il primo champagne debutto alla corte di Versailles si dice che sia molto creata questa storia perché tanto io non c'ero tu non c'eri voi non c'eravate e faccia parte di tutto nel settecento faccia parte di tutto quello che è stato costruito intorno alla storia dello champagne però sicuramente di fatto c'è che lo champagne è nato lì e lo champagne veniva bevuto dai reali questo sicuramente così come è certo che la regina Elisabetta sia molto molto golosa di gin e tutti i giorni beva gin questa è storia vabbè uno certo 18 non lo può beve cosa ha 100 anni quanti anni ha la regina Elisabetta la regina Elisabetta 95 95 eh sì io ho visto la storia su Netflix è bellissima The Crown è bellissima bella ma il champagne comunque è un terroir che è unico cioè per quale lo champagne perché loro hanno un'escursione termica incredibile cioè di notte arriva tipo a 0 gradi di giorno a 30 ed è quella la forza loro che non riescono a copiarare poi mi piacerebbe mi piacerà perché lo farai che tu venga anche a raccontare ehm alcune cose del cibo perché le ostiche i percedes poi una sera facciamo venire Mazzara Salvatore deve venire eh Salvatore sì Salvatore viene qua c'è un tonno che ti butta a terra c'è un tonno che ti butta a terra devi venire perché di ogni cosa quello che vi dicevo a inizio puntata allora io non voglio fare una pubblicità classica mandando lo spottino la cosa che non mi interessa a me piace andare a vedere cosa c'è dietro per esempio adesso stiamo parlando del re dello champagne e dietro a lui c'è una storia non è che pensate solo che io Davide l'ho conosciuto a stemio io conosco Davide a stemio cioè diceva a me che ero un'ubriacona perché bevevo un bicchier di vino a pranzo e una cena secondo lui ero un'ubriacona ciao diciamo che ho preservato il fisico almeno all'inizio degli anni inizio da bere 35 anni no 35 35 anni bevevi una cosa che bevevi la caipirine quando l'ho conosciuto io beveva solo acqua mangiava filetto senza sale però fisicato ragazzi e però ero bello fisicato si ma non ridevi mai cosa no? andavi a letta le 9 da sera neanche la coda la vaccina andiamo a Roma ospiti in un programma io e mia mamma lui viene con noi andiamo da mio patacca no eravamo no eravamo da quello a Trastello la coda la vaccina aspetta come si chiama quello dei nostri amici mamma vabbè adesso mi viene ve lo dico dove si mangia da Dio io ordino la coda lei non mi ricorda o la trippa di tutto un filetto senza sale ma dico almeno stasera più stronzo di te lei che beve il caffè doppio a pranzo cosa mangi? un caffè doppio e vabbè e dico ma almeno stasera mangi? no non esiste acqua? non mangia lei però è centola tenuta no è stata bravissima è stata bravissima è a carattere lei anche Fabri le ha detto intanto da Fabri è imparata a fare i picci tu non lo sai cosa sono i picci abbiamo imparato a fare i picci abbiamo imparato beh no allora diciamo che da ognuno c'è qualcosa da imparare sempre da Fabrizio c'è un mondo da te c'è un mondo ognuno nel suo c'è 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 da imparare coerenza sì la determinazione nel lavoro che è tanta roba precisione puntualità allora in tutti questi anni lui è rimasto a casa malato perché stava diventando cieco raccontala questo no no si è andato all'ospedale perché era cieco lui ha lavorato fino alla fine ma adesso com'è ha migliorato adesso è in cura sta bene sì sì adesso è bene la lievete non guarisce non lo sapevo ti ricordo di buon morca miseria lui andò in ospedale a fine servizio c'era ancora il pover Antonio che era cieco quasi e lì l'han tenuto quindi io non dico che voi dovete arrivare a questo perché però insomma c'è gente che si mette in malattia perché deve andare a pescare ecco quindi questo magari anche no vero PD? che gnotto quindi? la sala di Mauro va in palestra tu si vedi si chiama Antonella la sala di Mauro Antonella va in palestra comunque lei lei quando ascolta Natan era pita ascolta gli ho scritto aspetta mi aspetta mi ha mandato via voleva però aveva la sesta pappa ah già è vero le proteine io non sgarra niente anche voi ne l'hai ho detto ma un po' di bresaola tutto pesato 50 grammi di riso e 28 grammi di uovo andavo a mangiare e dico scusa fai pito 28 grammi no dico io ma insomma più o meno era quello ha detto che però lui è colpa di quello di Biancolate lo stavo per dire che il suo mentore è quello Biancolate capito una bestia si l'ho vista madonna mia voglio andare l'ho vista allenarsi se voglio allenarsi e cosa fa da Biancolate lavora questo lavora però poi lavora ma è dietro al banco si 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 capucci tutto ma dai si si 200 si porca beh è nata 120 di panca 10 colpi sono tanti ma io sai quando vedo Fabri che si allena a casa si non spinge così Fabri ma no ma però lui c'è un figlio asciutto diverso devi avere determinazione anche a farlo da solo comunque con la gente fuori che ti aspetta lui blocca tutto e si allena prego un cazzo a lui è determinazione anche quella ho mangiato la torta hai visto il collegamento con New York? no bello hai fatto? certo io ho visto Seba poi ho visto l'altro che ha il ristorante di Bianca Noi si la pizzerina comunque adesso spingiamo se vi a fare la zona pedonale no lì dobbiamo farci e ce la facciamo sì sì pedonale ma va ma non si può vedere una via così ma l'altro giorno guarda sono rimasta perché sono andata con te un giorno e il giorno dopo con lei e siamo andati lì a mangiare un tosto ma sai quanti stranieri a ora di pranzo? non lo so perché lì intorno ci sono tutti i bnb lì in via Edolo c'è quell'albergo cioè sono nate sono andate sono andate c'era di Cilentano a me in altre parti tutto il mondo tutto il mondo tu pensa che quando vi racconto questo che fa ridere anche se è tragico ma fa ridere quando tu mi scrivevi in carcere e arrivavano le lettere Davide la Cerenza via Gluc vabbè non dico il numero le agenti mi dicevano se vabbè poteva inventarla anche meglio che cosa no perché pensavano che non esistesse via Gluc ma via Gluc è una canzone no dico guardi che via Gluc esiste io ci abito ma non dire cagate ma veramente per molta gente cioè non esiste nella realtà è una canzone e invece no esiste allora prenderemo pedonare col verde quello vorrei così quello vorrei guardi scherzi sai che non ci si passa col ferie non ci passa ma anche io con la mia non passo la ragione schiavo di toccare io sento i sensori dappertutto e non fare una multa ma incredibile stasera quindi a te l'hanno fatta portare via ma non c'è nessuno c'è la sola mia macchina vabbè ma non la mettere più ha inchiamato sai cosa farei io come le biciclette no io prenderei una una ballilla la metti i cartoni non leggiamo una ballilla stz st trovaci una ballilla quelle del tempo del passo la più piccola che trovi una ballilla verde militare e prendi quella la mettiamo lì oppure una topolino un'ape 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 dai tu arrivi la guida io dietro e la mettiamo lì cena pesante no pesante no il posto è pesante vai ma lui dov'è in questo e dov'è questo posto guardiamo sì ma non il menù eh facciamo intervistare guarda si tranquilla che stanno bene guarda ma quindi con che macchina siete venuti abbiamo l'ultima ora dai sarà meglio se vuoi andare vai non è che non è che devi stare vai tranquillo se vuoi andare chiudiamo noi porta domenedì prossimo vengo a parlare di shambha alle 22 alle 22 bene gelato ah mi ha finito anche il salone basta tu vai via per quello frego un cazzo ti hai finito il salone basta ciao piti grazie togli il microfono a shine grazie shine ci vediamo domani vieni qua che facciamo l'ultima ora cattiva gnocolo dove ah ok eh va bene hai visto tutti i falli di gigetto là davanti al che spara glielo ho messi là perché lui spara e è cattivo capito bello non lo vogliono no glielo ho detto no non lo vogliono grazie orso che mi fa gli auguri grazie orso di chi ciao piti ciao shine a domani ciao ciao alessia ciao dov'è boh ma no ha tutto lì la borsa è lì quella è la sì ma è in macchina visto la tua zucca dov'è piti la zucca no io la tengo lì che porta fortuna farla davvero Davide non sono capace ma no ma porta fortuna lasciala lì che dura tutto l'anno che poi diventa una carrozza arriva il principe il topolino e tutto non abbiamo buone speranze ma Davide ma ne hai portato un quintale lo porteremo a casa Max lo tiriamo dentro eh Max comunque sono i numeri uno dai ultima ora in diretta ragazzi adesso dobbiamo toccare un argomento hashtag siamo tutte un po' brook dai su che ci svegliamo un po' io posso andare a fare una pipì che non sono ancora voi siete andate tutte io no come no no che schifo beh schifo chi è? Anto Anto? sì hai ragione prego allora adesso facciamo ci accomodiamo in salotto siamo tutte un po' brook se noi ci accomodiamo di là no ma devono venire sui ragazzi ci vorrebbe un caffè eh un caffè lo facciamo un caffettino facciamolo perché dopo andiamo anche a fare colazione noi andiamo vado a fare il caffè allora tu vuoi fare il caffè io vado a fare una pipì e tu intratieni Gnocola sei in grado? spero ma c'è il microfono tu ah ma io lo so non sono mica Davide che non ha capito io lo so lascialo fare che è stato oh dio oh dio allora ah 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 guarda 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 l'argomento siamo tutti un po' brook dunque posso darti un suggerimento? prego vero? racconta cosa provavi cosa hai provato quando hai capito che è ricornuta come tutte noi oh mio dio tutte noi oh mio dio io sono stata cornuta tutta la vita praticamente arrivo a cosa ho provato ragazzi dirvi cosa ho provato credo che insomma tutte voi abbiate provato la stessa cosa no? anche perché ero molto giovane lo provassi adesso non me ne fregherebbe proprio ma sai allora quando si è così ragazze giovani sposine eh insomma posso raccontarvi una cosa ad esempio una delle tante volte perché il padre di Stefania è stato uno dei putanieri più grandi che io possa aver immaginato di conoscere e niente me ne fate di tutti i colori però voglio raccontarvi questa prima delle corna allora dovete sapere che sai a quei tempi non ero più giovanissima avevo avevo 37 anni circa e per tenermelo buono per prendere meno botte di quelle che in realtà mi dava quotidianamente avevamo il conto in banca congiunto cioè io potevo prendere ma prendevo i miei e lui poteva prendere prendevo sempre i miei un giorno mi chiama il direttore della banca e mi dice signora sono arrivati gli assegni degli assegni allora io dico vabbè li paghi e lui mi risponde con che cosa in che senso dico io con che cosa dice ho capito è meglio è meglio che lei venga qua allora vado e quando arrivo là mi presenta il conto vuoto c'erano le vecchie lire ovviamente un miliardo e 600 milioni un miliardo e 600 milioni io non ricordo altro ricordo solo che non ricordo nemmeno questo ma evidentemente sono caduta per terra so che quando mi sono ripresa ero in negozio perché mi avevano portato qualcuno della banca mi ha portato e mi sentivo tutta strana sono andata in bagno mi sono guardato allo specchio avevo il collo grosso così e gli occhi fuori dalla testa ma veramente fuori dalla testa da quel momento la tiroide ha avuto una reazione tale che ipertiroidismo e dimagrivo mezzo chilo al giorno ero diventata 37 chili quindi mia figlia mi ha portato ovunque mi ha portato anche in Svizzera da professori di qua di là niente tremavo come una foglia sempre nonostante questo continuavo a andare a rete a fare i programmi come solito e raccontando tutto perché in pratica il mio grande successo credo sia stato questo di dire sempre al mio pubblico tutta la mia vita quindi raccontai anche questo ovviamente e poi sai dopo aver passato tanti medici la mia tiroide diceva operata così comunque sia io ero anche disposta a operarla intanto che una mia cliente del negozio mi disse guarda il signore che io ho avuto anch'io il suo problema però ho conosciuto un medico che quando l'ho conosciuto io mi disse la signora era appena laureato però bravissimo e mi ha guarita sai ne avevo provati tanti dico vado provo anche questo Serra tiroide era scritto così nella mia agenda ti ricordi Stefania Serra tiroide cioè lui si chiamava dottor Serra io per identificarlo nella mia agenda telefonica avevo scritto Serra tiroide bene vado mi fa fare gli esami e tutto e poi mi diede una pillolina che dopo due tre settimanine cominciai a stare molto meglio bene sono guarita completamente ci ho messo del tempo però sono guarita quella è una delle tante cose poi un'altra volta faccio seguire Nobile Raimondo e mi dicono che lui aveva lui abitava abitava vicino ad Ancona e aveva a Porto Recanati ed aveva una bellissima villa al che io dico una villa una villa Raimondo Nobile non la può avere perché non c'è una lira e vabbè allora chiamo lo zio di lui che mi voleva molto bene e conosceva il nipote bene le sue malefatte eccetera e dico mi accompagneresti andiamo a vedere se è vero lui mi accompagna arriviamo là e suoniamo e esse è un maggiordomo tutto e dice i signori Nobile sono appena usciti lui non solo aveva l'amante si era fatto pure la villa col maggiordomo spaventoso ma di queste cose qua ve ne potrei raccontare a milioni ragazzi che dire per la serie siamo tutti un po' Brooke siamo tutti un po' Brooke solo che Brooke si è sposata il padre del marito no Brooke è la numero uno Brooke è la numero uno io se rinasco io voglio nascere allora Dio a me deve darmi o un fallo come quello là che ha fatto Gigetto e allora lì non ce n'è per nessuno o mi deve far nascere Brooke due possibilità vi do la terza non c'è perché se io rinasco Brooke io li trombo tutti tutti mamma mia ragazzi e li mando a fanculo tutti sarebbe come se io fossi Brooke sì sarebbe come se io andassi a letto con tuo marito Al con Al con Davide con tutti gli occhi certo ma poi fai anche dei salti all'indietro perché a me di Brooke fai impastire quello no lascia lì Anto sei lì pensiamo mani dai allora a me fa impastire questo di Brooke che lei fa dei voli cioè dice allora mi son fatta questo nel 2000 beh come sarà nel 2020 vado a vedere vado a vedere che avrà imparato delle tecniche nuove no quindi torno dai e quindi va lì e poi torna ma aspetta quando mi facevo questo ma chi c'era anche ah c'era quello lì dai andiamo anche lì andiamo a vedere è o no è o no è o no ma secondo me è lei che insegna eh lì la maestra e lei e lei ha questa lacrimina una lacrima sul viso è ingrassata molto adesso questa è la verità è ingrassata a me per esempio è ingrassata è invecchiata la guerra tra Brooke e Taylor io ho sempre ti fatto Brooke no no non c'è storia bella era lei bella ma Taylor era no ma non era trombina no ah no no era 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 povera cioè la Brooke è una allora la classe di Brooke dove sta lei tromba come un riccio ma sembra sempre lei è sempre il giusto lei sembra vergine cioè tu la conosci scusa hai mai avuto tu un rapporto perché è vergine lei c'è la lacrimina piange si commuove può darsi che sei andata dal chirurgo per far rifare la vagina lei piace così a quest'ora si può dire sì a quest'ora siamo liberi vedete perché io voglio fare no a quest'ora forse i bambini si stanno alzando dove vanno a scuola tu chi vieni al finch la mattina chi vieni chi bastardazza all'invaletto vado a scuola comunque ragazzi io credo che dai che dire Brooke è la numero uno non ce n'è dai non ce n'è non ce n'è a lavorarsi tutti gli uomini della famiglia è tanta roba ma porca troia non se ne scappa a me secondo me lavorare che non sia vedi lei non vuol capire i meriti di Brooke e continua a dire una cosa schifosa lei è un mito lei è un mito ma voi lo fareste quello che fa lei lo farebbero tutti ma nessuno lo dice tranne la nobile ma tu lo faresti se avessi una famiglia così ci sono tutti buoni ma io non beh a voi dire beh chi è che ha un cognato buonazzo un genero strafigo riproponibile hai capito hai capito tu immagina io sposata con Al Pacino che è fratello di Michele Morrone poi arriva Matthew McCuna che è il mio cognato hai bevuto tu? no 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 ti sto facendo un esempio ma nella mia realtà non è così se io avessi una famiglia come Brooke per carità allora quello lì come si chiama quello muscoloso chi è? il padre di due ragazzi quello è il meglio di tutti quello è un pezzo di maschio da paura soprattutto il portafoglio mi piace di quello no 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 è Bonato anche lui portafoglio buono eh ragazzi buono buono no no Spencer eh no no Spencer ma Spencer sì allora Spencer è un buonass da paura è meglio lui dei figli i figli sono due sbagliati poi c'è Ridge poi c'era il fratello di Ridge che era come si chiama? Thor 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 anche quello ma Thor è morto è morto? è morto? è morto? credo di sì quindi non si tromba più è morto faccia l'anima su poi c'era il marito della figlia altro buonazzo da paura oh il marito della figlia cioè non è che arriva Alvaro Vitale allora dice vabbè concludo la catena basta non trovo più no lì ogni volta che entra uno è più figo di quello di prima e allora chiamano a festa tu dici tu lo faresti beh ma per Dio cioè ma due non lo fanno mai cioè adesso io vi chiamo all'ordine ditemi se voi avete una famiglia così arrivo anch'io e basta ma secondo me a quest'ora il giorno di Fabrizio diciamo che si vuole speriamo ma noi no ma una volta che portiamo qua Fabrizio non se ne fa più rimane qua sì dobbiamo cacciarlo no 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 ma lo portiamo ascolta capisci lo faresti allora Conte si arrivi avete visto voi il film Brutti, Sporchi e Cattivi ah hai visto tu uno dei film più belli io continuo a fare un elenco dei film Antonella vedo non ho il tempo di mettermi lì allora Brutti, Sporchi e Cattivi c'era ma Fede straordinario in quel film brava 40 anni quel film tutto toccato con un occhio verzo le cicatrici una gamba di legno una cosa che viveva nelle baracopoli si fa l'amante la porta a casa e la tromma nello stesso letto della moglie sì di fianco a tutti i figli sì ma anche con la moglie lì con la moglie certo ho detto nello stesso letto della moglie con la moglie e poi tenevano la vecchia per la pensione la vecchia con la pensione che per me poi era il vecchio era il nonno non era la nonna era il nonno che si fingeva nonna perché forse la nonna era morta aveva la pensione più alta non lo so che la portavano in carostino quella è un film bellissimo se nasci in una famiglia così è chiaro che la catena si spezza se la famiglia è quella di Brooke mamma mia trombare è d'obbligo capisci? comunque argomento delle cinque e un quarto hai capito? dai crediamo ha tu detto Alvaro Vitali faceva presto a finire comunque guarda che io Alvaro Vitali l'ho conosciuta a Roma ti trombava e no ma se trombava io non lo so vabbè avrà trombato io so che ha una bella moglie lo so e so che l'avevo visto io che era la moglie di Otelma avevo visto io sì sì anche quella era una bella moglie una bella donna ma Otelma era più io vorrei scoprire ogni tanto chi è Otelma era donna più lui di me quindi cioè vabbè comunque comunque Alvaro Vitali si trombavano io se trombavano lo so io so che avevo uno stuoio di donne dietro vabbè ve lo giuro eh ve lo giuro che è la verità eh faccia l'attore e poi la sposa vabbè capirai faccia l'attore anch'io sono un'attrice allora mica c'ho la fila dietro non possiamo dire che sia tu perché non guardi mi occhio ah ma oggi a me mi volevano trombare tutti non la facciamo più guardare volevano trombare anche se ma me la guarda del corpo esatto carta canta non sono ubriaca perché non ho bevuto niente carta canta ecco me l'andorme quindi ah no niente sì che voglio dire lui senti io una volta gli ho chiesto a lui sì lei divaga non vuole arrivare a Brooke no no ci arrivo e una volta gli ho detto chi è quello lì lo bevo io me no 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 lo bevo io allora dico quindi senti dico ma tu come fai a piacere e lui e lui mi rispose è la simpatia che vince eh vabbè sì perché quando trombi racconti le barzellette capito vabbè può anche essere comunque Beffi ascolta tornando a noi tu divaghi tu hai mai tradito? come tutti ah ah meno male ma non in famiglia ritrovo mia madre non in famiglia no vabbè perché i familiari unire a presa Spencer oh se nella famiglia ci fosse Spencer e a Thorne devo dire che Thorne era tono Thorne di prima perché dopo avevano cambiato l'attore odio sempre andava sempre bene lì non è con brutto no però per me Spencer ma da quanti anni c'è 30 e passa no di più credo no te lo dico 30 sta morendo il telefono ma vediamo se io ricordo io dico più io avevo un palegname a Ozzaro delle Miglia che mi faceva delle cose delle non so doveva venire mi disse guardi vengo dopo beautiful in che senso io non esco di casa prima che non sia finito beautiful ed erano tanti anni fa a me prendeva ha preso per momenti magari uno o due anni poi dopo parla dal 23 marzo 87 87 97 2007 2017 35 34 ma mi sbaglio in tutto il mondo tutto il mondo tutto il mondo in America più avanti me lo ricordavo proprio 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 35 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno beh ascoltate se tu vai in Calabria a Villapiana a quell'ora lì c'è silenzio e tombale tu puoi andare a casa benissimo bello perché non lo fanno qua a Milano così possiamo ma magari poi c'era Dynasty c'era Dallas quelli non li ho mai visti Siranda de Pedra addirittura Marina guarda già lì c'è l'est c'è l'est guarda che anche Reteafa c'era le novelle sì ma non mi ricordo quale dico la verità mi ricordo una di quelle attrici quelle lì brasiliane eh quelle un po' le ho viste comunque come Beautiful vabbè quella è il top che resista da così tanti anni sono troppi per me bella è stata terra nostra bella hai vista quella? l'hanno fatta ieri recenti negli ultimi anni no bella e c'era un paesino che avrei sempre voluto civita di bagnoreto sì ma adesso l'hanno fatta in Lazio guarda l'hanno fatta non so cosa una cosa protetta una roba ah sì? sì ma l'hanno fatto vedere su Rai 3 perché io Rai 3 la amo da morire io Rai 3 per me è a parte a chi l'ha visto che mi mette un po' l'ansia no quello base è un programma che mi fa no chi l'ha visto io non lo guardo assolutamente perché noi non lo vogliamo vedere no no non lo vogliamo vedere allora vede sono l'endevi lasciatelo stare e poi c'è anche la Leusini che ha ripreso ma sì? e che l'ho intravista quando ha fatto una pubblicità l'altro giorno e ho pensato oh signore ma quanti anni ha a volte ritornano a volte ritornano ma oh sembra una che è uscita dalla tomba veramente ma forse voglio vedere voglio vedere no 102 ma va 102 102 Leusini ci stanno tutti mamma veramente anche l'ho vista eh dai però è del 34 ah 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 87 ah però ah ah insomma allora allora ci sta non pretendiamo dai ci sta sono 198 e ha ancora voglia di di tutto di far del male ha ancora voglia lei non è una che ha voglia diciamo ha vogliosa vedi dalla faccia ce l'ha il mago del me è sposato è la prima cosa che sento non la sapete sì veramente ma la moglie con chi è sposato delle sue nove personalità si danno del voi sì che sono in più di uno vi ricordate il programma sentieri sì come beautiful non aveva mai una fine sentieri sì mi ricordo il mago telma era una moglie era una donna un cinghunt dell'ostra sì sì bello pure quello ti ricordi quando andammo a cena con lui col mago telma sì allora eravamo a tavola comincia a togliersi tutti gli anelli ci ha messo un venti minuti e li ha messi tutti sul tavolo sì molto raffinato no però era simpatico sì era simpatico davo del voglio a se stesso sì sì lui parlava incantesimo anche quello c'era incantesimo sì a nome così adesso sono sicuramente tantissime amiche comunque telma è un personaggio dai sì è un personaggio è un personaggio poi di persone adesso lo vogliono rimettere dentro al dentro al GF lui è vero? sì sì perché va da lì senti una cosa ma noi questa sera non eravamo partiti con l'intenzione di criticare un po' il grande fratello poi cosa è capitata? la storia ma chi buttavo l'occhio vedevo una roba vedevo un lardume lì non so ma quanta gente c'è dentro? vediamo su Bici i miei amici di Bici cosa mettono? ma quanta gente c'è? voi che sapete tu ancora troppa ancora troppa no ne mettono dentro un'ira di Dio Adriana Volpe il duro attacco di Alex Belli nella notte come si è permessa cose gravi ha leso la mia dignità vi ricordate di Manglo del grande fratello ora è fidanzata col padre di Sofico De Goni ma che c'è detto? ah il padre di Sofico ah sì è un bello uomo l'hai visto? un bello uomo? un bello uomo l'ho visto l'ho visto mai a volte la Sofì di persone è molto più bella che non è telegenica per niente sì di persone davvero bella quella ragazza molto ma non è cosa sua la televisione la televisione non le dà giustizia non capisce è bella lo stesso posso dire invece che quella soleil comincia a non sopportarla più ah lo sai io non lo guardo mai no proprio no no cioè allora lei è stupita ed è l'unica comunque che sta muovendo un po' vabbè è l'unica cattiva eh sì no sono in due cattive lei e la è chi? chi c'è? la cantante c'è un nano? no la cantante chi era il nano? mi spaurai chi vede non lo so chi è? chi hai visto io? quello là quella della giunella ha detto che è il suo fidanzato è il mio fidanzato è alto come me? è certo chi è? eh infatti me lo chiedo anch'io 5 e 24 ma questa è la cantante la ricerelle tu dici la ricerelle c'ho cattiva ma io sono sincera non guardandolo mai ma anch'io non guardo niente ma io guardo bici ah ho capito i miei amici bici che snelliscono ci danno le notizie giuste bici sveltisce pulisce esatto e filtra e mette l'essenziale perché guarda tutta quella roba lì cioè qui sempre alla buca no lì fanno un bel lavoro di snellimento quella ragazza lì l'hanno davvero rovinata vedete l'importanza delle labbra? l'hanno rovinata per tutta la vita è così carina sono importanti le labbra è carina? no è carina come atteggiamento prego è carina come atteggiamento io non la sto guardando bene hai presente quella malattia come si chiama quella malattia che prende le piante? quella bestia che la succhia tutta la pianta mamma mia non lo so chi è la bestia che succhia tutta la pianta? avevano anche gli ulivi nostri la cocidiglia la cocidiglia per me è una cocidiglia non puoi stare attaccata a uno così ha detto che non ti vuole ma fatti in là dai ma che sensibile ma schiava di cazzo ma no ma no ma basta gli ha detto anche signorini schiava di cazzo cioè lui non gliel'ha detto così io gli avevo detto così schiava di cazzo se un uomo ti dice non ti voglio no no certo beh ma che cazzo dai su no ma no ma no basta basta parliamo di Bruc Bruc è la mia mitra quando parla si esprime dicendo noi mi fa troppo ridere non nominategli mai la Cipriani che nell'isola dei famosi aveva ferito nuove persone con un'unica spinta chi? Cipriani è diventata enorme mamma mia com'è ingrassata c'è un culo ma non è tutto pancia culo ma poi si mette questi pantaloncini cioè poi li metti in evidenza si piace si piace lei ha detto io ho speso tanto a fare mie stetette quindi le voglio far vedere ecco che si è un po' malata in questo senso boh oggi vedevo mentre parlavamo un pezzo di doccia porca toga ah che faceva la doccia lei per la misera questo spettacolo madonna mia anche no beh se non altro mentre di uomini allora no dentro lì no no non c'è niente di buono non c'è Spencer no non c'è perché niente di uomini ma non solo esteticamente ma scusa ma Morrone cosa sta facendo eh esatto non possiamo ingaggiarlo sono un po' grande fratello non possiamo ingaggiarlo Morrone aspetta hashtag noi creiamo di tenere porca boia non ha messo più niente guarda guarda la schia guarda la spalla di Morrone guarda ma questo che cosa ha fatto nella vita 365 giorni cioè voi avete presente Yammi Michele Morrone dammi vedere hashtag no capito il film l'ho visto è brutto è un attore non è brutto no un bel uomo porca boia guarda che pezzo di Susanello sapete voi cos'è un Susanello a Bologna guarda io Susanello è un manzo e poi si dice sui Sandro suisi sono mille modi di dire che uno è buono io sono vecchia quindi non faccio testo sei vecchia vecchia sì però fossi giovane e rimanessimo al mondo io e il belli ah no anch'io no no guarda neanche fossimo soli al mondo io credo che un uomo più non si può morire dentro non si può lentamente oserei dire arrivo a dire una cosa disegnosa sì arrivo a dire davvero di Alex Belli sicuro e l'hai suggerito anche tu no no sono d'accordo davvero uno peggio di Pupo no però io se dovessi scegliere e fossi giovane Pupo e forse ti fa divertire di Pupo gelato al cioccolato io ce l'ho io ce l'ho rubato tu gelato al cioccolato come scappava quando lo voleva ammenare ah in Rai sì comunque no è vero cioè Alex Belli non si può dire che sia brutto perché no no è peggio di un brutto però però non c'è è peggio di uno brutto eh ma è quello che ho detto prima io sì sì no per cioè non riesco neanche a vederlo bello per quanto beh Andrea Andrea adesso è quest'ora chi è il portafoglino cosa fa adesso? oh auguri Steffi grazie Andrea no ma io vi amo ragazzi alle 5.29 auguri Steffi un bacione grazie che bello passa a me eh ma vedi che il bello della vita è questa guarda le suole proprio no guarda Gnoccol oddio anche le mie non sono molto belle faile vedere Gnoccol sai che ci sono degli ometti che ti pagano per le carte e le suole ma di che vado a fangu io se si mette lì buono buono e se non distrugga e le fa dei buoni e ci fa esatto e lega la sua io gliela do la gamba gliela lugi la mia anche pulita guarda qua poi ci sono quelli che si fanno ficcare i tacchi nei coglioni e quelli si lo proprio e beh ragazzi è così la prossima settimana parleremo lungamente attenzione perché attenzione perché guardate che quest'ora si alzano i bambini noi siamo scurrilli siamo molto scurrilli il problema è che la puntata viene salvata su youtube e la vedo ogni giorno però se voi la guardate di giorno è perché siete dei maiali perché la puntata è notturna è notturna la campanella alle 5 esatto se la guardate di giorno non ho problemi capite quindi ci sono uomini per esempio io guardo guarda l'ognocolo dai cioè ma chissà chissà la madre com'era di questo uomo ha avuto una vita ha avuto una vita ha avuto una vita ha avuto una vita o no ha avuto una vita difficilissima lui si è anche prostituito lui non l'ha raccontato lui mamma come ti parla in Sicilia faceva il puttano e qua doveva venire a farlo era in cura di lupi doveva farlo in Sicilia ha fatto il puttano oh mamma mia hai capito il mio anno perché proprio qua è venuto a fare sto lavoro lui è di origine meridionale poi non so per quale poi avevo letto tutto poi mi sono dimenticata comunque da giovane io non dovresti dimenticarti sai che la vita è una giostra ma perché sai io non sono gelosa del passato lui ha trombato le vecchie ha fatto esperienza e quindi adesso mi senti la sua moglie e questo sei contenta io nella mia vita capisci a 57 anni oggi vorrei ancora imparare delle cose non è che voglio dove le insegnare assolutamente perché dobbiamo alla mia età succede la confezione ragazzi mettetevi le cuffie una cosa strana che i ragazzini cercano tutti la donna navigata perché vogliono imparare ma me non ho preso a voi io non voglio insegnare niente a nessuno no che palle domarò io vorrei ancora imparare delle cose capite ecco perché mi piace Al perché Al è del 37 38 si ha fatto anche il putano qualcosa capisci ne ha di cosa da insegnare questo qua poi se parla con quella voce lì dai io potrei tradirlo con Michele Morrone l'ho tradito però quello anche lui mi ha perdonato perché ha detto se io sono piccolo se è andata con uno tanto alto va bene così è giusto hai migliorato in questo senso però adesso se poi le dovesse scoprire tutte allora poi mi lascerete non è che dividere tutto sennò che moglie sei altro segreto non dite tutto non raccontate mai tutto no 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 vero Betty i ragazzi ci sono tormentati secondo me non ritiranno il numero ragazzi ci siete un giorno voglio Max ah vedi mamma mia no comunque la voce la sua importanza senti Massimo ma i tuoi figli di solito che ora si alzano ma non alle 5 e mezza ah che ne so io sono in preda ai demoni cioè a 5 e mezza no perché ah ok siamo salvi ancora dai abbiamo 25 minutini eh comunque ma il telefono ma il caffè che fine fa il caffè era su era l'argomento sarà esploso ma esploso esploso la macchina del caffè ragazzi ma a me sembrava di sentire un odore di caffè scoppiata io penso dicevo eppure mi sembra anch'io sentivo profumo mi sembra di sentire un profumo di caffè possibile mai sì sentivo odore di caffè diciamo e la gigia dorme gnocco poverino dai comunque è stata bella questa la vita è una cosa meravigliosa e allora divertiamoci allora innanzitutto vorrei dirvi che domani risponderò a tutti i whatsapp a tutti allora ti call the fair eh lo so però vabbè è mio compleanno domani non lavoro cazzeggio domani sera vado a cena con pidi i pidi da quanto tempo è che non andiamo a cena i pidi anni quindi dovrei ma io e lui non non avere grande soddisfazione perché con me non ordina tutto il menù ma un piatto mamma mia un piatto è esploso anto è scoppiata si è fusa si è spegnata ah si spegne da sola sì sì ah ma è moderna è moderna lei e allora visto che mancano più o meno 20 minuti volevo dire che allora la cosa di via gluca andrà avanti fino a che non realizzeremo quello fin tanto che via gluca non sarà sprofondata no no fin tanto che via gluca non sarà degno di questo nome lunedì prossimo sarà ospite qua con noi una persona che ha un'associazione che si occupa di eh persone con handicap si occupa di persone che non hanno la casa si occupa anche della riportare la bellezza in via gluca quindi verrà qua e parleremo di tante cose questa settimana realizzeremo altri video ehm adesso devo decidere sicuramente andremo in via San Martini dove sotto il tunnel ci sono due tre tunnel dove hanno messo cosa assurda allora c'è il tunnel hanno messo la striscia blu per le macchine quindi pieno di macchine passano i pedoni e ci dormono i senza tetto i quali senza tetto poveretti giustamente hanno freddo e accendono i fuochi quindi è una polveriera a cielo aperto e bisogna intervenire senti ma ti ricordi cosa ti ho detto io ieri quando ho visto la bellissima struttura che ha fatto Davide Davanti sì l'ultima tutto detto è meglio non dirlo è successo sì quando te l'ha detto prima quindi ragazzi una cosa io mi meraviglio molto di questa città Milano io mi meraviglio famosa in tutto il mondo Milano la ricchezza quella tutta sta gente che dorme per terra non mi piace non è che non mi piace la gente voglio dire che non lo dovrebbero permettere non lo dovrebbero permettere il problema è che loro fanno entrare tutti perché vogliono fare cosa è successo orco cane l'avevi messo dove lo metterebbe Brooke esatto hai capito allora il problema è che loro li fanno entrare per fare lo spirito comunista e poi quando sono qua se ne sbattono i coglioni questa è la realtà questo è quindi quindi per questi sei mesi avremo tante cose di cui occuparci tante ah ma sai non è che le cose ce ne sono sempre ci sono sempre cose delle quali noi ci facciamo un caffettino voi vi farete tra poco il caffettino di quello della sveglia grazie Anzo grazie mille e noi ci facciamo quello per andare a letto capite ha letto noi adesso andiamo a casa diamo due o tre bacetti a Gigetto vero Beppe adesso andiamo qua e poi hai creato comunque mi ha colpito quello che ha detto Filippo Ferretti prima quale quando penso che in Italia c'è tanta cattiveria è vero hai capito è vero Antonella che dimentica il caffè anche lunedì prossimo avremo un piacere di imparare nuove ricette da Lavana yes sì sì vedi Beppe è fenomenale sì ma infatti è la ricetta che hanno fatto tutti durante il lockdown e che continuano a fare molto facile poi eh ma sono quelle le cose che piacciono non quelle che vi fanno fare le capriole il doppio salto carpiato mettetevi gli sci nelle orecchie buttatevi dalla finestra fate quattro capovol cioè e quindi capite quindi lunedì prossimo boh cosa farai boh le polpette le polpette le polpette che faccio io è vero senza aglio io non uso aglio facciamo quelle io non in casa mia non entra l'aglio no c'è scritto proprio non ci ha vietato i cani perché quelli possono entrare tutti ci ha vietato l'aglio sì sì l'aglio non entra neanche camuffato da altro io lo vedo anzi oggi l'ho sgridata la volevo picchiare perché ha cotto i peperoni in casa al fondo e c'era una puzza porca d'altra parte tuo padre piacciono a me non me ne frega poverino in terrazza in terrazza vado in terrazza li cuoce lui li mangia lì con la sciata e il cappello io odio le puzze nel mangiare eh lo so ma oggi sono delle cose ma tanto tu quando mai vieni a casa a mangiare oggi e allora e c'era puzza di peperoni dopo un anno esatto vieni a casa una volta e ti lamenti stai fuori buffone di chi è casa quella mia casa mia di chi no ma vaffanculo buonasera benvenute buongiorno buongiorno buonanotte questa è la vera vanna marcia è lei è lei la buffone io sì è lei la buffa buffone e come buffone io cuocio quello che mi pare se mancherebbe altro ma le polpettine come il numido sì col pomodoro no wow ma anche perché a friggere qui come si fa sì polpette anche al sugo sarebbe il top certo al sugo al sugo a me piacciono anche in bianco dovremmo fare anche il bus paghi allora visto che facciamo dobbiamo fare il bus paghi faremo no come no faremo fare a mano ma non vedi che abbiamo un'unica piazza ma ne prendiamo altre tre che problema c'è ne prendiamo altre tre ne vuoi tre ma va là che se mangi otto o dieci polpette sono riuscire dopo se mangia dieci polpette per diciotto giorni lei beve due caffè guarda che Davide le mangia eh otto o dieci polpette è tre antonelle certo piacevano di ridere quando si è alzato che si vedeva grande che comunque è vero la televisione fa due taglie quindi a me come mi fa enorme 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 devo di barriere io devo ancora capire perché era così appannato Fabrizio ma cosa ha combinato ma cosa avremmo combinato ma in che senso io ero tutto appannato ma gli avevo visto il vapore ma perché lui si dà tutto quel profumo aveva la tisana lo zenzero lì ah che faceva il vapore ma dopo beve al vino beve al vino con la tisana ma no lui si dà profumo in crema che se ti abbraccia ti dura anche se fai la doccia ti dura 25 giorni sai che l'ultima volta che sono andata che mi ha abbracciato aveva sto profumo buono ma non lo togli più tanto mi avevi impegnato oh ti rimane nei vestiti anche una persona che si cura si 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 no no quello è un piacere si si certo comunque una persona profumata sta bene va profumata ben vestita pulita eh si devo dire che l'amore gli fa bene dai l'ho visto più dolce si ma a me su di essere innamorato si a me ma l'avevamo capito però stavolta purtroppo si 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 è italiana lei ma ragazzi è venuta che ingentro può darsi che non ci ha fatto caso ho visto tante donne con lui che io quella ragazza mora riccia una bella ragazza giovane si forse ha visto un po' di pulizia intorno a sé si fa piacere anche perché sai uomini così che ne hanno viste di tutti i colori di tutte le forme è difficile non è neanche facile dopo fidarsi no non è facile e Brooke in questo insegna capisci infatti lei non vuol mica fidarsi ma ma gli frega gente lei quando uno vede che si allontana lei lo rivuola a tutti i costi adesso ha rivoluto quel poraccio che sono 35 anni che lo tira lo molla lo tira lo molla lo tira no rigge ancora si sono risposati adesso non ci credo da tre giorni si sono risposati però guarda che anche lui l'America è bella anche per questo perché tu ti sposi dopo due giorni di divorzi entro settimana se tu fossi nata lì avresti fatto in un attimo se pensi che io per divorziare da suo padre ho impiegato nove anni senza aspettare tutti questi anni avrei avuto i tempi più corti capito come avreste fatto presto tutte e due sta ascoltando e Brooke è la numero uno dai allora lei cosa fa lei stava per sposare risposare ma per la cinquecentesima volta sì e però cosa ha fatto ha detto a Spence e Ridge ascoltava io ti amerò per sempre amerò solo te sei l'uomo della mia vita lui ascoltava il cornuto e cosa ha fatto ha detto no io sposo quell'altra e quindi l'altra cosa ha fatto perché mi guardi tu non lo segui no l'altra è uguale non è che cosa cosa ha fatto per farsi sposare l'ha fatto ubriacare ha fatto finta che lui divorziasse gli ha fatto ha detto che si erano sposati tanto lì basta si invece non era vero quindi lui cosa ha fatto è dovuto andare da Brooke a dirgli che aveva sposato un'altra ma Brooke aveva già detto è tutto cos'è capisci basta ma sta sbogna quanto gli è durata perché lui non si ricordava niente ho capito ma prima devi ascoltare credere queste cose poi devi andare a raccontare lui è rimasto molto male quando ha sentito Brooke che ha detto a Spencer io ti amerò per sempre però ha detto dopo lei sono parole dure lei cosa ha detto a Ridge no Marie amore mio quella parte di me amerà lui ma io amo te cioè lei riesce sempre a venire lei riesce con un volatile di uno a far volare la quaglia di quell'altro e la quaglia si sente la quaglia si sente un condore spicca dei voli che va lontano poi adesso è per io come è che gli uccelli volano porca troia delle migrazioni con delle delle sassate sulla mia macchina che io la lavo tutti i giorni è sempre un defecatoio ma aspetta bene che partano tutti per lavare la macchina aspetta tutti faccio meno male che piove almeno si lava comunque Brooke dai numero uno inutile ragazzi noi possiamo applicarci ma non saremo mai no all'altezza senti ma invece il collegamento con l'albania non è andato bene non si sentiva niente come mai peccato perché con new york si sentiva bene benissimo riuscivate a parlare lì probabilmente bisognava aspettare che finisse prima uno di parlare ma non era quello perché vedevo che lui rispondeva dopo no ma non sentivamo niente certi pezzi non si sentiva proprio perché forse sembrava che lui aspettasse o ascoltasse quello che tu stavi ancora dicendo cosa aspettava loca che volava comunque alza è stato stupendo basta io ho avuto dei figli pazzeschi stasera ermà dall'albania filippo da new york fabrizio da milano solo figli allora beh ma non lo so donne non invitiamo no porta sfiga le donne a meno che non sia Brooke se arriva Brooke e ci spiega la sua filosofia se ci spiega la sua filosofia io le do tutte le mie otto ore e mi siedo e l'ascolto con una carta e penna ognuno a raccontare questa ma io però sai la invidio un po' perché comunque lei è una bella parentela gnocca se io penso allo zio Mario a quello che hanno riservato per te io non ti dico i miei perché perché è capisci questa invidia uno dice vabbè lei è nata Brooke e tu sei nata Stefania comunque se io nascevo Stefania a casa Logan trombavo come un ricciognocco con la differenza se Brooke nasceva a casa mia e si faccia la mia parentela era una grande cioè te lo dico arriva come ero uno a me riusciva però con l'impegno mamma mia mamma mia Vincenzo Mario noi non li conosciamo i vostri parecchi però dalle vostre risate è maleducazione si è maleducata a ridere così beh è un dato di fatto a questa ora magari si ride ascolta a me datemi uno Spencer però fate un'opera buona no? e beh Spencer è un gran bonazzo quell'altra la moglie di Spencer l'hanno fatta a peste l'hanno operata i reni il cuore gli ha smontato la giugolare gli ha tolto una tetta gli ha messo un piede di uno di fiagli deletto di fianco non ha un segno non ha una cicatrice non ha non ha fatto una fisioterapia è uscita dall'ospedale sana è il bello dell'america anche questo voglio andare in america la smonti metti il piede di Big G parte comunque la foto di Nathan mi è rimasta impressa sembrava Giorgio Lombardi Giorgio guarda che anche Giorgetto adesso è palestrato sì anzi Giorgio vieni un giorno ma non ci credo Giorgio allora Giorgio Giorgetto di quando lo conoscevamo noi oggi Nathan no è possibile e l'hai vista la foto di Nathan e come ha fatto poi ci ha spiegato che in sette anni come ha fatto poi ma veramente come ha fatto pesa tutto questo porca miseria però è una missione ma ci vuole anche il tempo ragazzi il tempo è la sua vita ma capi ma sta sempre da pensare tutto beh il bambino anche mamma fa delle pappe stupende al bambino che io andrei a mangiare a casa sua tutti i giorni sì sì fa tutte delle creme di cicci e il bambino e il bambino le mangia così piccolo stupendo quello piccolo ma finché sono piccoli piccolini tra poco prenderai pesi e comincia sì sì già balla davanti alla televisione l'ho visto che balla hanno un solo figlio loro due sì Nathan ha un bimbo più grande bellissimo anche quello che l'abbiamo visto sì che avrà dieci anni sì otto anni molto educato sì bello bravo comunque a me piace far da mangiare ma non ho mai pesato neanche la bascola vabbè ma tu non fai l'allenamento no voglio provare le immagini ti faccio allenare da Nathan ma no mi spagno per carità adesso sta allenando sì mi fa morire da ridere con la guendalina con gli occhiali sai che mi sfugge non so chi è lei era la moglie di Interrante ah ecco ecco chi è ragazzi abbiamo sette davvero mamma mia scommetto che ti dispiace a me sì a me 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 io non vedo l'ora che sia lunedì prossimo beh questo è un altro discorso però no perché mi piace troppo stare con la mia ma lunedì viene anche la come si chiama la Laura sì lunedì viene la Laura viene un sexy shop parliamo di sesso parliamo di tante cose ah poi non tante cose cioè uccelli vivi che vibrano quelli quelli senza piume però senti sai che una volta tanti anni fa tanto siamo che ci ascolta tanti anni fa torniamo da da Parigi all'aeroporto aprono la valigia una signora una signora io ero giovane ma lei aveva già la mia età allora e salta fuori un cazzo finito comincia a vibrare 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 così lei con l'oncuranza l'ha preso arrotolate il velo l'ha rimesso e beh ha ragione una bruc come se niente fosse con mia mamma avevamo provato i peperoni ripieni i carciofi erano ricette ottime grazie invite Lenuar ti prego già invitata ragazzi Lenuar Ferruzzi verrà ospite certo assolutamente sì dovremo parlare di tante cose noi con l'impasto delle polpette facciamo il polpettone e all'interno mettiamo la mortadella a fette e la mozzarella poi si chiude il polpettone e lo friggiamo oppure lo cuciniamo con vino bianco bravo sedano e carote bravo capisci ma questa risposta ti arriva adesso? adesso stanno scrivendo certo ah ma siete svegli? su Instagram è di me ah allora Fabrizio dice ma che ci guarda quest'ora? ma cosa credevi? qualcuno c'è? hai credo hai credo tu Riccardo prepara un busto cavallo della Rai è noto l'ho già detto ma io voglio il busto di Stefania Nobile fuori da GoTV magari mettimi anche intero perché le gambe sono il mio forte quindi mettimi anche le gambe magari salti i piedi con 39 a me mette solo il ciuffo e il naso no te niente perché le 100 ore eri contraria ero contraria ecco e quindi? ero molto contraria oggi lo rifaresti? sì ma noi lo rifaremo nel 2022 io voglio fare 150 ma tu sei pari però stavolta chiamo i notai gli ispettori a cavallo anche la SOVR chiamo tutti tutti? tutti il medico fisso qui perché quando io svengo lui mi deve rincuorare qui c'è uno spirito chi è? non siamo mai riusciti a capire chi è in questo fischio che parte ah comunque siamo in chiusura ricordiamoci per di chiudere tutto quattro minuti allora ragazzi noi non dormiamo mai aspettiamo fino alla fine bravi grazie io questi pochissimi minuti voglio vai concludi tu concludere ringraziando tutti voi ringraziando Massimo e Johnny che sono in regia con una pazienza che non vi dico anche perché ragazzi anche dietro le quinte c'è chi lavora sodo e sono loro due quindi grazie mille e poi che dire adesso vado a casa da mio marito e vado un po' a letto con lui così non fare bruci no non faccio bruci perché non lo faccio da più di trent'anni comunque in merito a Johnny e Max vorrei dire che noi siamo in onda in diretta da otto ore con due ragazzi che hanno fatto tutto tutto audio, video, luci cambiando le luci cambiando le postazioni mi sembra che sia andato tutto benissimo tutto benissimo mi spiace dire questo ma in certe strutture dove ci sono 700 persone dietro a un programma non stupiamoci se poi viene chiuso il programma perché hanno dei costi improponibili con una resa inutile e quindi impariamo a fare la televisione come si faceva una volta con il niente e dando il massimo risalto a chi è davanti alle telecamere grazie a due persone bravissime che stanno dietro il di più non serve a un cazzo non serve a niente solo che i bravi li abbiamo noi sceneggiatori parolieri scrittori tecnici audio tecnico video tecnico suono del naso tecnico impronta del piede the cool parole 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 a questo punto allora due minuti ragazzi noi vi ringraziamo è stato bellissimo per noi come sempre io non vedo l'ora che sia lunedì per chi non avesse visto la puntata ditelo domani in ufficio adesso oggi che su youtube rimane quindi potrete riguardarla quando vorrete stefania nobile tv youtube grazie vi voglio bene tanto buonanotte buona giornata veramente ciao auguri a me buonanotte auguri 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 a me ciao 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 da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa Nini Virta Transport SPA la professionalità la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale trasportiamo via terra mare e aereo arrivando sempre puntuali a destinazione siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici perché noi al nostro paese vogliamo bene Nini Virta un servizio chiave in mano logistica distribuzione e operazioni doganali in sede magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni Nini Virta.it la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre a presto a presto a presto